Vi posso portare il saluto che consigliano già gli ingegneri, che consigliano già gli architetti, pianificatori, paese e gesti, insomma, sono capi, non mi ricordo mai, sono già troppo lungo, saluto l'amico Moparito, il dottor Torino e l'amico Bofa, nonostante il tempo sono qui. Allora, il motivo della giornata di oggi è quello di fare un buon punto su un tema spinosissimo che non solo dal mio punto di vista, ma da molti punti di vista non è assolutamente conosciuto nella sua realtà. Noi viviamo di immagini create a parte o anche non a parte, comunque di una diffusione di fake news o quantomeno di informazioni distorte, più o meno orientate, per cui l'opinione pubblica ha un'idea del ponte di Messina. Io poi ho allargato il tiro sostanzialmente in scorte, il tema oggi è il ponte di Messina, è come se fosse un'opera inutile, un'opera che va nel deserto, non si finirà mai, perché insomma di gestirla, perché non funziona, perché tecnicamente ha un sacco di buchi, perché non regge economicamente, tutto falso. E allora, per i pochi che ci sono, poi lo metteremo in rete, insomma, noi abbiamo, credo, anche da tecnici a questo punto, più che da politici, il dovere di far capire la realtà delle cose. La realtà deve essere veicolata, secondo me, non solo dal sud, con tutte le sue comunicazioni, poi tra l'altro, perché molto dipende anche dal fatto che in mesi e mesi non sono stati proprio così entusiasti del ponte, diciamoselo francamente. Non voglio fare commenti, ma se si scegliono un sindaco di un certo tipo, vuol dire che tutto sommato la situazione è quella che è. Non voglio fare commenti negativi, ma insomma mi è difficile evitarlo. Quindi oggi vorremmo fare un po' il punto della situazione, abbiamo evitato i soggetti principali che tecnicamente si sono occupati di questa cosa. Poi vi presenterò uno ad uno, però insomma, in linea di massima, e di qua abbiamo l'ex direttore generale della Stetica di Messina, Giuseppe Tienmenghi, che è quello che ha vissuto, sofferto, e ancora oggi, credo, un amaro in buca che difficilmente riesce a mandare giù, perché si era arrivati al punto di dire, io l'ho detto, il ponte non lo ferma nessuno, incautamente. Sono riusciti a fermare un ponte per legge, creando un problema enorme anche allo Stato, con una, secondo me, anche insipienza dal punto di vista normativo, non si chiede di dire, quello un po' di ingegneria forense, me la sono masticata, insomma, chiudere un contratto internazionale per legge, non stanno in cielo o in terra, però insomma ci sono inventati i gallegli bizantini di cui siamo abilissimi. Poi abbiamo il professor Giulio Baglio, che oltre a essere stato il direttore per il Tecnico di Milano con un po' di anni, sette, no? Sei, sei, otto, ma è già perché lui si è stato a cavallo l'ordinario tecnica delle costruzioni, allievo di personaggi importanti, finzi, denunso, diamo in dirlo, tecnica delle costruzioni in Italia per le costruzioni metalliche, ha due o tre nomi, Baglio, Marzolani, e lui ha presiduto il comitato scientifico, poi c'è ancora membro del teatro scientifico, membri, ci sono Stilinzi, che è stato già qui qualche mese fa, abbiamo Claudio Borri, abbiamo Giovanni Solari, e poi abbiamo anche una presenza che è molto importante, perché è una presenza di cui si parla poco, invece sarebbe stata probabilmente una delle cose principali che avrebbe dovuto essere messo in campo. il professor Zucchetti della Bocconi ha fatto un studio in cui dimostrava inequivocabilmente la redditività del ponte. E questa cosa, secondo me, fa male, perché sapere che ci sono anche gli indicatori economici che smontano queste fake news, a me sembra ignorarli, non so se dire malafede, non so, l'Italia è fatta così. Ciò nonostante, io sono personalmente un ottimista, inveterato, e quindi spero che la cosa funzioni. Ben arrivata la notizia che dalla Regione Sicilia c'è stato un tavolo di lavoro, Bolderio, Gentile, RFI, Armagnia, se sapete che c'è stata questa confluenza, cui hanno affermato un'opera prioritaria, nel senso sono accorti un po' tardi, nel frattempo è costato qualche centinaio di migliaia, di milioni di euro, ahimè. e poi abbiamo, io, insomma, l'ho voluto, Filippo Romeo, che è un giovane che arriverà più tardi, è il Mediterraneo della Seta, lì si occupa di geopolitica, e poi abbiamo tre dei nostri letterati. Io amo molto l'ibridazione tra la tecnica e la parte umanistica, e quindi nel pomeriggio avremo questa ulteriore presenza, poi presenterò velocemente tre numeri monografici della mia rivista che faccio da 29 anni, democraticamente decido io, si chiama Galileo, non è un caso, è online, i 231, 232, 233 che ho fatto in ultimi due mesi sono in grandissima prevalenza dedicati ai temi del Mediterraneo. Poi abbiamo una tavola rotonda, in cui però un paio di soggetti non ci saranno, quindi farò un piccolo spostamento, Ruggero Ricò che rappresenta qui è nel Green Power, faremo fare un interventino nel primo pomeriggio, così poi è libero di andare alle 4 e mezza a Ronaldo che torna a Milano. Ci sarà Wanda Ferro, scusate, Wanda Ternau, Wanda Ternau è consigliere di amministrazione di FS, verrà nel primo pomeriggio, quindi potrà dirci qualcosa da questo punto di vista. Dovrebbe venire Nicola Carnovale che è il segretario della fondazione Craxi, sapete che Bettino Craxi a suo tempo si è occupato molto significativamente del tema del Mediterraneo, molte delle sue idee, adesso sono tornato, indipendentemente dal giudizio politico ci interessa qui dell'informazione. Vorrebbe venire un giovane ricercatore di Naro Lungo, mentre invece non ci saranno Nicola Monda e Flavio Tavanelli. Quindi vediamo alla fine se la tavola rotonda riduciamo un flash in modo da chiudere alle 17.30 un momentino prima, contando sull'evitare sbordamenti. Ecco, mi pare di avere nominato tutti, consentitemi qua di piccolo sbarione da tal età. Io farei passare una decina di slide di come il problema ai ponti di Messina, almeno dal mio punto di vista, può essere inquadrato in un atteggiamento geopolitico di rilevanza strategica mondiale. Ci si può anche mettere a ridere, però credo che si siano vissi a ridere quando hanno tentato e poi ci sono riusciti di fare Suez, Panama e tra fuori del Fresciusso, la cosiddetta ingegneria visionaria fa parte della storia. Io credo che se non siamo capaci di sognare non abbiamo futuro, noi viviamo, ahimè, in un mondo il cui orizzonte temporale è quello delle prossime elezioni. Siccome l'Italia e le elezioni se ne fanno ad ogni piezo spinto, non riusciamo mai a decollare su situazioni strategiche. Ecco, allora, visto che non riusciamo a muovere l'Italia, facciamo muovere i soggetti esterni che alla fine possono avere gli interessi sull'Italia. Vi dirò anche di più che abbiamo messo in piedi un concorso internazionale su una delle isole artificiali che parte da Tunisi, dall'Ordine degli Ingegneri della Tunisia e dalle due scuole di ingegneria di architettura di Tunisi, destinato ai giovani studenti, ai giovani laureati di ingegneria di architettura su tre temi. Uno è la parte compositiva architettonica, la destinazione di una di queste isole artificiali, la seconda l'ingegneria civile, la costruzione, la gestione, la terza, forse la più importante, la sostenibilità energetica, quindi tutto il mondo è ruota attorno alle rinnovabili. Ecco il motivo per cui in particolare il professor Borri illustrerà una tematica particolare che è quella dell'ingegneria eolica e il dottor Ricò racconterà un pochino anche le esperienze che sta facendo in giro per il mondo. È un portatore, diciamo, di interessi positivi che l'Italia vedrà anche in paura, ormai i suoi interessi tra l'Africa e l'Oriente, quindi ci racconterà un pochino che cosa significa questa cosa in dieci minuti e un quarto d'ora. Ecco, chi è che me lo carica? Io sono rete, non sono capace. Non ho detto che io dovrei portare i saluti come rettore, ma sono diventato rettore per caso, ho pensato in pensione due anni e mezzo fa. Io ho pensato di fare il reato pensionato in corsa di Duned, l'altro è Galileo, passavo a passare pomeriggio. Un giorno mi chiama Polidori e mi dice noi vogliamo un'università più moderna, poi grazie al nostro futuro vorremmo chiedere se è disponibile fare da mentore. Io ci ho pensato un po' perché le telematiche per noi universitari classici, diciamo, sono sempre state un po' come nordicaria. Dopodiché mi sono invece, non lo faccio io dopo, sono capace di farlo. Il passaggio ci arrivo, quello ci arrivo, grazie. Quindi ho accettato, devo dire, sono quasi due anni, sono anche molto contento perché abbiamo orientato in una espansione e noi abbiamo questa sede, come vedete, molti di voi vengono, ormai sono quasi affezionati a queste ricorrenze, le facciamo due o tre all'anno, poi abbiamo dodici sedi in Italia, l'ultima non abbiamo inaugurata un mese fa con Pippo Baudo, perché fa audience, semplicemente, per la pubblicità e l'anima e il commercio, c'era qualcuno. E poi ne abbiamo una in Cairo, dove va la stima la prossima, una in Nigeria e una Shanghai. È una realtà molto, molto effervescente, più di quanto a Paia. Abbiamo 11.000 studenti con 30% del 10% e con una significativa presenza di neo iscrizioni, questo è importante. Abbiamo dei giovani che si stanno iscrivendo, valutando che la telematica non è quella spezia di oro che si dice in giro, che regala esami, noi bocciamo. Altre telematiche invece so che prima di bocciare credo che si inventino tutto. Per cui sono oggi orgoglioso di essere lettore di questa università. Allora, cerco di far passare velocemente, ecco, questa tra l'altro è la copertina di Galileo 231 che presenta la prima di giovedere, che l'idea è quella di immaginare, ovviamente in modo futuribile, che è una ferrovia, quindi un convoglio, parla da Cape Town, finisca Messina, tutto il sud dell'Italia, Tunisia e Italia, Grecia, Albania e Italia, quindi un ponte dalla Puglia e l'Albania, poi Stambul e la via della Seta fino a Pechino. Ovviamente è un'operazione futuribile, ma è un sogno, vedremo, diceva qualcuno. Però insomma, se uno fa qualche ragionamento non è proprio così impossibile, anche perché i numeri in gioco in gran parte sono già stanziati. Circa 3 mila miliardi di dollari, credo, è l'ordine di grandezza su cui stanno valutando di fare l'infrastruttura in Africa. 3-4 mila miliardi sono gli investimenti previsti dai cinesi per la via della Seta, quindi il pacchetto, questo ponte che vi faccio vedere fa, perché finché noi chiacchieriamo succedono queste cose, perché poi Giovanni Mollica, ecco, non l'ho citato perché è così importante che non ha bisogno di essere citato. Giovanni, tu ti devi... è vero che mi tiri i pomodori dopo per questo? Del resto lui è un'altra... io non so se è lui vittima mia o io vittima sua, perché sabato, domenica, lunedì andiamo a Napoli e poi sono poi molto spesso a Messina. Questo red banana fa vedere che noi siamo proprio tagliati fuori. Poi i numeri non ci entro, ma insomma, pensare che l'80% del traffico nel Mediterraneo vada a finire a Rotterdam, mi pare che... quindi, secondo la mia idea, anche semplicemente intercettare una quota a parte degli incrementi di traffico sarebbe fondamentale. I tre passaggi intercontinentali sono questi qua, Gibilterra ormai credo siano orientali che il tunnel, hanno tentato di fare anche il ponte, ma credo che per il problema dello ship collision non so come siano messi perché tra Marocco e Spagna non è che vanno molto d'accordo. Suez, sarebbe la logica, c'è anche un bellissimo ponte di Tramai Cantaro, un ponte stralato, quindi prima l'hanno tagliato, poi l'hanno unito, a un certo momento c'è Israele, credo che da lì proprio non si passi, a meno di che non fare un bel tunnel e passarlo completamente, quindi è chiaro che si potrebbe anche scendere dove c'è l'Arabia Saudita bellissima nel deserto, io ero a Dubai la settimana scorsa, cosa sono riusciti a fare? Io solo lo so, non c'era niente, deserto, un clima che fa schifo mare che non c'è neanche i pesci, quindi comunque so. Questo è il pacchetto dell'Africa, quando io l'ho visto alla Nigerian Society of Engineers dove sono stato tre anni fa, ho detto ma vedete c'è il corridoio di sinistra centrale va ad Algeria e quello di destra va a Tripoli perché non pensare all'uscita successiva, io poi immagino che il Mediterraneo abbia una bionicocità, non siamo noi che andiamo a colonizzare, tra poco sarà un loro colonizzano noi perché che se ne dica, le masse nella storia hanno fatto delle migrazioni, la moraglia cinese non è servita praticamente a nulla, quindi chi li ferma? Non sta morendo? Vabbè qui ha fatto un po' di show. È chiaro che a questo punto il tema di Messina diventa fondamentale, quindi se noi cambiamo scala e guardiamo un posizionamento geopolitico, Messina è il tassello, che manca, fa un'operazione molto più importante, quindi è per questo che io spingo da questo punto di vista, quindi insomma la Sicilia è questa, ci sto facendo anche una tesi di dottorato su questo tema, ho fatto alcune tesi di laurea, questa è il Capubon, però l'ho tutta la Tunisia naturalmente con me e in parte l'Italia, l'ho raccontato anche a Leopolda, se cliccate Enzo, si vede, ho trovato un po' di roba, ho avuto anche un'intervista del TG3 Mediterraneo o poco meno di meno, però sono partito da qualcosa di serio, quindi non è una buttata, così è il solito chiamavate di Enzo, lo so che lo dicono, è previsto, non è un problema, comunque l'Enea nel 2005 ha presentato questo studio, eccolo qua, un bel tunnel ferroviario, 145 km, questi sono i flussi presi un giorno, un anno fa con Massimo Barascio, abbiamo cliccato, le quattro isole artificiali, quindi sono 2000 navi al mese che passano e questo è il profilo previsto dall'Enea e in sopra ho detto, ho visto che ci sono queste quattro isole artificiali, perché non passare sopra e ho iniziato dicendo prendo il ponte di Messina, lo moltiplico per 50 volte, così, l'ho presentato a Porto tre anni fa, non si sono messi a ridere, forse perché non hanno capito cosa stavo dicendo, in realtà ero io che ridevo perché il ponte di Messina è già da solo, insomma è preso con le tinze, benissimo, poi ce lo raccontano gli amici, poi alla fine ragionando, nella parte centrale ci sono meno 270, il problema era la ship collision, quindi facciamo il tunnel, prima un tunnel, dopo il tunnel sei sommerso, funziona, non funziona, non è il momento per occuparci di questo, la tecnica basta vedere i quattrini, risolve praticamente tutto, qui abbiamo anche fatto un'operazione intermedia, le viali pendici sono quelle che sono, le isole artificiali, poi andiamo a vederle, le hanno già realizzate queste cose, allora sono, andiamo avanti, quello qua, altre cose vado, e però insomma mi sono divertito un pochino a inventarmi che cosa poteva essere, pensavo di mettere in 500 metri un elemento rigido e di fare i conci prefabricati a partire da questa cosa qui, avrete capito che sono un po' strano come soggetto, allora da questo occhio le saudite e le iraniane sono delle più belle donne del mondo, si tengono nascoste però quando vedi questi occhi ti puoi ben immaginare cosa c'è dietro, a parte che quando montano in aereo si svestono completamente, non le riconosci più, comunque questo ci ha ispirato questa specie di ellisse dalla quale poi è nata la sezione avare, non c'è solo il vento, sono anche le onde, vero Giovanni? Va beh, era solo per dire che mi sono anche divertito a fare ingegnere qualche volta, è qui, l'ho chiamato afro-meritana, non lo so, lo faremo, non lo faremo, io non lo vedrò, però va la pena quanto meno di sognare, anche perché poi c'è di mezzo l'UNESCO, mi sono divertito a raccogliere tutte le testimonianze UNESCO lungo queste vie e siccome penso che l'unificazione sia quella della cultura, andando avanti ne vedete, i trulli, il ponte, per chi sta a Palermo, c'è un ponte, naturalmente in secca, ma chissà quanti ce ne sono, i trulli, i morasteri, Istanbul, magica, la muraglia cinese, arrivo, è un flash, perché poi c'è la gente che si diverte, questo è un gattano pesce, tutte cose impossibili, però insomma un po' di sogni ci vogliono, questo è il ponte, non ve lo racconto che sarà qualcuno che racconterà ancora meglio, il colore, la luce, siamo occupati di questo, la mia follia è di rendere abitati i piloni con questa immagine, non si capisce bene se siamo all'albo o al tramonto, se siamo dalla parte della Sicilia o dalla parte della Calabria, forse è evoluto, non lo so, aveva fatto quattro punti, si poteva fare anche a ponte finito, con poco, si poteva un poco questo relativo. Ecco, mi sono fermato qua, perché c'è questo sfondo della moschiera di sulle mani magnifico, che io conosco molto bene, i quattro minaretti e il ponte allice di cui mi sono occupato, aveva un po' di interferenza, abbiamo risolto un problema. Faccio la battuta finale che è questa, l'architetto di quella moschea ha vissuto 99 anni nel 500, mi sono illuso che gli architetti vivano più degli ingegneri e siccome nel 2009 mi hanno dato una laurea non ho riscaso in architettura, credo che mi abbiano aggiunto almeno una trentina d'anni, dopodiché mi è venuto in mente che ho collaudato il ponte di Calatrava a Venezia, lì ho perso dieci anni della mia vita, ho collaudato l'incollaudabile, comunque alla fine, insomma, se si sogna si può anche andare avanti. Bene, tutto qua, è inguadrato il tema, non tratteremo di questo ovviamente, però mi sembrava importante aprire un pochino la prospettiva e forse far capire alla nostra classe politica che guardare a sud rappresenta il futuro, guardare a nord significa continuare ad andare con il cappello in mano, prendere sberle, tipo quella dell'Ema, perché questi copiano le nostre capacità di inventarci le cose, di taroccare, però siccome lo fanno loro va sempre bene, se lo facciamo noi ci speffeggiano, guardo Alberto perché queste cose le conosce piuttosto bene. Ok, credo complessivamente di non avere troppo sbordato, vi ringrazio per questa prima pazienza che aveva l'idea, adesso andiamo sulle cose serie, prego. Allora, due parole su Giovanni Mollica, io Giovanni Mollica l'ho conosciuto perché l'amico Fiammenghi mi ha detto, visto che ti piace promuovere Ponte di Messina, c'è un personaggio che da un po' di anni è immerso, che è messinese, ingegnere, non ho ancora capito cosa faccia e quindi va molto bene, devo dire che è eclettico, è un uomo di multiforme ingegno come si suol dire. Abbiamo cominciato questo percorso, vi ho incontrato per la strada amico in Ferrera, voi compare, insomma c'è un gruppo di affezionati del Ponte, lui vive e subisce, so che ogni tanto c'è qualche piccolo scambio dialettico con Fiammenghi per varie questioni, certo che quando è arrivata la notizia ferrale che il Ponte di Messina l'avevano suicidato, mi è venuto in mente che la mattina hanno tolto i due miliardi di euro al Ponte di Messina, il pomeriggio gli hanno dato il fregius, non un euro del Ponte di Messina è rimasto al sud perché poi prima questo non c'è ben altro, facciamo questo, facciamo questo, facciamo questo, non si fa niente, non si fa il Ponte, non si fa niente. Qualcuno mi pare che abbia detto che il Ponte di Messina avrà un punto, un punto e mezzo di PIL, probabilmente se avessimo iniziato il Ponte quattro anni fa o cinque anni fa, oggi il sud sarebbe in una condizione meno disastrosa e meno disastrata. Con ciò mi fermo, lascio le parole a Giovanni che lunedì sera si è incastrato a Ronda di Napoli Nord con Fiemenchi a raccontare un po' ai napoletani, insomma il regno delle tue Sicilie, io sono un fotone del regno delle tre Sicilie, lo ho detto, prenderei il Veneto, lo attaccherei al sud, ma insomma con questo. Prego Giovanni, ho parlato anche troppo. Grazie Enzo, grazie della doppia qualità di carissimo amico e di rettore dell'università che ci ospita e che veramente mi fa enorme piacere, mi dà l'enorme piacere di parlare di una cosa a cui tengo molto, davanti a un tale uditorio di livello sicuramente molto più elevato. Io inizierei a dire che nei prossimi 10-15 anni, a mio parere, i meccanismi che regolano il funzionamento dell'economia mondiale potrebbero cambiare radicalmente. Non sarà la prima volta e nemmeno l'ultima. Ed ieri la quarta rivoluzione industriale, quella chiamata 4.0, ed è dell'altro ieri, la prepotente irruzione della logistica dei trasporti nella determinazione del prezzo finale dei beni. A proposito di quest'ultima, oggi nessuno mette più in dubbio che ai fattori di produzione classici, capitale, materie prime e lavoro, si sia aggiunta la logistica dei trasporti, cioè quel servizio che a poco prezzo porta fin sotto casa ciò che è stato prodotto lontano, spesso molto molto lontano. Con Buonapace di Marx, un milione di cellulari e di televisori di ultima generazione, ammassati negli enormi magazzini di una fabbrica dell'estremo riente, valgono molto meno di un milione di pezzi identici capillarmente distribuiti nei negozi di tutto il mondo. Nell'era del mercato globale, trasporto e distribuzione creano valore aggiunto, perché consentono di tramutare rapidamente i beni prodotti in valuta corrente, al prezzo più alto possibile. Come cambierebbe la geografia del mondo se i luoghi di produzione e gli stessi itinerari di trasporto, invece di essere determinati solo dalla volontà di minimizzare costi e tempi e massimizzare i profitti fossero stabiliti anche in base a ragioni sociali? Non è una concezione totalmente nuova. Grandi infrastrutture, come la ferrovia che si inoltrava nelle steppe siberiane e quella che attraversava l'America e caratterizzò la conquista dell'Ouest, servirono a integrare parti diverse dello stesso paese, ma tra le finalità non c'era certo la diffusione del benessere generale. Fu invece la ricerca del massimo profitto, individuale, a decretare la decadenza di Samarcanda, ricca fino al XIV secolo perché vi passavano le piste dell'antica via della Seta tra Cina ed Europa. Samarcanda precipitò nella povertà quando le carovaniere trovarono percorsi più convenienti nella totale indifferenza dei mercanti e dei conduttori di carovani, che miravano solo al guadagno immediato. Oggi si affaccia sulla scena del mondo una corrente culturale guidata da due grandi, due grandissimi paesi, che si propone di trasformare lo sviluppo in una categoria sovraeconomica, esterna all'economia. Non voglio esaltare i significati etici che sono tutti da dimostrare, ma è innegabile che i due grandi progetti di cui parleremo tra poco mirano a cambiare una parte rilevante della giornalità, geografia economica del pianeta e contengono qualcosa di nuovo che vale la pena approfondire, pure alla luce di un più che doveroso realismo. Il primo è del 2013 ed è stato annunciato dal presidente cinese Xi Jinping, battezzato Belt and Road Initiative. Coinvolgerà il 70% della popolazione mondiale, il 55% del PIL e quasi il 75% delle riserve energetiche. Il secondo, annunciato l'anno successivo dal presidenza delle ferrovie della federazione russa Vladimir Yakunin, ha preso il nome di Rajvitie, che significa sviluppo in russo. Partiamo da quest'ultimo. Si incardina su una rete ferroviaria a alta velocità per i passeggeri e alta capacità per le merci lunga 40.000 km. Una rete che vuole essere la spina dorsale di un gigantesco sistema infrastrutturale, dotato di 120.000 km di autostrade. Una rete difficile anche da immaginare se si pensa che l'autostrada del Sole da Milano a Siracusa è lunga meno di 1.500 km. Questo è lungo 120.000 km. Oltre a binarie d'asfalto, Rajvitie intende realizzare 23.000 km di linee di telecomunicazione, linee elettriche, linee cablate, condotte per il petrolio e il gas e canalizzazione delle acque, creando un sistema interannesso tra le principali città europee e le immense regioni della federazione russa. Yakunin respinge l'idea di un tubo, per pompare i prodotti di consumo a basso prezzo dalla Cina all'Europa attraverso l'Asia. Immagina invece, e questo è il nocciolo del trasporto, un'area di industrializzazione larga 2-300 km che attraversa l'Eurasia e irradia sviluppo nei territori circostanti, marginalizzati, poveri e spesso scarsamente abitati, dando un forte impulso a interi settori della produzione industriale, un anello di collegamenti ferroviari e di fibre ottiche utili a potenziare i sistemi di comunicazione, con terminali in Cina e Giappone e anche sud-est asiatico, fino ad arrivare all'Europa del Nord, Lituania, Polonia, Francia e Spagna, così da allacciarsi alle moderne reche europee. Un segnale di vitalità e di fiducia nel futuro che darà i suoi frutti in 10 o 20 anni, un investimento, quello di Rashidie, di 1.500 miliardi di dollari che vale 12 milioni di posti di lavoro, 12 milioni di nuovi posti di lavoro che nasceranno nei centri urbani delle immense regioni della Siberia, quella Siberia che gli studiosi considerano uno scandalo geologico per l'estraordinaria ricchezza del sottosuolo. Nessuno può sapere se Rashidie avrà successo, dipenderà anche dalla possibilità di mantenere la pace in un mondo tragicamente turbolento, ma è certo che questa volta non si utilizzeranno per i lavori pale e picconi affidati a decine di migliaia di condannati ai lavori forzati come la pennevola della Siberiana, o poveri immigrati cinesi come nel caso della ferrovia che correva verso la California. Questa volta si utilizzeranno grandi macchinari e tecnici specializzati e nelle nuove città si vivrà una vita mai così confortevole a quelle latitudini. È significativo però che l'idealismo panslavoso-rusto si rispetti nel pragmatismo cinese, dando nuova linfa a una nuova interpretazione della società basata sul libero mercato. Si farebbe torto a Xi Jinping, infatti, pensando che Bri abbia solo finalità imperiali. Al forum di Pechino, il potentissimo presidente della Repubblica Popolare ha detto «Vogliamo trasformare un'immensa rete terrestre e marittima in una strada di pace, di prosperità e di sviluppo». Pur senza lasciarci ammaliare dalle sue parole, è innegabile che la Bri è un grandioso tentativo della politica, per una volta con la P maiuscola, di domare quell'animale selvaggio chiamato globalizzazione, reinterpretandola per indirizzarla verso obiettivi che hanno una caratteristica anche sociale. La recente vicenda di Fiocco di Neve ci ha mostrato una Cina schiacciata tra grattacieli e province abbandonate. Ricordate, era stato battezzato Fiocco di Neve, quel bambino di dieci anni, giunto a scuola con i capelli coperti di ghiaccio per aver dovuto percorrere a piedi quattro chilometri a nove gradi sotto il centro. Uno dei milioni di bambini che vivono con nonni in villaggi sperduti, perché i genitori si sono trasferiti in città a lavorare nelle grandi fabbriche, dove l'imperativo è produrre, produrre e ancora produrre, per poi vendere, vendere e ancora vendere. Una situazione abbastanza comune in Cina, al punto di far coniare un nuovo vocabolo, l'ijiao, che significa lasciati indietro. Sono gli orfani sociali dello straordinario sviluppo industriale della Cina che ha portato quasi 300 milioni di contadini a migrare nelle campagne, dalle campagne alle inquinate megalopoli con più di 20 milioni di abitanti. Il miglioramento delle condizioni economiche e la conseguente creazione di nuovi potenziali consumatori diviene così un obiettivo che non è secondario per fare fronte agli accessi di produzione. La risposta del mondo occidentale è stata piuttosto fredda, chiaramente dettata dal timore di Washington e Bruxelles, che l'orso russo voglia accentuare la sua influenza sul paese dell'Europa orientale e il celeste impero si proponga di rinsaldare la sua leadership sull'intero sud-est asiatico e sul continente africano, a spese di Unione Europea e Stati Uniti, nella convinzione tipica di noi occidentali che i cambiamenti del mondo possono verificarsi solo col nostro consenso e invece oggi non è affatto più così. Ragionando in termini macroeconomici, Belt and Road è una strategia di sviluppo che privilegia gli investimenti a lungo termine e guarda alle future generazioni anche a discapito del profitto a breve, che spesso accresce le disuguaglianze. Ma è anche un modo per contenere le tensioni politiche, economiche, culturali e religiose che potrebbero esplodere nell'ex impero di mezzo e nella stessa federazione russa. Brie e Rashmitie si fondano sullo stesso motto. Non c'è sviluppo senza coesione, non c'è coesione senza mobilità, non c'è mobilità senza infrastrutture. Si può generare crescita in diversi modi, ma solo coesione e mobilità sono in grado di assicurare quella stabilità che rende lo sviluppo duraturo e sostenibile. Una lezione che l'Italia non ha mai voluto applicare nei confronti del suo metodo giorno e che non ha nulla di diverso da quello che sostenevano assolutamente inascoltati due grandi meridionalisti come Giustino Fortunato e Francesco De Santis all'inizio del Novecento. Sappiamo bene che i critici dell'economia di mercato si divertiranno a trovare in questi grandi programmi da centinaia di miliardi di dollari vieche finalità di ampliamento del numero dei consumatori generati dall'infernale macchina del capitalismo. E probabilmente c'è qualcosa di vero nella loro critica. Ma nemmeno il più feroce contestatore del libero mercato può negare che un asse trasportivo lungo migliaia di chilometri consente di urbanizzare, rendere produttive e diffondere benessere in intere regioni. Lo dimostra la storia. Ecco che i corridoi di binari e asfalto, di fibre ottiche e di pipeline, di nodi di manutenzione e reggimentazione dei corsi d'acqua, di centri di raccolta delle produzioni agricole, di scuole, opportunamente dislocati nelle desolate regioni della Siberia e dell'Ovest della Cina, possono porre un freno alle tragiche migrazioni di centinaia di milioni di persone verso i grandi centri urbani. Migrazioni imposte dal bisogno, analogo a quelle che ha dato origine alla vicenda di Fiocco di Neve. Migrazioni che oltre a rendere invivibili i grandi centri, i grandi agglomerati urbani, spopolano le campagne e generano drammatiche tensioni sociali. I medi italiani, invece, lo stesso governo non hanno dato peso alle opportunità di natura sociale, insite in raffidi e in bri, concentrandosi esclusivamente su quelle economiche. Così il presidente Gentiloni è andato al forum di Pechino a produrre a G, di fare di Trieste, Venezia e Genova i principali terminali della nuova via della seta marittima. Dimenticandosi ancora una volta che esiste un sud che sconta un ultra secolare crescente divario col resto del paese. Diamo un'occhiata alla carta geografica. La nuova via della seta marittima collega l'estremo oriente con l'Europa, passando per Suez. È evidente che dopo il Pireo gli scali europei meglio posizionati geograficamente sono quelli dell'Italia meridionale. Ma non sono utilizzabili, perché non sono dotati di attrezzature e retroporti che consentano la multimodalità, cioè la possibilità di distribuire le merci in arrivo o in partenza tra strada, aria, ferrovie e nave. La multimodalità è fondamentale. Senza la multimodalità un porto non può crescere. Nel 2010 una grande compagnia cinese ha ottenuto la concessione del porto del Pireo. Subito dopo, il governo cinese ha predisposto un progetto da 3,2 miliardi per collegare in alta velocità alta capacità il Pireo con Belgrado e Budapest, una ferrovia momentaneamente bloccata dall'Unione Europea per presunte violazioni delle norme europee sugli appalti. L'inadeguatezza voluta dei porti del sud ha consentito a Gentiloni di proporre solo Trieste e Genova come competitor del Pireo e dei grandi scali dell'estremo sud della Spagna come Algeciras. In altre parole, il nostro Premier ha voluto riporre ogni speranza di crescita dei porti italiani in un itinerario che costringe i grandi player del trasporto a maggiori costi per 200-300 mila dollari, perché una giornata di navigazione di una grande nave porta container è intorno ai 100 mila dollari e a prolungare la navigazione di tre o quattro giorni. Per dare credibilità alla sua proposta, il nostro primo ministro ha detto che Trieste e Genova hanno una posizione privilegiata al centro del Mediterraneo. Bastava guardare la carta geografica per capire che non è vero. Inoltre, lo scalo friulano subisce la concorrenza delle vicinissime capodistrie e fiume, Coper e Riega, mentre quello ligure si misura niente meno che con Marsiglia. Entrambi poi sono in grado di accogliere solo una piccola parte dei giganteschi flussi mercantili che percorreranno la nuova via della seta. Xi Jinping ragiona in termini di decine di milioni di teo, gentiloni di un paio di milioni al massimo, come voler usare un retino per sardine per pescare balene. In altre parole, chi credete che vincerà la battaglia tra Trieste e un pireo cinese, molto più economico, raggiungibile due giorni prima e unito all'Europa centrale in alta velocità e alta capacità ferroviaria? È ovvia la risposta. quindi la proposta è destinata a naufragare miseramente. Nessuno poi ha detto che per convogliare centinaia di grandi navi di ogni genere in un mare chiuso e dai passi fondali come l'Adriatico, con 139 piattaforme petrolifere è un grosso azzardo dal punto di vista della sicurezza ambientale. Ancora una volta non si vuole capire che non è un caso se la sola Rotterdam, con oltre 450 milioni di tonnellate, movimenta più merci di tutti i porti italiani messi insieme e che i porti spagnoli hanno avuto negli ultimi 12 anni una crescita del 50% contro l'8% di quelli italiani. Ed è questa strategia ottusa, sbagliata che si continua a proporre. Al punto che Algesiras, che partiva da numeri molto inferiori a Genova, con i suoi 100 milioni di tonnellate, movimenta da sola più di Trieste e Genova messi insieme. I numeri sono chiari, eppure si insiste su una strada senza uscita. I lavori della gronda del Certovalico e della Diga Forania di Genova dovrebbero terminare nel 2025, al costo di tre ponti sullo stretto. Siamo assolutamente convinti della loro utilità, ma non possiamo ignorare che Valencia, Barcellona e tanti altri scali mediterranei sono stati adeguati 10 anni fa. Insomma, anche nel settore della portualità e della logistica, invece di precedere i cambiamenti, continuiamo a inseguirli con 10-20 anni di ritardo. Così accade, a dispetto delle dichiarazioni ottimistiche, che l'Italia continua a perdere terreno. Ed è l'Italia a perdere terreno, non solo il Sud. Il Sud perde terreno nei confronti del Nord e tutta l'Italia perde terreno nei confronti di tutti i singoli Stati dell'Unione Europea. Perde terreno anche nella crescita complessiva, confermando il dubbio dell'economista Peter Drucker, che si chiedeva come possano creare il domani i leader incapaci di comprendere gli insuccessi di oggi. Vorrei essere chiaro, non sto affatto contrapponendo Nord e Sud. Dico solo che l'Italia, in quanto nazione, non potrà mai crescere come più degli altri paesi dell'Unione e recuperare il divario accumulato con gli altri senza un vero programma di rilancio del meridione e che per farlo deve cambiare radicalmente la sua strategia e rendere competitivi i porti meridionali, che oggi hanno solo irrilevanti funzioni regionali. Parlavo del cambiamento. Chiediamoci in che direzione vada per capire come competere efficacemente. La nuova via della seta marittima è certamente un'opportunità, un'opportunità che si svilupperà per molti decenni, ma è indispensabile saperla cogliere, anticipando le mosse dei grandi player del trasporto e della logistica. Consorsi di armatori che rivetono costantemente, quasi quotidianamente, le loro strategie e determinano la fortuna o la decadenza di uno scalo in base alla convenienza del momento. Nel 2016 solo una ventina di navi mercantili ha percorso il passaggio a nord-est, dall'estremo oriente a Rotterdam, attraverso il barbaciale artico, e l'ha percorso senza l'aiuto di un rompighiaccio. Però erano navi ice-class, dal noleggio molto costoso, i cui scafi sono progettati per navigare in acqua e ghiacciate. Certo, una ventina sono poche rispetto alle 17.000 che hanno attraversato nello stesso anno il canale di Suez, peraltro anch'esso molto costoso. Però hanno impiegato circa 35 giorni contro i 48 della rotta classica, il che si traduce in un altro sostanzioso risparmio. Attualmente il passaggio è possibile solo nei mesi estivi, ma la temperatura dell'acqua è cresciuta di 4 gradi negli ultimi 50 anni e c'è chi prevede che tra il 2040 e il 2050 la rotta sarà percorribile tutto l'anno, riducendo del 60% gli scambi Cina-Europa attraverso Suez e il 2040 dietro l'angolo, come dietro l'angolo anche il 2050 in questa iniziativa. La conformazione geografica dell'Italia favorisce la creazione di un sistema portuale diffuso che va dalla Sicilia a Trieste a Est e a Savona a Ovest, un sistema che consente vantaggi che sarebbe imperdonabile lasciarsi sfuggire. Un sistema in grado di offrire una varietà di soluzioni che non ha uguali nel Mediterraneo, porti competitivi per chi esce da Suez dopo un viaggio di 5-7 settimane, ma anche e soprattutto per chi viene dall'Africa. C'è infatti un altro motivo che rafforza la convinzione che sia stato un grave errore a dedicare risorse solo ai porti del nord. Il futuro della virtualità italiana è in Africa e Medio Oriente. Il primo tempo della partita è finito. Ora si cambia campo. La porta dove si doveva segnare era a nord, verso Germania, Francia e Olanda, ora è a sud e est, verso Africa e Mar Nero. Ed è molto più ampia di quella di prima, perché tra soli 30 anni 250 milioni di persone guarderanno l'Europa dalla sponda sud del Mediterraneo, nella speranza di commerciare beni e conoscenza, con i rimpettai che si mostreranno più disponibili e facili da raggiungere. Tra Cabo Bon in Tunisia e Mazzara del Vallo c'è circa la stessa distanza che c'è tra Milano e Torino. L'hanno capito milioni di migranti, i costruttori dei gasdotti e i pescatori siciliani, mentre il governo italiano riduce a un quinto gli investimenti pubblici nel meridione rispetto a quelli infatti del Mediterraneo. Pressati dalle lobby politico-economiche Liguri e Flurano-Vente, Gentiloni e Del Rio non si sono resi conto che la battaglia per captare le merci cinesi che partono da Suez è persa e bisogna guardare più avanti. Smetterla di pensare all'Africa come un continente di morti di fame che sperano solo di arrivare del paradiso europeo. In Nigeria c'è già l'alta velocità, che in Sicilia c'è e in Sicilia non è neanche prevista. Il Marocco testa con orgoglio il primo dei TGV francesi che collegherà Tangeri a Casablanca e Marrakesh a 320 km d'ora. Ad l'Algeri si avviene i lavori per la nuova stazione alta velocità. Mentre oggi per Trenitalia e per l'Economist l'Italia è questa. Con il DEF redatto dal Ministro del Rio che annuncia che nel 2022 potrebbero forse essere completati gli studi preliminari per la Salerno-Reggio Calabria e del Ponte sullo Stretto. Quindi nel 2022 si completeranno gli studi preliminari. Nel 2100 l'Africa avrà più abitanti di Cina e India messi insieme. L'economia del continente nero cresce a ritmi del 7-8%. Bisogna essere pronti oggi al mondo che sarà domani. Impedire la crescita degli scali del sud è come giocare una finale di coppa tenendo in panchina Messi e Ronaldo. Accentuando la drammatica frattura esistente nel paese, la mancata realizzazione del ponte sullo Stretto e il paradigma di una strategia perdente che vanifica la speranza di creare un paese coeso e organicamente proteso verso modelli di sviluppo in grado di restituirgli un'identità nel panorama euro-mediterraneo. Un'identità che oggi manca. Far diventare la parte del territorio italiano più ricca di spazi e di mano d'opera, il croceria degli scambi mediterranei rappresenta una formidabile opportunità per l'industria manifatturiera settentrionale che tiene in piedi l'Italia. Ne accorcia notevolmente la supply chain e soprattutto priva i suoi competitor tedeschi del decisivo vantaggio dato dalla vicinanza dei grandi scali del nord dell'orale e ai colossali European Distribution Center di Duisburg e l'intorno. Mi chiedo se sia possibile che nessun politico italiano si renda conto che il Meridione, invece di essere un peso che cresce sempre più, può farci diventare l'interlocutore privilegiato dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Parafrasando Talleyrand, non capirlo è peggio che un crimine, è un errore. Grazie. Grazie, è tutto considisibile, credo nonostante che siamo nell'enclave principale di un nord abbastanza rinchiuso in se stesso, ma questo lo sappiamo. Non è un caso che i due giocatori che tu hai mostrato abbiano come sponsor Emirates e Qatar Airways, che come ben sapete esistasse per l'Eridiana, l'abbiamo appena visto, nell'Italia, non si sapeva dove va a finire, quindi... Allora, due parole sul professor Prestiminzi, c'è la seconda volta che viene, ma lui è già una delle mie vittime, perché con lui stiamo ormai portando a termine un master, sarà internazionale, oltretutto sulla sismica che lui ha già organizzato alla Sapienza e siccome fortunatamente per lui, come per me, siamo in pensione, possiamo dedicarsi alle cose che ci piacciono di più e quindi presumo che nei prossimi mesi riusciremo a parare anche questa iniziativa con lui. Io lo ringrazio, venuto anche con la signora che ringrazio della pazienza con cui ascoltare queste cose, la mia non è voluta venire perché eravamo qualche cosina da sistemare a casa, oltre ai nipoti a Roma, l'altra parte fare il nonno, non è più benestito del mondo, ne sappiamo, e quindi... Allora, rischi ambientali e sismicità, ecco, io credo che questo sia uno degli elementi più importanti, perché una delle fake news che circolano, ma il sisma, ma il vento, ma le correnti, in cui poi abbiamo degli uccelli, delle ombre e chi più ne ha più ne vinta, noi in Italia dobbiamo ascoltare tutti, soprattutto quelli che non sanno niente se non quello che hanno letto sui giornali e distorto. Quindi, Alberto, a te, la tua mezz'oretta. Grazie. Il nostro Giovanni ha guadagnato qualche minuto che avevo rubato io, quindi prego Alberto. Grazie molte, io non ho mai avuto modo di parlare di queste cose e soprattutto dei contenuti di queste relazioni interne con i relatori precedenti, ma sarà un caso. Ma io, oltre che parlare un po' della sismicità e delle questioni ambientali rilagate direttamente al progetto del Ponte, al quale ho avuto l'onore di partecipare da sempre, fin dall'inizio del Comitato Scientilico, ultimamente brillantemente coordinato e diretto dal nostro rettore. Ho sentito proprio la necessità, non so come chiamarla, di aprire con un paio di slide che in qualche modo ripercorrono le cose che sono state dette, perché in effetti è doloroso pensare a quello che poteva accadere e non è accaduto. Io non sono purtroppo così ottimista, anche se concluderò con una slide diversa, ma io sono cautamente pessimista rispetto a queste questioni, perché basta ascoltare i dibattiti che le prossime elezioni ci propinano per sentire la totale inadeguatezza delle problematiche che ci sono nel nostro Paese, i ragionamenti che si fanno, proprio sono cose deprimenti e io come appartenente al mondo accademico, anche se da qualche anno sono in pensione e continuo a fare i miei corsi, mi sento quasi offeso del fatto che l'Accademia, l'Università e il mondo della conoscenza stia totalmente in silenzio rispetto a quello che sta accadendo intorno. Non c'è assolutamente nessuna voce che si alza indignata quando noi sentiamo certe cose. Dicevamo che in questo, grossomodo ho fatto una slide per ricordare come nasce il ponte di Messina, dal 55 al 70 l'ANES e le Ferrovie dello Stato di concerto con il CNR, considerato un centro propulsore della conoscenza, hanno bandito un concorso internazionale dove sono arrivate almeno 143 idee, delle quali sono state scelte, premiate 12 con 9 ponti diciamo esterni, una galleria in agro, una galleria appoggiata ai fondali e una galleria subalvea, analizzati tutti, quindi c'è stata una grossa in qualche modo gestazione iniziale prima di arrivare alla conclusione e poi ecco le nuove soluzioni iniziali, diversamente orientati e condizionati da mille problemi, ma oggi abbiamo uno specialista come il professor Solare che ci va all'area del vento e quindi riuscirà a chiarire certe questioni. Questa era l'ipotesi subalvea che è stata scartata per le ragioni alcune delle quali li accennero io, problemi sismici perché in effetti il tanto problematico problema della sisma per il ponte attuale stralato, accampata unica e nulla rispetto a quello che poteva accadere scegliendo questa soluzione. E poi è stata scelta questa soluzione come sapete ma che grossomodo è rimasta invariata a parte alcuni accorgimenti dovuti al vento brillantemente risolto dal professor Solare, dal comitato scientifico e dai progettisti devo dire, progettisti che hanno operato con una tecnologia, una scelta solo italiana, qualcuno ha tentato di far capire che la tecnologia veniva dall'estero, no hanno tentato, ma per fortuna la questione è rientrata. Il tempo che si è perso tra il progetto preliminare approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici nel 2000 circa e quello definitivo viceversa approvato nel 2015-16, adesso non ricordo la data, Fiammeti mi correggerà, è cambiato poco se non in alcuni accorgimenti. Quello che invece ha fatto discutere molto sono stati le parti laterali, la parte diciamo Calabria, la parte Sicilia perché lì sapete tutti che gli enti locali hanno un grosso ruolo nell'approvazione di certi progetti e possono condizionare totalmente le scelte fatte dal punto di vista tecnico-scientifico imponendo alcune cose. Altra questione sulla quale si è parlato in maniera sproposito è che il Ponte ha subito come tutte le cose italiane un'enorme lievitazione dei prezzi per cui era raddoppiato, il Ponte mandato in appalto costa di meno rispetto, parlo del Ponte Opera, rispetto alle condizioni iniziali, quelli che è raddoppiato, triplicato, sono le imposte, imposizioni giuste molte volte dal lato Messina e dal lato Calabria dove Messina ha in qualche modo imposto che in uscita ci fosse una galleria ferroviaria che attraversa tutta la città con una nuova stazione e poi c'è una sorta di distribuzione particolare per arrivare a Palermo o a Catania attraverso le due autostrade esistenti e questi sono stati i costi così come la parte Calabria che doveva provvedere all'alta velocità proveniente da nord dal quale è impossibile farlo perché la costa tirrenica che ospita le infrastrutture non è in condizione di sostenere oltre all'autostrada e all'attuale doppio binario ferroviario che non è alta velocità, mentre la parte ionica totalmente non infrastrutturata avrebbe bisogno come il pane di queste cose e il costo di queste operazioni in terzo per ragioni geologiche, ma su questo in fondo era stato capito per cui sono stati lasciati qui gli allacci in modo da ospitare l'una o l'altra soluzione a seconda delle decisioni. Questa è l'ultima del 2010, la proposta europea delle infrastrutture europee, una rete che ha sommito a una tavola fatta dai romani quando si erano estesi fino al vallo famoso di Adriano dove si prevedeva che le infrastrutture dovessero collegare tutto l'impero romano o giù di lì attraverso infrastrutture, quindi assomiglia moltissimo a questo, anche i romani avevano pensato di fare un collegamento stabile tra la Calabria e la Sicilia, ai tempi di Annibale c'è stata questa idea e con le barche l'hanno un po' fatto, però non l'hanno poi completato, ma a un certo momento la causa è stato cancellato, il ponte e allora mi è venuto spontaneo immaginare cosa è accaduto nel resto del mondo mentre noi cancelliamo il ponte e cosa è accaduto, qui ho fatto una brevissima riassunto di quello che è accaduto negli ultimi anni, il raddoppio del canale di Sus, il tunnel sotto il boscolo che vedrete che aggiunge moltissimo a quello che ha detto il relatore precedente e quello è un fatto non ipotetico, non futuribile, ma oggi esistente, reale, che taglia ancora totalmente tutta l'Italia fuori dai giochi internazionali e lo store, è inutile dire e quello li conoscete tutti, quello che è accaduto è che ha favorito con i fondi europei come avevamo noi il 25% a fondo per tutto sul ponte sullo stretto che è stato ritirato dalla comunità europea, su iniziativa di gruppi politici italiani a Bruxelles, la Lega e gli ambientalisti italiani hanno proposto che venisse torto visto che il governo italiano l'aveva tagliato, il 25% era a fondo per tutto, quindi il ponte, ma ne parlerà credo l'ingegner Fremenghi, di fatto all'inizio a noi costava poco, poche lire, voglio chiamare così ricordando la nostra espressione, viceversa poi le peripezie politico-amministrative hanno portato a quello che hanno portato. Ecco questo è quello che è accaduto recentemente dove è stato collegata l'Asia, l'ex Unione Sovietica e l'Europa in pochi minuti attraverso una grande rete esistente, non da fare, cosa comporta questo? Comporta che insieme al porto di Trieste che è stato reso portofranco e questo gli economisti ci insegnano cosa significa un portofranco che può dare molti vantaggi quando io confronto due economie grossomodo dello stesso livello dove gli scambi portano vantaggio a entrambi, ma quando io confronto un gigante con un nano, passate di questa, cioè il vantaggio è totalmente per il gigante, noi perdiamo anche i dazi doganali per tutto questo, tra le altre cose, ma mentre il confronto tra economie equivalenti questa perdita viene ampiamente compensata dalle esportazioni, questo non accade quando noi abbiamo una situazione del genere già fatta e quindi la franchigia doganali, queste sono norme già scritte, decreti scritti, esistenti, non votibili, cosa comporta questo nuovo scenario che si aggiunge e integra quello che ha detto il relatore precedente, come vedete noi abbiamo Russia, Cina e Africa che praticamente Erdogan, la Tunisia diventa il vigile urbano che smista tutto il traffico europeo ed euroasiatico, diventa il politico più importante, non per nulla viene ricevuto questo personaggio che potrei definire con aggettivi molto pesanti, viene ricevuto con tutti gli onori dai paesi, anche dal nostro, nonostante quello che sta facendo tra Siria e le zone limitrofe dal punto di vista, ma ovviamente qualcuno ha detto che i soldi non puzzano e quindi è probabile che questo riesca a far passare tutto, noi da questo traffico riusciamo ad arrivare a Trieste e da qui a penetrare sfruttando in parte il Corridoio 2 che forse si farà, forse, il Corridoio 1 Palermo-Berlino è totalmente seppellito e la Germania che era una delle prime nostre fans per quanto riguarda la realizzazione del Corridoio 1 è seppellito totalmente, non esiste più dovuto, quindi l'Italia è fuori. Il porto di Gioia Tauro, lo vedete, che è l'unico porto, uno dei pochissimi porti europei, capace di ospitare dei porti a container di un certo rilievo e che doveva diventare il centro attrattivo dal quale partivano non solo per i porti italiani, la situazione dei porti, la prima è spiegata bene, come stanno morendo, morirà anche questo perché non siamo riusciti a inventare di infrastrutturarlo, non ha un collegamento ferroviario a questo grande porto dove arrivano i container, va bene? I container vengono caricati su un nave più piccolo e portati a Napoli, a Genova e così via, ma i dazi extra-doganali vengono pagati al porto dove si aprono i container, quindi il sud, cioè la Calabria, ospita semplicemente, guarda il portacontainer che arriva, partono senza incassare un euro di questi dinari. Quindi morirà lui che è il più grande porto per capacità di ospitare queste grandi navi che invece inserito nel corridoio 1 avrebbe svolto un ruolo fondamentale nella rete marittimo, stradale e ferroviaria perché questi tre elementi devono coniugarsi tra di loro e qualcuno immagina che col mare noi risolviamo il problema dei collegamenti, il porto se non è ben collegato con la terra ferma, con moderne infrastrutture, poi c'è stato il raddoppio di Suez, anche questo vedrete che tipo di collegamento fa, favorendo questi porti e bypassando totalmente l'Italia, perché anche se è più lungo, passare qua dentro lo ha, l'Adriatico è ormai un luogo con fondali bassi e soprattutto dove esistono una serie di attività offshore che non consentono un nacevole passaggio di queste grandi navi, però preferiscono passare qui perché qui hanno la porta d'Europa attraverso il Porto Franco e i collegamenti che si sono già sviluppati tra Olanda e Germania, ormai si arriva in mezz'ora con tutti i tunnel che hanno fatto con i fondi europei, va bene, quindi io volevo dire questo perché di fatto è la cosa che come non ricercatore, non come partecipante ad un'avventura che mi ha onorato dal punto di vista tecnico-scientifico, ma che mi ha frustrato come persona, volevo dire per arrivare poi, ecco questa è la situazione dell'Italia, questa è l'immagine che noi faremo al futuro e quello che diceva Enzo Sidero prima è certamente il sud è tagliato fuori e questo apparentamento e questo vantaggio che avrebbe il nord con le porte d'Europa è un vantaggio effimero perché il rapporto che noi potremmo avere con il sud del mondo è gerarchicamente totalmente diverso rispetto a quello che noi avremo con il nord, dove bisogna andare, uso i termini che ha detto Sidero prima, col cappello in mano verso Germania e gli altri paesi europei. Adesso parliamo un po' di queste cose che sono state ampiamente risorte per quanto riguarda il progetto, quindi dovete immaginare che il ponte sospeso è come un lampadario attaccato al filo e il terremoto gli fa un baffo, scusate l'espressione, è stato costruito in modo tale che il sisma neanche lo tocca perché il ponte è un cavo fondamentalmente a cui è appeso una certa appendice che si chiama il palcato, quindi se la problematica maggiore è il vento, ovvero il sisma è importante basta conoscerlo, quindi il problema era una carenza di conoscenza. Gli studi fatti per il ponte dal 55 in poi hanno consentito alla comunità scientifica mondiale direi di chiarire e conoscere qual è la geodinamica profonda del Mediterraneo che prima non si conosceva, quindi grazie al ponte gli studi hanno consentito di chiarire qual è l'evoluzione e cosa ci aspetta, ne abbiamo usufruito la nuova classificazione sismica del territorio italiano che è perfetta dal punto di vista della classificazione, ogni terremoto che arriva all'Aquila piuttosto che a Messina o in Abruzzo è un terremoto ampiamente previsto dalla normativa, negli ultimi 60 anni neanche un terremoto ha sgarrato quella che è la previsione, quelli terremoti dell'Italia centrale che si susseguono in questi ultimi due anni ribattono perfettamente, i morti, i feriti e i danni sono legati alla presenza di infrastrutture inadeguate ad alta vulnerabilità, non certamente alla non conoscenza dello scuotimento sismico in termini energetici, si conosce perfettamente e questo contributo fondamentale l'ho dato gli studi sullo stretto di Messina, quindi questa è l'Italia, questa è la Calabria, questa è la Sicilia, il ponte si colloca qui in quest'area, io ho fatto qualche piccola animazione per dire come questo pezzo di Calabria in effetti è un pezzo di Alpi che si è trasferito qua dentro, in effetti non è questo che è venuto da nord ma è la zolla africana che ha spinto l'Italia verso l'Europa e questa collisione ha formato le Alpi, questi pezzi sono rimasti dietro e hanno fatto questo percorso inverso, in effetti sono rimasti nel posto dove erano e l'Italia, altri due pezzi sono la Corsi e la Sardegna che sono rimasti prima, erano pezzi di Alpi, questo trasferimento, dopo lo vediamo con un'animazione semplice che rende l'idea e ancora in atto è quello che provoca i grandi terremoti, nel 1783 c'è stato il più grande terremoto del Mediterraneo che è durato due anni con una serie di ripercussioni e di repliche di due anni dell'undicesimo grado tutti della scala Mercalli che hanno interessato tutta la Calabria, il terremoto di Reggio Messina invece è un terremoto collaterale a quello che si è sviluppato, adesso vediamo ancora più un'animazione e che rende l'idea perché la scelta del tunnel sarebbe stata una scelta molto rischiosa, certamente più semplice da realizzare, almeno a quei tempi quando la teoria, l'ingegneria del vento non era così ben salda come adesso ma comunque presentava, io faccio vedere grosso modo queste erano le vecchie Alpi, se funziona o non funziona, perché? Ah ecco perché non funziona, perché l'ho messo sulla pendetta e non ho la sorgente qua dentro, questo ci devo pensare, mi dispiace? Sì ma dovrei copiare anche la sorgente, l'animazione per il punto A, perché fa vedere come questo pezzo scendendo, qui l'Italia non era ancora formata, si è andata a incastonare in questa posizione qui e vabbè anche qui c'è un'animazione che non so se funziona, lo facciamo dopo nella tavola rotonda, adesso ci attrezziamo, fa vedere qui su questa animazione che ho fatto la genesi e lo sviluppo del terremoto di Reggio Messina con questa faglia che si è generata, immaginate come una tendenza dalla Sicilia verso la Calabria, ma questa faglia sismogenetica che si è rotta e ha generato la sismicità del terremoto nel 1908, è una faglia che rimane sotto, non è apparsa sull'edificio, se fosse lo specchio di questa rottura fosse emerso in superficie doveva emergere nei monti Peloritani in Sicilia, non è rimasta sotto e si è sviluppata verso nord per 40 km formando un 7.2 di magnitudo che è la massimo terremoto atteso e che noi vedete abbiamo questa è la Reggio Messina, questo è lo spostamento della Calabria, questi collassi provocano questi terremoti, vedete? Adesso poi le indagini che sono state fatte per il ponte di sismica profonda hanno chiarito alcune cose, le faglie ed è l'una delle preoccupazioni è capire se queste faglie erano ancora attive, nel senso che attive signino una faglia attiva è una faglia che si può muovere o di modo proprio essendo sismogenetica, quando si muove genera un terremoto oppure si muove come scondimento a seguito di un terremoto che avviene da vicino che ha la capacità ancora di muoversi come discontinuità, tutte e due le ipotesi devono essere vagliate perché noi dovendo posizionare gli ancoraggi, dovendo posizionare le fondazioni dovevamo sapere quali erano queste eventuali discontinuità e vedete queste faglie, qui la posizione, parliamo della zona Calabria, questo qui è chiamato conglomerato di Penso è una formazione di conglomerati molto cementali, vedete che le faglie non arrivano mai in questo strato superficiale che ha circa 800 mila anni, ciò significa che queste faglie sono di fatto ferme da 800 mila anni, non hanno mai raggiunto e lo abbiamo provato in maniera molto decisa questa è la parte messina, vedete le faglie che hanno interessato questi strati profondi anche qui devono essere fatti gli ancoraggi che sono molto importanti e abbiamo studiato con molto molto dettaglio il terremoto del 1908, abbiamo dati sufficienti per sapere qual è stata l'evoluzione, l'abbiamo studiato anche con i terrazzi, vedete queste linee, sono i terrazzi marini che vanno da 80 mila anni fino a un milione di anni, d'accordo, e sono questi vedete le tracce di questi terrazzi che morfologicamente si vedono benissimo camminando sul territorio sono interrotti dall'erosione e così via, ma era importante sapere se questi terrazzi fossero dislocati in maniera brusca da discontinuità o faglie, questo è l'epicentro del terremoto del 1908 e l'Igene subito dopo il terremoto ha misurato le quote e gli spostamenti che il terremoto ha prodotto a seguito dello spuotimento sismico e quindi noi abbiamo misurato le quote attuali dei terrazzi, in particolare questo di 125 mila anni, per capire se il suo spostamento fosse coerente con gli spostamenti che ha generato il terremoto del 1908 perché questa ipotesi assolutamente prevista dagli studi che noi stavamo facendo sarebbe stata una conferma del fatto che l'attuale conformazione morfologica era dovuta ai terremoti che si sono succeduti nel tempo e che si succederanno in futuro, che succederanno in futuro, dello stile terremoto del 1908, ecco perché il terremoto del 1908 è stato preso ad esempio per il terremoto di progetto del Conte, va bene? E questi sono gli spostamenti che sono state fatte, queste linee grossomodo li impattano, gli isospostamenti rispetto al terremoto e che li vediamo qui, questi sono tutti dati IGF fatti da loro, le vuote alla quale appartengono i terrazzi che quando si sono formati, sono formati dal mare, avevano tutti la stessa quota, questi sono messi bene, vedete qui è Gioia Tavolo che è il vero centro sismico della Calabria, va bene? Anche se il terremoto, diciamo l'epicento del terremoto del 1908 era grossomodo posizionato in questo punto qui, questi sono i terrazzi colorati, vediamoli, questa è un'immagine satellitare che fa vedere, questa è la zona di Gioia Tavolo, vedete come è ridotta, questi colorati qui, vedete questo è un terrazzo di 125 mila anni, va bene? Vedete come, immaginate una piana è interrotta dalle erosioni fluviali, ma le vuote grossomodo, si misura questa quota, questa, grossomodo ha lo stesso andamento degli spostamenti provocati dal terremoto del 1908, questo ha consentito insieme all'evoluzione, vedete, noi abbiamo immaginato la linea di spiagli, di riva da 125 mila anni fino a un milione di anni, come è avvenuta nella zona, abbiamo visto questa perfetta coerenza nella morfologia e con questo abbiamo anche potuto calcolare mediamente qual è il sollevamento, perché uno deve dire ma la Calabria è in sollevamento, quando io geologo dico sollevamento intendo dire una cosa che nulla ha a che vedere con le opere che hanno una vita di 200 anni, parliamo di milioni di anni, questo effetto scala purtroppo dovrebbe essere spiegato meglio perché viene utilizzato artificialmente in maniera dolosa da alcune persone, ma Calabria si solleva, come fa a mantenere il ponte? La Calabria si solleva di 0,1 mm l'anno circa, mediamente, perché il sollevamento avviene a scatti per ogni terremoto, ma mediamente è questo, vedete come si correlano dai terrazzi tutti i sollevamenti, abbiamo anche fatto una serie di cose che hanno in qualche modo chiuso questo discorso, perché è importante in queste indagini la ridondanza, noi dobbiamo avere dati che provengono da soluzioni e situazioni totalmente diverse e poi convergono tutti verso un'unica soluzione. Noi abbiamo su queste faglie, fatto dei sondaggi profondi e trovato, vedete queste nere, queste qui, sono degli episodi lacustri che hanno depositato dei materiali organici, sui quali con il carbonio 14 li abbiamo datati, allora qual era la mia preoccupazione? Se questa e questa fossero appartenuti alla stessa data, significa che questa faglia li aveva dislocati, invece appartengono a due età diverse che sono l'età dei terrazzi proprio, ma che quindi denunciano chiaramente come l'analisi dei terrazzi esterni avevano confermato, che queste faglie sono ferme, sono discontinuità che si sono generate circa un milione di anni fa e che non hanno avuto nessun ruolo dal punto di vista sismico intorno. Questo ci ha tranquillizzato perché c'erano tra virgolette attacchi che dicevano grandi frani che possono in qualche modo coinvolgere la spalla e il ponte, questa è un'altra visione, abbiamo fatto un'analisi molto dettagliata della sismicità che è stata butuata dalla classificazione italiana adesso e vedete che per diverse tempi di ritorno abbiamo colori diversi, vedete 775 ce l'abbiamo in queste zone, va bene? Vediamo per esempio se io prendo un terremoto di magnitudo 5 ce l'ho in queste zone nere che vedete, per tempi di ritorno fino a poco piccole, tempi di ritorno piccole significa che io ho eventi frequenti e in natura gli eventi frequenti sono eventi di piccola intensità, gli eventi rari sono quelli che propogono invece situazioni di intensità molto elevate e noi quelli cercavamo, a magnitudo 6 vedete che via via si colorano in maniera diversa le diverse arie sismogenetiche dell'Italia, quando arriva a 7 si colora solo questa, che sono questa, il terremoto di magnitudo 7 nel centro Italia non può avvenire, non c'è, geodinamicamente non è previsto, le condizioni non ci sono, quando si dice sì all'Aquila poteva avvenire un terremoto di magnitudo 8, sì mio nonno poteva anche diciamo avere 5 braccia, sarebbe stata una piogra, ma non era un uomo, ecco questo voglio dire perché spesso ti trovi di fronte, utilizzato un termine diverso da quello che probabilmente noi in gelo utilizziamo il flipper per dire queste cose, non so se qualcuno l'ha seguita questa cosa, quando le dico ai miei studenti non li capiscono più queste battute che facevamo noi da giovani, allora, neanche i jukebox, allora niente, la normativa attuale prevede quindi il modo per garantire le verifiche di tutte le opere a seconda della loro gerarchia, non c'è dubbio che questa è un'opera, come si chiama, vedete, una grande opera che impongono situazioni molto severe, quindi se io impongo che non supero il 5% in 100 anni, che poi per 2, perché per 2? perché noi sappiamo che la vita reale di un'opera rispetto alla vita nominale si ottiene con la vita nominale moltiplicata il coefficiente d'uso, sono due termini che la normativa attuale già prevede, che noi abbiamo anticipata, l'abbiamo utilizzata per il ponte, questo modo di operare e che quindi dobbiamo orientarci su tempi di ritorno compresi tra 2.000 e 3.000 anni, ma dopo i 2.475 è considerato il massimo terremoto possibile nel mondo, perché non avremo più dati su cui basare le nostre previsioni, abbiamo calcolato lo spettro di risposta e vedete che gli eurocodici proponevano un fatto che viene ampiamente coperto dallo spettro del ponte e così via andiamo rapidamente a capire come si è evoluta l'infrastrutturazione tra il 2003, la ipotesi del 2003 poi abbiamo l'ipotesi del 2010, tutte queste differenze sono imposte dal comune di Messina e dal comune di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, quindi solo in posizioni per legge quindi la società stretta di Messina e tutti gli attori progettisti non potevano non accogliere queste richieste, perché il ponte come struttura via via che il tempo passava diminuiva il prezzo perché diminuiva? Perché cambiavano le tecnologie, ma penso che ne parlerà Ingegner Fiammetti di questo, cambiate le caratteristiche degli acciai e così via. Finalmente siamo arrivati a questo, vedete che questa è una metropolitana di fatto, l'alta velocità arriva e c'è tre fermate urbane all'interno della città di Messina che passa in galleria, la vecchia stazione viene abolita e veniva costruita una nuova stazione ferroviaria, lo stesso tutti gli schiocchi per quanto riguarda la parte Reggio Calabria e qui c'è l'autostrada che parte, che va verso Catania e verso direttamente Palermo. Qui abbiamo poi tutto l'impatto ambientale, sono stati fatti tutti gli studi, qui ci sono i costi ma non ne voglio parlare perché ne parlerà sicuramente Fiammetti dopo, vedete che dal 65% che era la lingua da ponte rispetto ai collegamenti siamo passati a quello definitivo al 52% rispetto al 47%, è diminuito, cioè l'incidenza del ponte rispetto a che è diminuita, questo è passato da 6,5% a 8,5%, perché è aumentato questo? Qui abbiamo questo, il problema vedete che questi sono direttamente gli ancoraggi che sono dove abbiamo una quantità di materiale da escavare di circa 470.000 metri cubi che dovranno essere smaltiti, uno dei maggiori porti, il cavo che è un'opera d'arte, la chiamerei io in se stessa come viene costruito, come viene realizzato, con dei fili che devono creare qualcosa senza soluzione di continuità e che veniva realizzato a ridosso del porto di Gioia Tavolo, c'era una ipotesi che il cavo, una volta realizzato l'industria tra virgolette di produzione del cavo, tutti i ponti del mondo che stanno facendo sullo stile ponte di Messina, Cina, venivano a prendere qui il cavo perché avevamo il porto di Gioia Tavolo che poteva ospitare i container che potevano trasportarlo ed erano previste 10.000 occupati solo per fare questo, va bene, lungo la piana di Gioia Tavolo. I giapponesi che erano quelli che avevano insieme all'associazione di impresa vinto l'appalto, avevano previsto di realizzarlo qui il cavo che sarebbe stato viatico. Allora su questo c'era il problema di come smaltire questi materiali perché immaginate per 5 anni di costruzione del ponto 4 o 6 quanto sarebbe stato, quanti mezzi dovevano percorrere le strade e si è deciso, si è fatto un progetto specifico per lo smaltimento dei materiali via mare costruendo delle zatte da posta e andando a fare il dipascimento delle spiagge in erosione perché i materiali scavati erano esattamente i materiali che l'erosione porta direttamente sulle spiagge. Questi erano i cantieri, il progetto via mare rigorosamente né un metro cubo passava per strada, l'impatto ambientale per lo risparmio era stata fatta e approvata anche in opera e post opera, questi sono alcuni slide e volevo parlarvi semplicemente di una cosa, del fatto che si parlava molto del fatto che la Calabria e la Sicilia si allontanano, si spostano, si spostano è vero e noi abbiamo i dati di questi spostamenti misurati con anni e anni di misure geodetiche tra la Sardegna, Noto e Lecce, erano i tre caposaldi verso i quali venivano riferiti gli spostamenti, questo spostamento è di qualche millimetro anno in senso naturale orario, ma immaginate che i dinari sono stati progettati per deformarsi in funzione della temperatura estima eternale di un metro e mezzo, questo spostamento è ridicolo rispetto a quello che il sistema era capace di sfondire, però pure questo è stato molto tempo utilizzato come elemento contrario, si spostano a parte di un ponte, io adesso mi fermo, c'ho molte slide, utilizzeremo probabilmente la tavola rotonda se qualcuno ha dei dubbi, perché c'ho i dati proprio specifici degli spostamenti e li ho confrontati con il Golden Gate degli Stati Uniti dove si sposta di 10 cm l'anno ed è un ponte che gli specialisti ci potrebbero spiegare, è totalmente diverso da un ponte strallato, quello del Golden Gate degli Stati Uniti. Grazie. Grazie Alberto, anche perché hai fatto un cenno interessante, mentre noi chiacchieriamo e non facciamo morire, c'è qualcuno che invece lo riesce uscita per Messina Type, per quanto riguarda l'impalcato sostanzialmente disegnato dal vento, lo stanno già utilizzando, ovviamente, devo anche ricordare così per inciso che gli attraversamenti importanti in questo momento si stanno facendo, anzi si stanno completando, perché... Io ce le lego di tutti quelli che hanno fatto, realizzati, insomma. Vorrei citare l'ultimo, è Macau, Hong Kong, cos'è tirare niente. Adesso abbiamo, siamo passati da sottoterra a sopraterra, perché abbiamo Giovanni Solari che ci racconta un po' le problematiche dei grandi attraversamenti con riferimento al vento, perché il vento è uno degli elementi più importanti, sia quando si attraversa uno stretto, sia quando si attraversa un fiume, quindi un attimino di tempo per dargli la possibilità di caricare l'elemento. Abbiamo circa 10 minuti di ritardo che cercheremo di recuperare e poi vediamo che abbiamo anche il coffee break, il previso, il coffee break. Per quanto riguarda il pranzo, non so se mi informerò un momento per i partecipanti, come viene organizzato, se bisogna fare un ticket, un reception, vediamo, non lo so, controllo durante il coffee break. Ci sei? Giovanni Solari, ordinario tecnico delle costruzioni a Genova, è uno dei massimi esperti di vento che ci siano nel mondo, è invitato un po' dappertutto a raccontare queste cose e direi che assieme, di ricordarlo, insomma, Diana è stato anche un po' l'artefice, ma di vento si occupa anche Borri che ci racconterà dopo invece come il vento può essere utilizzato per fare i ragionamenti successivi. Giovanni, a te. Spero che tu c'è la faccia qua, se lo chiamo il tecnico. Ok, prego. Grazie Enzo, ti ringrazio per l'invito, ringrazio anche Riccaldetto che mi ha sospinto verso questa bellissima iniziativa in cui sono molto contento di essere presente. Allora, io penso che l'attraversamento di ampi bracci di mare o di flumi costituisca sin dall'antichità uno dei grandi desideri dell'umanità. Il desiderio è diventato una necessità impellente già verso la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento in funzione della comparsa delle grandi reti di comunicazione e in particolare dell'uso della ferrovia. Bene, in questo periodo l'uomo non ha inventato poi nulla di nuovo perché si è rifatto a vecchie tipologie che erano presenti già nell'antichità, quella dei ponti sorretti da funi, da cavi, e ha in qualche maniera copiato queste vecchie tipologie, le ha involute dando vita ai ponti sospesi, ai ponti strallati che poi costituiscono ancora oggi i grandi strumenti per superare grandi luci. Ebbene, questi ponti strallati e questi ponti sospesi nascono soprattutto in Europa, in particolare in Inghilterra e sono realizzati di bellissimi come lo Union Bridge sul Tweed River nel 1820, questo ponte fantastico, Brighton Chain Pyre, un ponte sospeso, multicampata, oppure Lavon Bridge è un vero e proprio capolavoro dell'ingegneria. L'elemento comune di tutti questi ponti, come potete notare, sono le torri di pietra estremamente grevi e pesanti, rigide, massicce, e un imparcato tanto sottile da parire quasi evanescente, impalpabile, e come tale, ovviamente, preda del vento. E così questi ponti incominciano a cadere, cade Drybury River Bridge, cade Brighton Chain Pyre, cade il ponte della Bass Chain. Vi sono cronache che parlano di questi crolli, e ve ne leggo una delle tantissime. Luis Davies scriveva nel 1818 su Drybury River Bridge che le vibrazioni divennero così grandi che le catene furono spezzate e l'imparcato portato via e la struttura completamente distrutta. I testimoni riferirono che il movimento verticale dell'imparcato fu quasi uguale a quello orizzontale, tanto violento, che una persona sull'imparcato sarebbe stata sbalzata nel fiume. Allora, a me di questo periodo, di questa epoca, hanno sempre colpito alcuni fatti. Un fatto è che questi crolli non erano crolli singoli, o meglio, erano crolli plurimi per plurimi ponti, ma erano crolli che si ripetevano per lo stesso ponte, che veniva costruito, cadeva, veniva ricostruito e ricadeva. Ci sono ponti che cadono sino 5-6 volte nell'arco di 10 anni. Oggi mi sembra che sarebbe veramente impensabile pensare a un edificio, a un ponte, che viene affidato sempre allo stesso ingegnere che lo fa ricadere ogni volta. Un'altra cosa che mi ha sempre colpito è che se si legge questa frase, come tante altre frasi, è evidente che si parla di oscillazioni. Quindi si parla di fenomeni dinamici. Ebbene, gli ingegneri di quell'epoca, proprio della dinamica, non ne vogliono sentire parlare. I calcoli sono solo statici. Non si parla minimamente di questi fenomeni. La cosa, in qualche maniera, è curiosa, perché quasi alla fine del Settecento, da San Pietroburgo, Eulero e Daniel Bernulli, ci aveva ricontato di articoli fantastici in cui si parlava di sviluppi in serie di modi, di modi di vibrazione, di risonanze, di frequenze proprie, di battimenti. Va bene che loro parlavano di stringhe, ma poi non era così difficile associare una stringa a un ponte. Quindi un rifiuto dell'ingegneria verso questo tipo di visione. E poi mi hanno sempre colpito le persone. Davie, che noi tutti consideriamo un nostro grande maestro, ci ha insegnato a fare i calcoli elastici, ha scritto articoli, opere fondamentali, non solo di meccanica dei solidi, ma anche di meccanica dei fluidi. Beh, scrive sui ponti alcune sciocchezze incredibili. Innanzitutto, critica violentemente i ponti strallati, soprattutto, probabilmente, perché il ponte strallato fu concepito da un architetto e non da un ingegnere. E in questa maniera resta lo sviluppo di una tipologia costruttiva di quasi un secolo. Oggi noi consideriamo il ponte strallato sotto molti aspetti, forse, quasi migliore, più efficiente del ponte sospeso. Ma poi, soprattutto, formula una teoria in cui affida tutta la rigidezza ai cavi, dice chiaramente che rendere rigido l'impalcato non serve a nulla, e sostanzialmente causa una quantità di crolli per questo modo di procedere enorme. E' interessante notare che Charles Hellett, uno degli ingegneri più noti e famosi degli Stati Uniti, rimane talmente affascinato da Navier che si sposta le ponti chaussée a Parigi proprio per imparare a fare i ponti da Navier, torna indietro in America, fa crollare tutti i ponti che realizza proprio per aver seguito l'insegnamento del grande maestro. Controvate a questa visione, John Augustus, un personaggio che mi affascina moltissimo, si laurea con il massimo dei voti contemporaneamente in ingegneria e in filosofia, è considerato da Hegel potenzialmente il più grande filosofo che l'Europa abbia avuto, ma il ponti lo affascina talmente tanto che decide di occuparsi di ponti e non di filosofia, e introduce una serie di innovazioni importantissime, vedete che c'è le travi rigidenti dell'imparcato, vengono inseriti questi stralli a rinforza del sistema di sospensione, e poi c'è il grande capolavoro del Niagara Bridge dove dispone due imparcati l'uno sull'altro, su quello superiore passa la ferrovia, di sotto passano le carrozze, li collega lateralmente e crea un sistema attorsionalmente ultra rigido che cambia la storia. Non è che tutti ne siano convinti, ma il Tuena ad esempio scriveva che attraversare quel ponte su un veicolo sei tormentato da due alternative, volare nel fiume 200 piedi sotto a causa del vento può essere schiacciato dal treno che ti passa sopra la testa. Quanto sta che l'Europa si ferma di fronte a questa incredibile serie di guai e i ponti si sviluppano soprattutto negli Stati Uniti dove assistiamo a opere come Williamsburg Bridge già all'inizio del Novecento, George Washington Bridge che per la prima volta supera la luce di un chilometro, Golden Gate Bridge che allunga il primato a 1250 metri, e poi alla volta di Tacoma Narrows ha giudicato il grande capolavoro dell'ingegno americana, un vero e proprio gioiello che subisce questa terribile avventura che tutti voi avete già sicuramente visto, credo che sia uno dei filmati più noti della storia, il ponte oscilla per un'ora e mezza con oscillazioni verticali che raggiungono 8 metri e rotazioni torsionali che raggiungono i 70 gradi fino a cadere in acqua e mandando a fondo tutte le convinzioni e tutta la sicurezza dell'ingegnere. Ecco, credo che di questo tutti voi sappiate molto, forse ci fa anche dettaglio che può essere interessante notare, allora il ponte era stato progettato in gallerie del vento, una galleria del vento formidabile dove però le prove erano state statiche, a distanza di 100 anni dai crolli dell'Ottocento non c'è traccia della progettazione di questo ponte di un solo calcolo dinamico. Poi gli ingegneri dell'epoca capiscono che il ponte è destinato a cadere e cercano disperatamente di salvarlo, aggiungono cavi, mettono contrapesi, aggiungono dissipatori idraulici fino a che Farquhar, sono un grande professore di Washington, ha l'intuizione che possono fare tutti i cambiamenti meccanici che vogliono e non riusciranno mai a tenerlo fermo, bisogna cambiare la forma. E allora fa delle prove in galleria del vento dove studia delle carene da applicare lateralmente al ponte per cambiargli la forma e per stabilizzarlo. Le carene vengono ordinate, arrivano nel sito, vengono collocate a fianco di Tacoma, devono essere montate, ma le previsioni prevedono burrasca e si decide di lasciare passare la burrasca per poterle montare con calma. E poi la burrasca abbatterà il ponte e le carene rimarranno per terra a fianco del ponte. Un altro Tacoma non è l'unico che subisce questi problemi. George Washington Bridge deve essere rinforzato con un secondo imparcato. Golden Day Bridge vive la notte delle streghe, il primo gennaio del 54, quando scilla per 50 minuti con l'ampiezza di un metro e mezzo, poi viene irrobustita l'emba inferiore. Ma la grande svolta si attua nel 1966 quando viene progettato Seven Bridge per essere realizzato come tutti i ponti dell'epoca con un imparcato reticolare. Viene incaricato delle proprie in Gallerie del Vento un grande personaggio dell'ingegneria del Vento, Christopher Scrutto, che ha però un'idea. Ma siamo così sicuri che questi ponti che stiamo facendo ormai da un secolo e mezzo sono i migliori? No, lui ha l'idea che il ponte debba cambiare forma e inventa questa strana forma appiattita, aerodinamica che gli viene criticata e pensare a un ponte così come si fa a fare un ponte simile. Lui cerca di convincere il convittente ma non ci vince. Allora ci si mette la sorte perché durante una prova il modello del ponte che doveva essere fatto si rompe. Si rompe e ci vogliono una settimana di tempo per aggiustarlo. In quella settimana lui costruisce il modello di questo ponte lo avete in galleria e dimostra che questo ponte avrebbe avuto una performance migliore e sarebbe costato due volte e mezzo di meno. Di fronte ai soldi non ci sono più discussioni. Viene abbandonata il ponte reticolare per la prima volta nella storia viene fatto questo ponte ultra piattito cassone aerodinamico che viene inissato e portato in opera. Ed è nato in questo modo il grande dualismo tra l'impalcato rigido che deve resistere tra le forze del vento e l'impalcato aerodinamico che invece le forze del vento le deve annichilire ridurre al minimo proprio in virtù della forma e sarà questa scelta che condizionerà tutto il futuro. Poi nel 71 sembra che tutto sia finalmente chiaro Scarlan scrive il modello matematico che oggi usiamo per calcolare i ponti e sembra che i dubbi siano finiti e che ormai ci sia qui a un'era in cui tutto funzionerà in maniera magnifica e invece il vento è molto dispettoso perché nel 77 il ponte di Bretaglia in ponte stralato manifesta vibrazioni enormi degli stradi la paura è enorme il ponte viene chiuso i ritorni in gallerie del vento vengono fatte prove di tutti i tipi ma non c'è verso di ricreare questa vibrazione in gallerie del vento non si capisce assolutamente da cosa è dovuta devono passare addirittura otto anni per rivedere questo fenomeno a Nagoria in Giappone e questa volta il professor Shiraishi ha una grande idea ma quando i cavi vibrano c'è pioggia c'è pioggia piode si forma un rivolo d'acqua sul cavo che cambia la forma e la dinamica del cavo e induce un fenomeno cosiddetto di galoppo da pioggia costruisce una galleria del vento nuova dove mette un cavo fuori dal tubo e fa piovere sul cavo e il risultato è inequivocabile acqua e vento manifestano grandi vibrazioni in realtà passa poco tempo per sovvertire di nuovo questo concetto perché si capisce ben presto che non è necessario che piova per vedere vibrare i cavi che vibrano anche in condizioni di asciutto l'acqua è soltanto un rafforzativo della vibrazione indotta dal vento allora i cavi vengono bloccati con sforzavatori vengono legati con dei collegamenti vengono costruite le prime gallerie del vento destinati a provare solo un cavo i cavi vengono avvolti da Guine per impedire il fenomeno del rivolo d'acqua ma il vento non dà tregua perché nel 97 durante la costruzione di Great Belt nasce un nuovo fenomeno in effetti un vecchio fenomeno il distacco dei vortici era conosciuto da tantissimo tempo però non si era mai visto un distacco di vortici così a bassa frequenza il ponte incomincia a scillare per distacco dei vortici ampiezza e parlo ancora di due metri di oscillazione se non ci credete potete osservare questa immagine di un ponte giapponese che vive lo stesso problema per controbatterlo è necessario disporre gateways al bordo inferiore per rompere il distacco dei vortici nello stesso anno Tsimaa evita questi problemi proprio prevedendoli e realizzando una serie di accorgimenti aerodinamici che impediscono il distacco dei vortici poi alla porta di Akashicaikyo che raggiunge i due chilometri sovverte l'idea dell'imparcato aerodinamico affidandosi a un imparcato che ritorna alle vecchie origini ecco dov'è che mettiamo il ponte di Messina in questo scenario di grandi conquiste ma anche di grandi paure di grandi disastri ma io penso che il ponte di Messina occupi una posizione assolutamente prominente al vertice mondiale della scienza e della tecnica e costituisce una svolta nella storia dei ponti e dell'ingegneria offrendo al mondo le soluzioni innovative che costituiscono un patrimonio per tutto il mondo non per il ponte di Messina un patrimonio che l'Italia ha rinunciato da realizzare ma che ha offerto gratuitamente al mondo intero che oggi lo sta utilizzando gratuitamente e ne sta facendo un uso sistematico ovunque e io credo che di tutto questo bisogna rendere grande merito alla società stretta di Messina non lo dico per piageria verso il mio amico Fiammenghi ma la società stretta di Messina ha sempre avuto una posizione di massima ampiezza di apertura e ha fornito credo col suo lavoro un servizio straordinario non al progetto del ponte ma alla cultura ingegneristica su questi fenomeni credo che il secondo grande merito va riconosciuto ai colleghi del Politecnico di Milano dei veriti che io assolutamente non voglio tutti i veriti su questo ponte sono di Giorgio Diana di Alberto Zasso e di tutti gli amici del Politecnico che hanno lavorato su questa struttura per 20 anni raggiungendo dei risultati credo straordinari di cui oggi tutti stanno facendo un uso enorme e allora su questi risultati sulle grandi innovazioni vi dico poche parole la prima mi sembra evidentissima è il cassone appiattito che si tripartisce in tre cassoni dipendenti collegati da attraversi è una soluzione che allontana i cavi incrementa la rigidezza torsionale ma soprattutto trasporta i ponti i principi che Fazlur Rana Gatt che erizzò sugli edifici quello è il principio del portale passante le aperture all'interno delle costruzioni favoriscono il filtraggio dell'aria e questo filtraggio determina la dissipazione di energia aerodinamica che autostabilizza il ponte del vento non a caso questo ponte si chiama imparcato ventilato c'è di più ormai si chiama Messina Type Bridge è riconosciuto da tutti nel mondo che questo sistema è nato con Messina e tutti sanno che oggi per superare grandi ponti bisogna fare affidamento a questa tecnica qui vedete ad esempio lo Stonecutters Bridge a Hong Kong vedete chiaramente i due imparcati separati poi collegati da cassoni lo vedete chiarissimamente soprattutto nella fase di esecuzione in cui si vedono i due cassoni collegati da traversi rigidi questo è Si-Homen Bridge uno dei il quarto ponte più lungo del mondo in Cina e ancora vedete due cassoni distinti traversi di collegamento dal di sotto sembra Messina soltanto due cassoni ma al principio è assolutamente tutto il suo questo è il progetto di Sunda Stembridge in Indonesia e ancora una volta vedete chiarissimamente i traversi gli imparcati separati l'imparcato ventilato il ponte di Messina appena detto Alberto probabilmente non si fa il ponte di Gibilterra probabilmente non si farà ma se si facesse tutti i progetti sono basati sull'idea di Messina sono una copia del progetto di Messina la seconda grande innovazione forse non è così tanta innovazione ma è innovazione il livello a cui Milano l'ha portata la cura dei particolari e lo studio del dettaglio dei particolari io ho visto gli amici di Milano lavorare per anni alla cura dei flaps laterali delle barriere delle griglie barriere flaps che hanno un ruolo determinante sia nella fase di esecuzione sia nella fase di esercizio e Milano certamente ha introdotto la concezione della modellazione al vento multiscala una modellazione multiscala che parte da un modello in scala molto grande ad esempio in scala 1 a 3 vengono colte la fisica del fenomeno e poi con delle modellazioni in scala sempre più fine si produce in equivalenza una tecnica che oggi usiamo non soltanto sui grandi ponti ma sulle passarelle pedonali quando facciamo una passarella pedonali tutti usiamo la tecnica che è stata sviluppata per il ponte sullo stretto di Messia e qui vedete esempi di un tipo Browns White Stone Bridge nel 39 viene costruito a singola campata con una campata molto appiattita vibra moltissimo viene introdotto una travatura reticolare rigidente nel 46 per bloccare le vibrazioni e poi nel 2004 la travatura reticolare sparisce viene sosteguita con la carenale dinamica chiaramente in ispirazione Messina ormai è la redinamica che deve controllare il ponte qui vedete l'Union Bridge in Cina vedete che è sufficiente una specie di garei messa a centro quindi un oggettino piccolissimo dello sviluppo di un ponte gigantesco ha ruolo da solo di controllare le vibrazioni e in Sudon Bridge viene gestita questa tecnica abbinando le barriere laterali in stile Messina con il progare centrale per favorire la stabilizzazione del ponte sono proprio le cose su cui Milano la società stretta di Messina ha lavorato per tanti anni e il terzo parametro su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è il ruolo del numero di Reynolds allora il numero di Reynolds deve essere riprodotto delle prove per riprodurre la similitudine con il vero il numero di Reynolds non si riesce a riprodurre nelle prove se voi fate una prova ad esempio in una scala geometrica 1 a 100 se volete rispettare Reynolds dovete fare una velocità 100 volte maggiore cosa che è assolutamente impossibile bene non c'è un ponte al mondo secondo me che è stato realizzato con la coscienza di avere riprodotto correttamente il numero di Reynolds Messina ha tentato in tutti i modi di avvicinarci e l'ha fatto realizzando modelli a grandissima scala come quello che vedete in questa rappresentazione una scala 1 a 30 quindi per un ponte di queste dimensioni un modello gigantesco e poi disponendo ad esempio carta vetrata all'intradosso per simulare l'incremento del numero di Reynolds i risultati sono simili ma non proprio identici e qui entra in gioco un pochino il nostro comitato un promotore di questa iniziativa non si può almeno una volta non fare una prova il numero di Reynolds corretto e ha quell'idea di andare in una galleria criogenica dove anziché cambiare la dimensione dell'impalcato si cambiava la densità del flusso forse per quanto ne ricordo io Pino vi potrà correggere è stata l'ultima decisione del nostro comitato che poi è stato sciolto e quindi non abbiamo potuto vedere questo risultato che sarebbe stato credo l'ennesimo regalo all'ingegneria che Messina avrebbe fatto vorrei dire ancora due cose soltanto su fatti che colloco da un punto di vista temporale successivamente alla fine dei lavori del nostro comitato due fenomeni che forse oggi se mi ritrovassi a ragionare su questi problemi solleverei uno avevo sentito parlare avevo letto di teorie su un galoppo torsionale nella fase di sollevamento dell'imparcato ma non l'avevo mai visto è stato evidenziato per la prima volta circa due anni fa durante le prove sul terzo ponte sul Bosforo dove le prove in galleria del vento hanno evidenziato questo fenomeno di instabilità dell'imparcato durante la fase di sollevamento ecco io credo che questo è un fenomeno che non si dovrebbe sottovalutare laddove si portasse avanti il progetto e l'altro aspetto e tiro un po' di acqua al mio mulino è il problema dei venti locali io partecipai al comitato sin dall'inizio e ricordo benissimo le discussioni si deve tenere conto del tornado sul progetto del ponte fatto il fatto che i nostri tornati non sono questi qua americani non sono neanche parenti però fu detto credo molto ragionevolmente no il tornado è talmente improbabile che certamente non può essere un parametro di progetto ovviamente il ponte deve essere robusto né riguardi di fenomeni estremi ma non si può progettare al tornado e oggi c'è un altro fenomeno temporale che forse ci mette di fronte a posizioni diverse perché il temporale non è catastrofico come il tornado ma è un fenomeno ricorrente le nostre reti di monitoraggio ci dicono che ogni struttura subisce mediamente 3-4 temporali all'anno le statistiche dicono che ogni volta che c'è un grande danno alla costruzione non è un danno prodotto da un vento ciclonico ma un danno prodotto da un vento temporalesco e allora questo è un fenomeno che credo bisognerebbe studiare è una grande cascata d'aria che piove a terra poi si espande in flussi radiali questa cascata d'aria verso il basso è pericolosissima ad esempio per gli aerei mentre i flussi radiali sono pericolosissimi per le costruzioni è un fenomeno complicato anche perché si muove questa cascata d'aria si muove in più si immerge in un flusso di background qui vedete un'animazione che vi dà un'idea di questo fenomeno si vede proprio questa grande cascata d'aria che piove a terra è un fenomeno complesso e diverso dal vento classico il vento classico ha un profilo di strato limite il temporale ha un profilo la forma di naso e guarda caso la punta del naso è circa 70 metri di altezza quindi l'altezza degli impancati dei ponti e poi un fenomeno fortemente triansiente con un picco che evolve in 20-40 secondi e guarda caso il periodo fondamentale dei ponti sui 30 secondi quindi un pensiero a nero oggi forse bisognerebbe farcela noi abbiamo realizzato una rete di monitoraggio che credo sia unica al mondo stiamo collezionando studi su questo fenomeno questa è una delle primissime visualizzazioni di un temporale rilevato da Ulida abbiamo aperto una collaborazione con l'università di Western Ontario dove c'è la più grande galleria del vento al mondo per generare temporali è una cosa assolutamente spettacolare dal mio punto di vista state a vedere cosa sta per succedere in questa galleria che è esagonale con un diametro di 25 metri guardate si scarica questa quantità di aria che si schiaccia a terra e poi esplode abbiamo una collaborazione con l'università tecnica di Eindhoven per la simulazione tramite sia dei temporali che una collaborazione con l'università di Western Ontario sugli aspetti tecnologici e chiudo con un'osservazione ho sentito parlare di acqua che aumenta la temperatura chi l'ha detto? Alberto no qualcuno l'ha detto di acqua che sta aumentando la temperatura viene stato postato recentemente uno studio sui siti dell'associazione europea sulle catastrofi ambientali che ha dimostrato che l'Europa sta crescendo in temperatura e se questo aumento graduale e lentissimo della temperatura si perpetrerà nei prossimi anni entro il 2100 i temporali saranno un evento terribile che sconvolgerà l'Europa e io devo dire con somma di spiacere che Genova ha indicato come il punto più pericoloso in tutta l'Europa nei riguardi di questi fenomeni che quindi dovranno essere tenuti in considerazione grazie grazie Giovanni è sempre affascinante credo rendersi conto quando noi siamo uomini italiani dei donatori di sangue è affascinante perché è l'orgoglio dell'ingegneria italiana che viene accattata nel mondo è una cosa di cui sembra francamente che non ci si voglia rendere conto perché la classe politica dovrebbe essere vogliosa discutere su cose del tutto marginali e invece questo elemento che ci sta impoverendo in una maniera tremenda i migliori dei nostri ragazzi se ne vanno via e non è solo un fenomeno del sud dove è veramente drammatico è un fenomeno che riguarda Genova riguarda Padova riguarda il Politecnico di Milano cioè ragazzi vogliamo andiamo via ecco andiamo via e d'altronde questo è un problema sembra che le diamo sì sì tra l'altro i parametri dell'ambu richiedono la presenza di docenza all'estero che è un rischio ovviamente perché andare all'estero per tornare è una cosa andare per restare d'altronde insomma adesso non voglio entrare in questioni che riguardano l'università grazie Giovanni bello mi sono divertito e quindi insomma anche questo penso che faccia faccia agio a una italianità che non è italianità ecco perché non siamo italiani perché non siamo italiani bene la parola adesso a Giulio Ballio che ha presiduto il comitato scientifico nella fase finale dove credo che nessuno potesse immaginare che ci fosse un suicidio eutanasia di questa di questa questione il professor Ballio non ha bisogno di presentazioni è stato un grande professore di costruzioni metalliche in particolare stato lettore Politecnico di Milano ma recentemente abbiamo avuto modo di stare insieme in un bel convegno sui crolli di affidabilità delle strutture Politecniche dove ci siamo ritrovati ed è un'altra delle mie vittime perché qui ce ne sono parecchi di vittime quando io metto il voto chiamo non so se non vogliono dirmi di no se gli piace venire qui comunque è chiaro che sta diventando un po' un punto di riferimento culturale mi stessi intuati sono quasi visti via va bene finché carica il professor Ballio volevo dire per i partecipanti che il pranzo per chi lo vuole fare qui sopra o si dopano di 10 euro devo considerare 10 euro le portinerie e gli danno lo scontrino se no già pagano i contanti sopra mi spiace è una questione più formale che sostanziale ma credetemi questa è una struttura privata fagli scucire un euro alla proprietà non è semplice io ci riesco perché ho ospitato i miei colleghi ma li ringrazio anche perché non ho potuto pagare il viaggio io ospito mangiare a dormire però il viaggio se non sono pagati loro quindi è veramente un segno di affetto io li ringrazio anche per questo Giulio a te abbiamo solo 5 segni di ritardo quindi non c'è bisogno di steggere troppo io dividerò il mio intervento in due parti nonostante il titolo la prima è trovata considerazioni progettuali sono delle considerazioni di un ingegnere in fronte a questo problema cercherò di essere più rapido possibile e riserò la seconda invece entrerò un pochino in merito questo che questo è il complicolo che mi è stato affidato di ricordare di augurare come era il titolo di come si sono svolte allora partiamo dalle considerazioni progettuali e qua spero che coglierebbe un po' l'ironia di quello che sta dicendo a Venezia nel 1842 dopo 24 anni di discussioni perché si doveva fare un bote sul canale grande al consiglio comunale il cavaliere Monsenigo interviene e dice che in nome della scienza che il Gd fa tanti progressi si parli di attraversamento e non di bote e si costituisca una commissione che studi le tre soluzioni tunnel ponte sospeso guardo te che sei Veneziano da me e quindi attraversare il canale grande per allora era un grosso problema politico non era un problema solo tecnico e a distanza di 200 anni abbiamo un ponte provvisorio che è sempre esistito è un ponte definitivo che non è mai stato costruito non so se questo è un augurio o un'opera che sia comunque sia la situazione Enzo lo sa inizio e allora passiamo ad attraversare lo stretto che più o meno nasce nel 1860 il problema quindi tutto sommato sono solo 140 anni che resta 150 che stiamo scutendo l'altro che è ponte della cadena in cui Zanardelli nel 1876 affermò dall'alto la sua carica politica sopra i flutti o sotto i flutti la Sicilia sia unita al continente sa quasi la frase da Mussolini in fondo se ci pensate con la retorica e allora mi sono posto il problema di dire vediamo come e quali sono i venici come c'è un attraversamento galleggiante c'è un ponte anticampate c'è un ponte accampata unica c'è una galleria flottante c'è un tunnel sottomarino credo che di più non ne possiamo inventare e nei bici sono la navigazione le correnti la sismicità le faglie di cui c'hai eruditi poco tempo fa il vento il fatto che ci debbano passare sopra i treni l'incendio e il terrorismo questi sono grosso modo il quadro di fronte al quadro un ingegnere deve ragionare allora vediamoli l'attraversamento galleggiante è più vecchio perché pare che già i romani l'avessero fatto quali sono i nemici i nemici sono la navigazione le correnti superficiali e la sismicità il limite certamente non incendi alla faglia non c'è travento traffico ferroviario incendio terrorismo sono quelli normali sono i normali problemi di qualsiasi altra costruzione quindi dobbiamo andare per evidente che lo sappiamo fare e non è che sono solo vecchi perché recentemente l'architetto Mortemor ha fatto un progetto abbastanza fantasioso diciamo su quello che potrebbe succedere nel costretto di Messina facendo un tutto un qualche cosa tutto di galleggiare ho messo lui ma ce ne sono altri ovviamente e comunque sia questa non dico che può essere una soluzione non è una soluzione a mio modo di farlo però tutto sommato questa è la situazione io faccio un ingegnere si deve porre i problemi e dire come si risolvono non deve pensare un ingegnere deve fare deve fare il ponte a più campate anche quella è la collezione più tradizionale infatti ce n'è una catena di soluzioni anche molto precedenti quella in alto a sinistra è della fine dell'Ottocento praticamente lo vedete come ho fatto il pilone centrale i suoi nemici sono certamente la navigazione la corrente la sismicità e la geologia perché mettere un pilone in mezzo a quel pasticcio che ci ha fatto vedere il mio amico Prestininzi chiaramente è un problema per quanto riguarda vento traffico ferroviario incendio e terrorismo sono quelli normali che hanno tutta la costruzione ponte a campata unica e ponte a campata unica che quello è vecchio è vecchio del 1960 con delle persone che l'hanno ideato molto note e famose qui vedete la soluzione dei perrucinerri i nemici che diventano via la navigazione via le correnti via la sismicità via le faglie perché tutto sommato a parte quella dei titoli che ci ha spiegato tutto sommato sono risolvi il resto avvento il traffico ferroviario incendio e terrorismo sono relativamente molesti se un missile lo colpisce distruggerà un pezzettino di un palcato però tutto sommato non è qui vedete il ponte a campata unica di Sergio Gusmeci che è il vincitore del concorso per idee nel 1960 poi c'è la galleria fruttante la galleria fruttante arrivò anche quella nel 1960 intorno al concorso sulla idee fu proposta dall'ingegnere inglese l'ingegnere Grant e che nemicia della navigazione no c'è un grosso nemico che è la corrente è un grosso nemico il traffico ferroviario è un grossissimo pericolo è l'incendio come di te le galleria e il terrorismo perché anche se l'idea ha avuto un certo successo anche se vedete l'immagine del Transatlantic Tunnel Concept tutto sommato non è ancora mai stato realizzato nonostante i tentativi di chi poi rilevò il prevetto di questa idea cioè di una scena di Napoli e sia stata studiata sia per l'attraversamento del lago di Como sia per l'attraversamento di un lago che non so come si chiama in Cina non è ancora stato realizzato sia per l'attraversamento dei fiordi norvegesi non è mai stato ancora realizzato un prototipo piccolo che si facesse e che forse un po' di esperienza certamente dovrà essere cambiata fortemente per quanto riguarda incendio e terrorismo almeno di una cosa che una soluzione del genere serva e venga utilizzata unicamente per il passaggio delle merci e non per il passaggio delle persone allora in questo caso il problema diventa un problema assicurativo un problema lo si risolve comunque perché noi giustamente siamo incapaci e non dobbiamo quantizzare il valore della vita umana delle persone e quindi cambiano tutti i parametri di sicurezza cambia tutto e diventano delle specie di pipeline in cui si gettano le merci e si fanno passare da una perché si gettano da una parte e si raccontano da una parte e poi c'è il tunnel il tunnel a Messina diventa praticamente impraticabile per la sismicità e le faglie che ci sono ha come nemico il traffico ferroviario ha nemico l'incendio come tutte le opere ferroviarie di tunnel sufficientemente a Messina sostanzialmente è anche sembra un po' uno spreco perché tutto sommato ci vorrebbe perché ho detto traffico ferroviario perché il traffico ferroviario vuole delle pendenze modeste e allora ci vogliono 50 km di tunnel per attraversare 3 km di mare è questo il concetto ma comunque sia e allora è venuta la campata unica è venuta la campata unica progettualmente avete visto da questo quadro di possibilità tutto il sottomato che appare alla figura giurale che ha ripeto come nemici il vento e il traffico ferroviario quali sono questi nemici prima Giovanni Solari ha fatto vedere animato io vi ho messo il 6 live è il flutter del punto è sospeso poi ce ne sono comunque sia che ho nemico per fortuna nessuno si conosce perché rifare quante volte Giovanni sei volte lo stesso ponte tre volte lo stesso ponte credo che nel caso di Messina non sarebbe stato onorevole e di fronte ai quali ripeto soltanto delle cose per fissare le idee il ponte più lungo del mondo in questo momento la Cascica Ico l'ha risolto di nuovo facendo un imparcatto torsionalmente rigidito vedete qui le immagini e invece il ponte di Messina la soluzione di Messina e i punti successivi lo risolvono molto più economicamente con un imparcatto aerodinamico che come vedete ha subito un certo numero di evoluzioni perché da una prima concezione di questo genere siamo passati poi a questa e poi a questa con la grande cura dei particolari di tutte anche i carrelli come ci ha detto Giovanni Solari è importantissimo per queste cose e ricordiamoci che in questo momento c'è anche una valvola di sicurezza in una soluzione del genere perché non si è mai parlato ancora per ora di controllo attivo di questi botti che è una sicurezza abbastanza per il 2 flat 2 flat anzi in termine aerodinamica sul tempo che migliora ulteriormente le performance non so non so il segno di progetti che tu sei fatto vedere se l'ho già concepito o no è l'arma di riserva che gli ingegneri c'hanno in tasca nel caso in cui tutto sommato uno di questi punti potesse portare qualche piccola poi qualche piccolo disturbo durante le fasi di servizio e il traffico ferroviario perché è un grosso nemico beh perché innanzitutto bisogna limitare la deformabilità con le pendenze ricordiamoci che i molti sospesi più lunghi sono più si abbassano e si alzano in funzione del carico poi c'è il problema vicidiale della fatica e la fatica come sapete la fatica dei materiali e soprattutto dell'acciaio è legata al numero di cicli in cui i carichi si ripetono e qui abbiamo per colpa del treno una sovrapposizione di tipologie diverse di cicli nel senso che un ciclo è il treno che dà quindi fatica sui carichi e sui suoi ancoraggi fatica è il vagone che dà ovviamente su una scala tra pendino e pendino del treno o di alcune parti dell'impaccato e poi l'altro è la ruota che allora sempre con carichi minori ma con cicli molto maggiori e la ruota rende particolarmente sensibili a questo problema i particolari costruttivi l'attacco rotaia ponte dei collettivi del ponte quindi tutto sommato è tutto un discorso di ricerca di particolari sensibili alla fattura e poi c'era la navi di cioè il comfort dei passeggeri che non amano essere squattuti quando vanno sul tempo che era un problema tipico dell'altra legge bene adesso passo ai lavori del comitato scientifico a parte la condizione che in Chile e Petra c'era un certo numero di noi che eravamo stati scelti dal ministero più rappresentanti dell'ANAS e rappresentanti dell'NFI qual era il contesto e il contesto questo è l'opprese dalla relazione che ho fatto al Consiglio d'amministrazione della società quando abbiamo licenziato il progetto è questo in un qualsiasi progetto di ingegneria civile le possibili criticità sono quello più riconducibile agli errori umani che la letteratura tecnica statunitense riconduce a deviazioni da frassi comunemente accettate e di frassi superficialità o mancanza di sufficienti conoscenze nel trattare un problema specifico e certamente all'origine conoscenze ce ne erano poche poi ce ne siamo fatte tante non è che non più qual sia la cosa mancanza di trasmissione di informazioni tra gli operatori e questo sicuramente è un problema generale di tutta l'ingegneria influenze o condizionamenti da parte di fatti o persone estranei al problema tecnico quale ad esempio il rispetto del budget dei tenti e di scelte commerciali di donne e tale criticità possono essere esaltate in un progetto innovativo quale l'opera di attraversamento quindi questo era il tema secondo punto del contesto le possibili criticità comprendevano la disomogeneità qualitativa di attività progettuali differenti perché anche l'attività progettuale era ripartita tra tanti operatori e nello stesso operatore più grosso cioè la COWI ogni settore operava per conto suo che è un classico problema delle società di ingegneria che ogni tanto porta ad un disastro spaventato il trasferimento quindi dalle informazioni tra i diversi operatori la mancanza della definizione dello scenario dei rischi la completezza e la congruenza dei modelli di calcolo ognuno usa i suoi modelli di calcolo senza curarsi che quello del bisogno sia cosa la rappresentatività dell'approccio sperimentale la competenza e la condivisione dei dati il controllo dei risultati e la mancata considerazione dei problemi di montaggio di esecuzione di durabilità della costruzione questo è un quadro generale che vale per tutte le costruzioni non per il ponte di Messina sia ben chiaro per minimizzare i rischi di tale criticità la società concessionaria sulla stretta di Messina aveva fatto un discorso che ci siamo trovati come comitato scientifico molto intelligente cioè aveva ritenuto di dotarsi di un operatore indipendente detto project management consultant chiameremo PMC che garantisse la necessaria assistenza tecnica per tutte le problematiche amministrative gestionali e ambientali in tutte le fasi della progettazione però gli ha dato un compito in più quello di avere la responsabilità di effettuare un controllo indipendente e autonomo dell'opera di attraversamento cosa vuol dire? vuol dire che in definitiva la società aveva richiesto che l'opera di attraversamento fosse progettata in doppio cioè da un lato c'erano i progettisti con traente generale che doveva produrre tavole di progetto e relativi calcoli che dimostrassero che il progetto era conforme alle normative dall'altra parte c'erano degli altri signori che non dovevano anche parlare con lui che prendevano le tavole e gli rifacevano tutti i conti con dei metodi totalmente indipendenti e i risultati di questi conti dovevano essere altrettanto favorevoli dei primi magari davanti dei numeri diversi ma comunque dovrebbero essere totalmente favorevoli questo vuol dire progettare in doppio e vediamo che questo tipo di progettazione che in tanti campi è anche abbastanza adottata ormai porta l'unico controllo perché voi vi dovete rendere conto che qualsiasi opera di incidire di civile non è è un'opera unica è un prototipo che deve funzionare non è un'automobile che fa 10.000 20.000 30.000 chilometri camuffato per le strade prima e poi gli si è giusta la portiera la cerniera e gli si resta pronta una cosa o l'altra prima di renderlo al mercato commerciale è un'opera che deve funzionare ed è un prototipo a questa a questa organizzazione di due colossi che dovevano fare questo lavoro aveva i propri tecnici la società e aveva un pannello di esperti che erano Giorgio Diana e Zio Faccioli Michele Amurkowski e Sasha Canale per le varie problematiche con il compito di assistere la società per eventuali inadeguatezza di quanto prodotto dal contraente e possibili discrepanze tra i risultati ottenuti dal contraente e quelli prodotti dall'altro e allora cosa ci stavamo a fare noi cosa faceva il comitato scientifico beh il comitato scientifico aveva certamente un compito formale di certificare il consiglio di amministrazione che l'intero processo di verifica di dimazione e validazione del progetto definitivo era stato svolto in modo completo e corretto senza sovrapporsi alla responsabilità degli altri attori convolti quindi noi dovevamo dire che andava bene senza coinvolgere le nostre responsabilità questo operato l'idea formale da parte dei ministeriali di quello che dovevamo fare in realtà ci siamo portati in maniera totalmente diversa dovevamo ci siamo dati il ruolo di svolgere una funzione di stimolo nell'esame di problemi che a nostro giudizio poteva richiedere o doveva richiedere approfondimenti tecnici da parte del progettista e dovevamo controllare che il DMC facesse il suo lavoro cioè che lui non le dicesse sì ho fatto i calcoli ma lo vede no? facci vedere quei calcoli facci vedere che cosa hai fatto dici l'approccio eccetera e che questi calcoli fossero fatti con un grado di indipendenza competenza e livello qualitativo di indentare ci siamo divisi in gruppi struttori sostanzialmente erano sei modellazione del sottosuolo completezza e congruenza dei modelli numerici sismica del ponte in esercizio durante il montaggio aerosticità del ponte in esercizio durante il montaggio gallerie sicurezza in esercizio monitoraggio ambientale di tutte le opere che scudevano il ponte che come avete visto già dagli accendi che sono stati fatti valgono quanto il ponte quindi tutto sommato sono altrettanto importanti e poi la verifica di tutte le strutture metalliche e in cemento armato relative alle strutture eravamo 9 più 2 11 abbiamo lavorato per 8 mesi questo è stato l'unico condizionamento che abbiamo avuto non potevamo avere il tempo se non dovevamo pagare poi le penali per le cose abbiamo fatto 13 milioni plenarie e in 6 gruppi struttori abbiamo fatto circa una trentina di milioni dei gruppi struttori che poi riferivano al panel generale abbiamo emesso un parere di 107 pagine con 9 ammessi di cui comprendo una checklist di cui adesso vi parlo e corredata anche da tutti i relativi commenti e risposte ad uso del consiglio di amministrazione quindi abbiamo dato un'informazione dettagliata circa la rispondenza del progetto definitivo alle specifiche tecniche della società e le questioni per i quali il progetto definitivo consegnato dal contraente rimandava la completa soluzione alla fase di progettazione esecutiva questo cosa vuol dire beh vuol dire che il progetto definitivo in termini legali è un progetto che deve essere portato a un livello tale e in questo caso c'erano circa 10.000 una pagina di elaborati fra disegni relazioni di calcolo eccetera una massa che stava dentro in una stanza grande in due stanze mi sembra perché era anche in doppio e che doveva deve avere le caratteristiche di essere realizzabile e di avere un budget di costi attendibile questo lo dice la legge non ci siamo limitati a questo perché formalmente potevamo dire guardate che con tutto il lavoro che è stato fatto con tutte le tavole che ci sono sicuramente più o meno di noi e quindi abbiamo detto prima di tutto dobbiamo nel parere dire se questo progetto risponde non solo a questi requisiti ma anche ai requisiti che le specifiche tecniche della società aveva ammesso che erano molto uguali la seconda è che dovevamo mettere in evidenza tutto il discorso di tutte le richieste e le conseguenze risposte date alla project manager consultant cioè all'organizzazione di controllo e la terza era tutti i commenti e le richieste di approfondimento nei riguardi degli elaborati di progetto che era stato svolto da noi stessi e che tutto sommato un certo numero ce n'erano perché tutto sommato c'era sembrato che alcune cose non fossero bene approfondite in certi aspetti pur è però che se anche fossero stati cambiati determinati particolari costruttivi o la distribuzione degli spessori nell'imparcato o quant'altro queste non cambiavano questo era il compito che avevamo non cambiavano il prezzo del ponte questo era il discorso allora abbiamo richiesto e controllato intanto che il PMC da questo dal punto di vista formale attestasse la congruenza degli elaborati prodotti con i singoli dettami delle specifiche tecniche individuassero sempre il PMC di eventuali sviluppi procedurali rimandati ed evidenziasse se la presenza di un rinvio alla fase di progetto esecutivo potesse essere tenuto in influente ai fini della dimostrazione della realizzabilità e funzionalità dell'opera e della valutazione dei suoi costi cosa vuol dire questo è chiaro che tante volte le cose che secondo noi non andavano benissimo nel progetto non le dicevamo direttamente ai progettisti perché non era quello il compito lo dicevamo ai contruori dei progettisti i quali poi non le dicevano ai progettisti era una catena un po' di San Antonio però tutto sommato da un punto di vista formale era corretto così poi noi abbiamo formulato certe richieste di approfondimento la maggior parte di queste richieste e di commenti erano state annunciate sia a TMC che ai progettisti nelle varie riunioni che avevamo avuto e quindi abbiamo chiesto che se non altro i progettisti le prendessero in carico dando un'eserogliente risposta a queste richieste di approfondimento esaurite risposta voleva dire vi state sbagliando cosa che non è mai successa oppure avete ragione adesso facciamo gli approfondimenti oppure avete ragione però non possiamo fare i tempi utili gli approfondimenti li rimandiamo alla fase successiva questo per farvi un esempio era relativo a due attività sperimentali che erano che avevamo giudicato essenziali la prima ne ha già parlato Giovanni Solari era quella di provare un pezzo di ponte o un modello di ponte in una galleria criogenica e poi perché comunque in un'altra galleria andava provato il ponte ma tutte le gallerie del mondo non potendo usare più quella del Politecnico di Milano perché doveva essere una seconda non erano occupate per circa un anno quindi dovevano essere fatte dopo la seconda erano delle attività sperimentali sulla fatica del coppiamento tra rotaia ponte e materiali particolarmente innovativi per tale cose che richiedevano delle proprie a fatica che si trangono su molto per un certo mondo le conclusioni del parere quindi furono in un certo senso totalmente positive cioè primo il progetto può essere considerato un progetto definitivo e questo era quello che è così come è stato presentato in quanto tutte le attività che avevamo anche richiesto per fare alla fine del progetto esecutivo ma a valle del nostro parere non ci sono passi influenti al fine della determinazione degli aspetti tecnici e dei costi dell'opera nel suo complesso la seconda è che questi approfondimenti numerici e sperimentali che hanno indicati dovevano essere fatti prima di partire con la costruzione del ponte poi dopo le fasi successive hanno dimostrato che non erano così urgenti ma si ha una vera importanza cioè per rispettare i tempi previsti gli approfondimenti elencati nel parere dovranno essere svolti prima di iniziare la progettazione esecutiva e alla fine questa è l'ultima slide prendo come ho fatto una citazione dell'ottocento ne prendo una del 971 che non è del tutto scientifica che sarà che sarà che sarà da domani si vedrà quel che sarà un grande appunto di un caro grazie Giulio abbiamo un po' più per ecco vi chiederei di guadagnare qualche minuto che è difficile e verificare quello che dico però una piccola notazione la vorrei fare forse ne parlerà il legge Fiammenghi c'è tutta la componente procedurale di controllo questa questione della mafia la tracciabilità beh anche qui credo che si possa parlare di un messina type in qualche modo è una prodotto di utilizzazione di quello che poi l'ANAC stessa ha in qualche modo orientato cioè era già tutto previsto perché non ci fossero veramente elementi che potessero scappare questa questione della mafia la mafia è interessata agli scavi non è interessata certamente ai cavi che hanno un livello di sofisticazione elevatissimo ecco posso anche dire che sul Sutonca ci sono stato con mia moglie finché stavano finendo la torre una delle due torri e quindi ho una vista nel ponte in costruzione e poi ho avuto il piacere di percorrerlo tre giorni prima dell'apertura perché uno dei progettisti di Shanghai sapete che a Shanghai ci sono un certo numero di gallerie del vento e Iron Chang e per dire che c'era una competizione questo solo come aneddoto tra il Sutong e lo Stonecutter lo Stonecutter è partito un anno prima ed è finito invece un anno dopo il Sutong è stato aperto a un premisi di anticipo però oggettivamente la qualità esecutiva del Sutong non ha paragoni no del Stonecutter non ha paragoni rispetto al Sutong per cui velocità sì però controlli controlli che sono stati fatti sul Sutong non sono stati fatti sullo Stonecutter proprio io l'ho anche visitato accompagnato dal progettista anche della Harup che è il capo progetto del mondo dei punti Nan Rae Musen che ho invitato qualche anno fa quando ho fatto The World of Bridges a Venezia credo nel 2001-2002 giustamente ci prendiamo un caffettino siamo al piano primo quindi dovete fare solo un pianetto di scale caffè qualche avriuscina sono generi di primo conforto grazie ancora poi ci siamo frequentati in quel periodo e ho vissuto insieme anche le ultime vicissitudini se la facciamo non ce la facciamo bene Giuseppe degli avvicettino aveva capelli ragione è invecchiato precocemente intanto ti ringrazio tu sai che sono venuto con piacere perché normalmente non vado facilmente in giro per non ripetere o ricordarsi di storie sofferenze però è stata un'esperienza bellissima oggi di vedere i professori che hanno lavorato sul ponte insieme a me con me devo dire mi devo ritornare una persona assolutamente fortunata è stato un momento straordinario che ho vissuto con passione e con c'è un ricordo bellissimo chianto male c'è un ricordo bellissimo io come diceva Enzo sono stato direttore generale della società stettore messina dal 2002 al 2012 10 anni e la società stettore messina era questo è un aspetto che comincio a accennare una società concessionaria quindi era una società che aveva una concessione con il ministero delle infrastrutture per la progettazione costruzione gestione dell'opera dico opera non dico ponte perché come vedremo è molto più interessante e complicata che non il ponte stesso oggi il mio intervento è concentrato soprattutto sull'idea di far capire come un'opera di questa importanza sia stata negli anni da molti anni indietro condizionata pesantemente dal ruolo e dall'atteggiamento della politica lo anticipo tra le tante cose che abbiamo fatto per il ponte c'è stato un progetto importante di analisi del rischio c'è un rischio tecnico rischio vento rischio terremoto rischio il rischio più importante che è emerso come punto numero uno è stata la politica cioè se c'era un motivo vero per cui il ponte alla fine correva il rischio di essere fatto era dovuto alla politica ecco il mio intervento vorrebbe ripercorrere questa storia non comincio nell'ottocento però diciamo che la parte moderna del ponte nasce della storia del ponte che non l'ho chiamata nasce negli anni 50 quando si forma una prima società che si chiama l'associazione gruppo Ponte di Messina su iniziativa dell'associazione costruttori acciari italiani che decide che decide di investire per studiare il ponte e l'attraversamento a quel tempo si diceva l'attraversamento da un punto di vista tecnico ma anche sociale ed economico cioè l'idea non era di realizzare un attraversamento fino a se stesso ma di capire come l'attraversamento poteva incidere sulle realtà locali sulle realtà nazionali sulle realtà meridionali tutto questo viene portato avanti fino a quando l'aveva già accennato nel 69 Annas e Ferrovie che sono le due realtà più interessate naturalmente di questo genere bandiscono ah scusino sto andando avanti con le depositive mi emozione mi distrago siamo qui decide di bandire un concorso di idee un concorso internazionale questo è un altro aspetto interessante cioè in un'area del paese in cui alcune imprese italiane fanno fatica a lavorare il ponte scostretto aveva tratto le migliori risorse mondiali internazionali e già nel concorso di idee vengono presentate 143 proposte e ne vengono premiate 12 e qui si capisce il concetto lo studio che partiva senza condizionamenti c'erano 9 ponti una galleria in albero una galleria appoggiata su fondali ed una galleria su barbio c'era questo l'abbiamo già parlato l'ha già vista questa diapositiva quindi non mi soffermo ma evidentemente come si diceva di arrivare 50 km di ferrovie per attraversare 4 km di per sé già strano pure ancora oggi sembra strano ma c'è qualcuno che in giro per l'Italia racconta che forse la soluzione più interessante potrebbe essere quella di realizzare una ferrovia tra le soluzioni di attraversamento aereo si è nascita ora alla fine due una a due campate con una pila in acqua e l'altra quella che poi verrà definidamente approvata considerata più conveniente è la campata unica di 3.300 metri per realizzare e per studiare queste diverse alternative era stato formato un concerto in bordo di cui il professor Moratti era diciamo il responsabile quindi fin dall'inizio con grande lecità si è deciso di studiare e valutare quale fosse la soluzione migliore per l'attraversamento del ponte arriviamo al 96 qui comincia la politica a dare le prime segnali Romano Prodi che poi avrà un ruolo molto più importante in avanti lo vedremo decide e afferma che il ponte è una perte lui al tempo era presidente del consiglio di ministri e decide e dice che dovrà essere realizzato a più presto quindi sulla base di questa decisione il progetto che nel frattempo era stato elaborato dalla società viene portato all'attenzione di due grandi a base internazionali viene fatto un bando internazionale per verificare se gli studi fossero completi accettabili e fattibili e vincono due cordate una è Steinmann International statunitense e l'altro è una che doveva occuparsi appunto degli aspetti tecnici e l'altro è la price poter arse cooper che doveva occuparsi invece di aspetti finanziari ed economici io non abbiamo ancora tentazione di portare tutto il testo dell'approvazione di Steinmann mi limito a dire che Steinmann alla fine del rapporto sottolinea che il livello e la qualità degli studi condotti sono ad un alto livello e definisce il progetto realizzabile ed efficiente a quel punto non ci sono più dubbi sulla fattibilità dell'opera e si trova lo slancio per avviare la progettazione del ponte anche se sono passati ormai già 30 anni da quando si parlò dell'interesse di realizzare quest'opera di attraversamento e 15 anni da quando Bettino Cran si disse che il ponte si sarebbe realizzato in pochissimo tempo superato quindi la posizione e il controllo tecnico delle società appunto Steinmann e PricewaterhouseCoopers inizia il periodo che io l'ho definito dal 2001 al 2013 quindi è il periodo che mi coinvolge direttamente e c'è interessante notare come nella campagna elettorale del 2001 sia Berlusconi da una parte che è Francesco Lutelli dall'altro inseriscono il ponte nei loro programmi politici come sappiamo in quella tornata vinse Berlusconi e stretto di Messina la società viene pesantemente investita nel portare avanti il progetto il progetto del ponte cioè si trova una nuova fase di rilancio nel 2001 naturalmente questo progetto deve recepire e deve riaggiornare tutte le diciamo le prescrizioni le affermazioni le decisioni prese durante tutte queste fasi in particolare dalla Stagma poi c'è un momento che secondo me lo definisco straordinario perché dopo la formazione politica nazionale che il ponte è un'opera prioritaria è l'Europa che lo definisce prioritario cioè l'Europa nel 2003 inserisce e guarda caso in quel tempo si chiamava Corridoio numero 1 e credo che ci fosse un motivo per definirlo numero 1 fa allora si chiamava Corridoio Berlino-Vadero come le opere prioritarie su cui andavano concentrati gli investimenti europei quindi in quel momento sia la politica nazionale che la visione europea avevano definito il ponte opera di preminente interesse a questo punto anche sulla base e questo devo dire è un momento interessante perché quando viene avviato col governo 2001 e neanche vuol dire emanata una nuova legge la cosiddetta legge obiettivo che io quando l'affrontai aveva certamente alcuni aspetti che facevano riflettere ma devo dire era una delle prime volte in cui a fronte di un'opera eccezionale si era pensato di emanare una legge coerente all'eccezionalità dell'opera e quindi la legge obiettivo doveva riguardare soltanto quelle opere di certe dimensioni che fossero prioritarie per il Paris poi naturalmente la politica in base alla legge obiettivo da 18 opere o 20 opere che dovevano essere diventavano 300 opere ci finì forse pure qualche rotonda dentro la legge obiettivo e quindi si è svuotata però nella legge obiettivo c'erano elementi che permettevano alla stazione appartante al committente che eravamo noi di operare in maniera consona alla dimensione e all'importanza dell'opera quindi sulla base di questo noi realizziamo approviamo il progetto preliminare e portiamo avanti questo andiamo avanti eccolo qui approviamo il progetto preliminare che tra l'altro viene realizzato in pochissimo tempo e soprattutto viene approvato in pochissimo tempo cioè questa è la conferma che se il sistema politico il sistema approvativo ha una sua convinzione nella realizzazione dell'opera poi i tempi e la prograzia diciamo si risolvono in maniera accettabile quindi noi in due anni allora riuscimmo a fare il progetto preliminare a fare lo studio di impatto ambientale avere i pareri del ministero dell'ambiente e avere il progetto approvato dal CIP che diciamo considerando i tempi normalmente che occorrono per questi tipi di opera fu secondo me un momento di grande straordinarietà fatto quello si si immaginò e lì è una delle diciamo delle parti più delicate in cui poi parlavo un attimo fa anche il professor Baglio la struttura organizzativa che fosse coerente con l'importanza dell'opera e con i danni conseguenti all'inefficienza cioè si può sbagliare su un'opera piccola ma se si sbaglia su un'opera di queste dimensioni i danni possono essere insopportabili quindi si immaginò una struttura che individuasse anche le figure assolutamente nuove nel panorama italiano oggi parliamo normalmente di project manager in pozzato io vi posso assicurare che la prima volta che proponiamo questa figura non solo all'interno della società ma anche presso i ministeri presso ANAS presso gli azionisti che ci sono ottimi c'è la direzione lavori esiste l'Italia esiste il progettista la direzione ma che cos'è sto proprio fiammiglio non è impazzito un doppio costo e oggi diciamo è un concetto che a livello nazionale questa è una delle cose che va netto al ponte quando parliamo di comitato scientifico all'interno della struttura ma dice ma c'è c'è il consiglio superiore ci siamo ci sono gli azionisti ma voi che fate se c'è il comitato scientifico non veniva neanche capito quando si parlava di da chiedere al progetto al progetto del manager è costato una progettazione in doppio cioè una riprogettazione indipendente del progetto del ponte ma questo si fa per andare sulla luna ma non mai su un'opera infrastrutturale bisogna fare una cosa del genere ecco questo è interessante perché un'altra cosa in cui sono orgoglioso e voglio trasferirvi quando abbiamo fatto la gara adesso vedrete stiamo parlando delle tre gare più importanti in Italia realizzate per dimensione noi abbiamo fatto una procedura e questa è poi la struttura che descriverò una procedura in qualità cioè abbiamo certificato in qualità le gare cosa mai fa dell'Italia devo dire immaginate che tipo di sollecitazione e che tipo di verifica abbiamo subito da parte di altri soggetti che venivano a controllare ma non hanno mai avuto nulla da dire cioè perché? perché avevamo affrontato il tema con logiche e metodi straordinari io mi ricordo una battuta se volete chiamavo e mi dicevo ragazzi dovevamo immaginare che noi stiamo affrontando come se invitassimo a cena l'argento in Inghilterra in Inghilterra e il Papa per quante sceglie abbiamo fatto per quante pranzi abbiamo fatto per quante esperienze abbiamo fatto dobbiamo immaginarci qualcosa di straordinario di nuovo quindi se da una parte c'era gli scienziati io li chiamo che affrontarono il tema tecnico a livello scientifico da l'altra parte ci doveva essere un sistema gestionale adeguato all'importanza del progetto e questa è l'organizzazione che è venuta fuori tra l'altro è un'organizzazione che io ho imposto fin dall'inizio con un requisito cioè la società stessa di mezzina deve essere una società snella una società leggera una società che avesse soltanto capacità gestionale capacità di indirizzo ma la parte di verifica la parte di controllo anche con le possibilità che sono dedicate a chi di messiere privato dovevano essere dedicate e quindi qui ci sono delle figure importantissime che c'è accanto c'è il comitato scientifico figura straordinaria che è come se fosse il consiglio superiore dell'amore pubblico all'interno dell'azienda cioè il soggetto terzo che ci garantisce le cose c'è il project management c'è il monitore ambientale che è un'altra figura che poi vedremo più avanti che affronta il problema dell'ambiente e del territorio con metodi strumenti assolutamente innovativi il concetto di aria vasta il concetto di monitoraggio ambientale territoriale e sociale nasce in Italia con le ponte sull'ostituzione semplice due parole per darvi gli importi e i soggetti che hanno partecipato a questo lavoro per il contratto generale questa figura nuova che ci ha compiti un po' diversi rispetto all'impresa tradizionale il contratto generale progetta anche la direzione lavori quindi per questo creiamo anche il project management per compensare questo ruolo così preminente che assume il contratto generale al suo interno aveva i giapponesi al suo interno aveva i danesi al suo interno aveva gli spagnoli cioè era il mondo che si muoveva per partecipare in Italia al ponte scostretto tra l'altro c'è una battuta che diceva sempre il mio presidente San Berletti sul ponte diceva ma non dobbiamo avere paura degli stranieri fiamminghi perché vedi vengono in Italia si comprano un marchio e se lo portano in Cina vengono in Italia si comprano un prodotto e se lo portano dall'altra parte ma il ponte non ce lo possono portare via se vengono qui ci aiutano a farlo il ponte è lì restato il contratto per dirvi con il contratto generale era un contratto di 4 miliardi che poi è stato affidato a 3 miliardi e 9 il contratto con il project management era un contratto di 120 milioni che poi è stato di 150 scusate che è stato affidato a 120 milioni il monitore ambientale e il riedito del numero di finanzi sono americani è la parza del transportation e il monitore ambientale che era nati con l'affidatario finisce era un riporto di 37 milioni affidato a 29 milioni quindi 3 contratti tutti in dimensioni assolutamente straordinari io dico qui una battuta e poi forse riprenderò più avanti tra i nostri grandi nemici abbiamo degli ambientalisti io non so adesso quali ci sono quindi tra Messina e Reggio ma insomma certamente se c'è una cosa viene trascolata e una trattata da quelle parti è proprio l'ambiente si ritrovano la possibilità di un investimento di 30 milioni tutto dedicato all'ambiente e al territorio e si contesta cioè credo che sia una follia di cui ancora oggi dopo tanti anni non riesco a fare una ragione perché i 30 milioni sull'ambiente non ci sarà come il che avrà le risorse mai per dedicare si adesso ci arriviamo a un certo punto mentre tutto sembrava che fosse ormai indirizzato verso una fase di di completamento nel 2006 cade il governo Perusconi nel 2006 cade il governo Perusconi e vince il governo un prodotto e lì insomma io ero già grande a quei tempi esce fuori una formula politica che mi lasciò perplesso cioè definisce il ponte non più una priorità cioè non dice non si fa più non dice non è più una priorità lasciando una società con tre contratti in quelle dimensioni firmate con una struttura marchionizzata in una specie di limbo per farla breve viene smantellata la società i contratti vengono messi in sicurezza perché i contratti ormai non firmati di quelle dimensioni in attesa che succeda qualcosa e qualcosa succede quando nel 2008 cade Prodi e viene eletto di nuovo Perusconi cosa succede? dopo 15 giorni che il governo Perusconi torna in carica ci arriva la lettera del concedente a firma ministro Mattioli ripartiti di corsa io non so se ho soltanto l'idea di che tipo di giocattolo stava che tipo di treno era in corsa riparti da campo ritratta tutti i contratti di quelle dimensioni cioè chiama l'impresa dice adesso guarda dopo due anni di fermo ripartiamo i giapponesi erano impazziti non savano più che cosa dire che cosa fare comunque faticosamente nel 2009 si riesce a realizzare a mettere i progetti i contratti di nuovo in condizioni di accettabilità rinnovare la convenzione rinnovare il piano finanziario e si riparte devo dire si riparte con grande con grande impegno e qui è anche la fase in cui con questo comitato scientifico abbiamo potuto lavorare insieme perché si parte con la realizzazione del progetto definitivo e con i studi di impatto ambientale adesso vi faccio vedere questa slide che poi la rivediamo più avanti per farvi capire le dimensioni del progetto spesso si parla di ponte le persone anche i politici televisione i media il ponte il ponte questo era un progetto che riguardava l'area dello stretto e poi vedremo come riguardava il meridione riguardava l'Italia e poi anche l'Europa cioè io a volte la racconta mi piace molto non so se è significativo però il ponte dello stretto è un oggetto che se noi lo guardiamo da 10.000 metri di altezza è un puntino che collega Berlino con Palermo e adesso con Malta c'ha questo ruolo è un corridoio europeo scendiamo di quota è l'alta velocità del sud adesso qui siciliani se non si fa il ponte non ci sarà mai l'alta velocità di Sicilia perché se no dovremmo fare anche in Sardegna voglio dire non conosciamo il senso soltanto se no fra un po' se tiriamo anche l'ala e poi se scendiamo ancora più di quota è un ponte che collega le due sponde di un grande fiume in cui ci sono due città che potrebbero diventare due quartieri di una futura grande città e questo è il senso del ponte io non ho mai sentito dire non si fa la galleria di base tra Firenze e Bologna se prima non si fanno le strade verso Bologna o le strade verso Firenze è parte di un collocamento tra Firenze e Bologna e non capisco quelli che dicono prima bisogna fare le ferrovie le strade due lati e poi il ponte anche perché i tempi del ponte sono compatibili con i tempi per realizzare le ferrovie le strade di Sicilia e Calabria quindi è un progetto una visione che va affrontata tutti insieme però noi di danni e noi il sistema e i danni non ha fatto soltanto quello che ne ho raccontati ma ne ha fatti ancora di più perché? perché c'è un progetto che spesso va alla cronica perché Crozza si diverte tanto a farlo vedere e lo mette tra le incompiute è la variante di Cannitello la variante di Cannitello è una linea ferroviaria che attraversa una strada che dire ambientalmente un'area di ambientalmente di questa strada in dire poco che andava spostata la vedete della diapositiva questi due palini rossi per permettere di realizzare sulla sfonda calabrese le pile del ponte era parte di un importantissimo progetto di riqualificazione di quell'area territoriale una volta che il ponte fosse finito noi siamo abbiamo fatto un tempo siamo stati bravi abbiamo rispettato i programmi la ferrovia è stata spostata proprio nel momento in cui doveva cominciare la costruzione ma nello stesso momento ci hanno fermati questo è oggi Cannitello è quello che fa vedere Crozza un'opera terrificante che ha distrutto territorio che è costata 26 milioni di euro e che non si sa cosa faccio io fossi il sindaco di Villa San Giovanni ma lui lo sarà certamente sarà disperato cioè perché il futuro doveva essere questo il futuro doveva essere questo il centro direzionale a Piale in Calabria su questo progetto ci ha lavorato Libeskin io credo che tutti conosciamo chi è Libeskin quello che ha fatto il museo dell'olocausto a Berlino e quello che ha fatto Lettori Gemelli che quando siamo riusciti a coinvolgerlo su questo progetto ha trasmesso un entusiasmo e un'idea di futuro che ci ha contaminato e lui ha progettato quest'idea questo ring con due ideali deve diventare il ponte e questo punto il centro delle culture del Mediterraneo è il centro in cui le rete religioni l'ebraismo e i musulmani diciamo e i cristiani si incontreranno e questo cerchio che vedete rappresenta e simboleggia questa idea di unità del Mediterraneo di ruolo del Mediterraneo che non è soltanto giustamente un ruolo legato e trasforma un ruolo di cultura di civiltà e di confronto tutto questo è stato è stato bruciato l'altro elemento che voglio farvi vedere è il concetto dell'ambiente perché secondo me è un altro elemento qualificante cioè il ponte di per sé il progetto del ponte porta dentro di sé 5, 6, 10 grandi progetti ognuno per la sua specificità tra i più importanti realizzabili nel mondo abbiamo sentito a parlare di venti o di terremoti e l'ambiente è uno di questi temi io devo dire quando ho affrontato il tema dell'ambiente normalmente se vedete le organizzazioni l'ambiente è sempre messo come si dice a staff a bandiera a supporto delle altre attività per me l'ambiente era la terza gamba della mia organizzazione cioè c'era il ponte c'erano i collegamenti ferroviari e stradali e c'era l'ambiente con la stessa dignità di chi progettava il ponte e di chi progettava le strade e le ferroviarie anche questo è un concetto banale ma è un concetto assolutamente innovativo se voi guardate gli organi grandi le social ingegnerie delle imprese troverete spesso la parola ambiente un quadratino piccolissimo a staff invece questa era una linea diretta di operativa e noi abbiamo deciso che per un'opera del genere non bastava limitarsi a quello che pretendeva la legge che voleva dire controllare l'ambiente e il territorio nella fascia del cantiere noi abbiamo definito la cosiddetta area vasta un'area di 78 km2 80 km2 che è circa 20 volte più ampia dell'area prescritta dalla legge e non l'abbiamo chiamato monitoraggio ambientale non l'abbiamo chiamato monitoraggio territoriale e sociale e la durata non l'abbiamo immaginata i cantieri ma l'abbiamo immaginata un anno prima che cominciassero i cantieri durante tutta la vita dei cantieri e due anni dopo che finivano i cantieri per capire territorialmente e socialmente cosa voleva dire realizzare un'opera di questo tipo per farvi un'idea queste sono le centraline e le unità di misura che sono state messe sul territorio parliamo di oltre 400 unità di misura e questo sistema era collegato in diretta con tutti i soggetti interessati a conoscere l'ambiente le università i comuni le province abbiamo scoperto che tutte queste entità dedicate a studiare il proprio ambiente quello che con tanta io direi arroganza che Fender non sapevano nulla non sapevano nulla non hanno un dato e vivono su situazioni ambientali al limite della legge cosa pensate che sia successo di tutti questi dati e di tutte queste informazioni e di tutta la strumentazione completamente persa e non c'è stato un soggetto pubblico sul territorio interessato a acquisire i dati come si dice il software qui c'è una piccola una piccola minchia che nasce tra l'altro da una prescrizione del cibo quando ci hanno approvato il progetto definitivo e qualcuno qualcuno l'ha accennato prima ventilava l'idea che l'ombra del ponte potesse disturbare i cetacei ora voi immaginate questi cetacei che vivono con un traghetto che gli passa sulla testa ogni quarto d'ora facendo rumore e inquinando che cosa potesse determinare in termini di danno l'ombra del ponte il paradiso però qualcuno diceva è stata una prestizione e per noi è stata l'occasione tra l'altro il più grande esperto di questi temi è un italiano che gira il mondo e conosciuto in tutto il mondo e lui per due anni ha battuto diciamo i mari intorno al ponte per cercare di capire naturalmente questi cetacei vivono benissimo e sarebbero vissuti ancora meglio la volta che si fosse fatto il ponte poi la mia osservazione è quando c'è le nuvole che fanno diventano pazzi i cetacei però nessuno mi ha risposto insomma anche questo e l'altra divertente è quella sui uccelli sulla fauna un'igradoria abbiamo fatto gli studi che sono all'avanguardia io credo che i professori che hanno lavorato su questi temi hanno potuto poi come dire illustrare il lavoro fatto in tutto il mondo e devo dire che è durata mesi questa questione alla fine ci chiedevano quasi il nome dell'uccello che passava e la garanzia che non avrebbe avuto incidenti con il ponte però ci tenevo a dire che durante le campagne abbiamo fatto sia in primavera che in notturno che sono i periodi in cui ci sono questi attraversamenti abbiamo studiato con degli svizi di un sistema per la prima volta forse nel mondo in cui attraverso dei radar siamo riusciti a leggere il numero degli uccelli che passavano anche di notte perché fino a poco tempo fa a parte che i calabresi si divertono ad andare a sparare falchi perché anche quella è tradizione però di notte nessuno era da rileggerli vabbè una piccola cosa ma insomma il ponte sullo stretto è riuscito a fare anche questo e abbiamo anche definito i tipi di avifauna che passano diverse altezze perché chiaro che se passi sopra i 400 metri il ponte naturalmente non può avere nessun impatto visto che 299 metri sono le altezze delle torri e a questo punto noi eravamo arrivati alla conclusione del nostro canitello era finito gli studi era finito il progetto definitivo ormai era in fase di approvazione e che succede? succede che il governo Monti si insedia il suo ministro delle infrastrutture Corrado Passera inopinatamente una settimana prima un mese prima due mesi prima che abbiamo l'ordine per l'avvio del progetto esecutivo come vi aveva parlato un'antefa della costruzione dice il ponte ha cancellato cioè per legge e questo è veramente sorprendente siamo tutti curiosi a capire come finirà cancella la convenzione tra stretto di Messina e il ministero delle infrastrutture e trasforzi che è il ministero concedente e naturalmente crollano vengono caducati tutti i contratti a valle quindi stretto di Messina nonostante tentativi devo dire la verità è stato un periodo drammatico nel febbraio del 2013 chiude la società e viene nominato a marzo un commissario un commissario liquidatore e qui c'è un'altra cosa divertente la legge prevede non so in base a quale logica che la liquidazione deve avvenire in un anno sono passati cinque anni il commissario liquidatore sta ancora lì i giudizi perché sia il contratti generale ha fatto causa per 600 milioni più altri danni il PMC ha fatto causa quindi stiamo parlando di 700-800 milioni i giudizi sono ancora in corso la verità è una che tutto l'investimento i soldi spesi da stretto di Messina che sono 350 milioni andranno perse ora una storia di questo genere io per questo che ci tenevo oggi a raccontarvela perché ognuno di noi deve prendere in più perché c'è tanta gente c'è la fortuna che poi guardi i giorni e trovi speranza non deve succedere adesso i giovani qualcuno farà il politico qualcuno farà il ingegnere qualcuno farà l'avvocato ma questo è un esempio di follia nazionale che non si deve ripetere non può ripetersi e quando sento parlare che mancano 5 milioni per gli handicappati di qualche comune e penso a quello che è successo e nessuno parla in una maniera diciamo cosciente coerente di conoscenza ho detto no devo venire a raccontare questo messaggio perché venga recepito e se è possibile trasferito io sostanzialmente avrei finito però se il sediero mi dà ancora 5 minuti ci sono altri due elementi che vorrei che vorrei raccontare perché spesso i media su questi due elementi raccontano le cose più più folli uno riguarda il progetto e l'altro riguarda il piano finanziario perché sul piano finanziario escono fuori i numeri più strani il progetto come vedete qui è molto complicato perché fin dall'inizio l'ho accennato non si parlava di fare un'opera di attraversamento ma di studiare e di valorizzare un territorio nella visione di realizzare la città dello stretto era questa diciamo l'idea alla base del progetto del ponte oggi ci concentriamo tutti sul ponte ma la realizzazione di questo progetto tre diciamo tre linee doveva affrontare e qualificare una era la mobilità cioè come vi accennavo sicuramente il ponte riduce i tempi di attraversamento dello stretto e dà la libertà di attraversare lo stretto in ogni momento e in ogni occasione sicuramente porta l'alta velocità e l'alta capacità in Sicilia crea la metropolitana dello stretto e poi lo vedremo e la Sicilia può diventare come diceva all'inizio che diceva Mollica la piattaforma del Mediterraneo senza una mobilità garantita ferroviaria e stradale come quella che può garantire il ponte quest'idea dell'Avo Mediterraneo non c'è però ha una valenza straordinaria per il territorio c'è la riduzione di inquinamento atmosferico tutti faranno di ambiente gli ambientalisti si uccidono ma lo stretto di Messina si salva ah perché tutti i discarichi abusivi vengono portati via dei correnti io non so quale africano o quale greco si prenderà gli scarichi della città di Messina ma metà della città di Messina scarica il mare in maniera abusiva e se qualcuno facesse due calcoli di quanto inquinano i traghetti che attraversano lo stretto davanti alla sera sarebbe un argomento in cui gli ambientalisti dovrebbero combattere una battaglia feroce ma non lo fanno nasce la città metropolitana dello stretto vengono recuperate delle aree puntartissime di pregio naturalistico perché metà delle coste intorno alla città di Messina sono praticamente scomparse il ponte prevedeva un importantissimo progetto di riqualificazione di ripascimento delle coste e soprattutto adesso però poi lo faccio vedere c'è la creazione di un poterfronti Messina che è un'area pregiatissima di oltre 100 ettari che può diventare io la chiamavo la Barcellona la Barcellona del Sud cioè un vero e serio piano urbanistica aveva la possibilità e gli spazi per potersi realizzati ma soprattutto c'era l'economia l'economia locale il ponte avrebbe portato oltre 40.000 posti di lavoro nei 6 anni in cui si realizzava il ponte si potevano creare avevamo già importanti rapporti con l'università dei nuovi poli tecnologici quando è nato il ponte di San Francisco contemporaneamente è nata l'università di Berkeley che è una dell'università più importante al mondo è nato per sviluppare le conoscenze del ponte la creazione di una nuova classe dirigente forse qualche giovane sarebbe rimasto a Messina avessero fatto il ponte e sicuramente anche in Calabria attrazione di finanziamenti internazionali io non posso immaginare che di fronte a un ponte qualcuno non sarebbe venuto dal mondo a sviluppare un'attività alberghiera un'attività turistica il ponte è un'attrazione di per sé straordinaria il valore del marchio ne parlavamo con Zucchetti ponte non so quattore F non so quanto vale il ponte di Brooklyn in termini di immagini o il Colosseo per Roma io una volta viaggiavo con un arabo una piccola cosa permettetela perché per molti anni ho lavorato in Arabia assoluta e avevo il mio direttore del ministero accanto a me sull'aereo qual è un'occasione migliore per poter parlare che fortuna che avete avuto a voi c'è farà caldo c'è la sabbia ma avere il petrolio così tanto petrolio dice tu che fortuna vai avere il Colosseo e la storia di Roma che merito ha i ministri quindi c'è un valore della credibilità e del marchio e della storia che Messina e il Sud avrebbe ritrovato con l'orientazione del ponte velocissimamente se guardate questa idea oltre al ponte che rappresenta il 55% dei costi quindi il progetto è ben altra cosa ci sono circa 30-40 km di ferrovie e di strade da rialzare in modo tale che il traffico fosse portato fuori dalla città di Messina d'accordo con il territorio abbiamo individuato tre stazioni sotterranee che sono questi cerchietti rossi Papardo Annunziata Europa Annunziata è il polo universitario Papardo è il polo medico e Europa è il centro della città avevamo concordato con FS di spostare la stazione principale di Messina più avanti per liberare tutta questa parte che vedete in giallo che sono attualmente occupati dai binari della stazione ferroviaria di Messina quindi ridando alla città un po' del fronte che tra l'altro ci sono ancora credo le vecchie casugole del terremoto del 908 dalla parte di qua avete già visto l'idea del centro direzionale quindi è un quadro è chiaro che una politica che fa il day by day non può affrontare il progetto in questo tipo e questo ho visto che qualcuno era più ottimista e qualcuno meno dipende dal peso che diamo alla classe politica cioè noi possiamo fare le cose più importanti ma se non c'è una volontà politica strategica per realizzare queste cose non siamo in condizione di farlo l'ultima questione vi faccio vedere una cosa divertente ecco vedete in azzurro è l'attuale trasporto ferroviario il ponte sullo stretto è la parte ferroviare da realizzare è quella parte rosso si chiude quindi l'anello nasce la città dello stretto finalmente l'aeroporto di Reggio Calabria ritrova una speranza di vita perché oggi qui si investono a Catania e l'aeroporto di Reggio Calabria sta morendo e abbiamo fatto due conti la città dello stretto diventerebbe una città di 440.000 persone la settima un'ottava in Italia dopo Genova ma prima di Bologna e di Firenze quindi c'è proprio un progetto di visione complessiva in questo l'ultima questione proprio velocissima perché non vi voglio annoiare più di tanto è il concetto del piano economico finanziario tutti dicono lo Stato spende 8 miliardi per fare questo maledetto il ponte solo il ponte costa 8 miliardi allora vi ho detto che il Stato Investire è una concessionaria che doveva realizzare il ponte sui principi del project financing che vuol dire? vuol dire che una parte io lo chiamo social project financing in freddo cioè non si ripagava tutto il ponte attraverso i piedaggi però una buona per titolare dell'investimento poteva essere recuperato attraverso i piedaggi per cui il sistema prevede che il 60% fosse finanziamento da ricevere da prendere dal mercato e ripagava attraverso i piedaggi e il 40% fosse la quota pubblica d'altra parte la Roma-Napoli credo che sia stata fatta tutta con capitale pubblico no? no 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 perché il ponte è una percentuale se andiamo a vedere i costi di costruzione il ponte vale circa 3 miliardi e 7 e gli altri collegamenti sono 3 miliardi quindi il costo di costruzione vero e proprio sono 6 miliardi gli altri costi sono legati al finanziamento dell'opera al monitore ambientale abbiamo una riserva 500 milioni di somme a disposizione concessionaria per i cosiddetti imprevisti e una parte sono gli oneri finanziari adesso c'è qualcuno che dice ma a questione i finanziari questi soldi buttati ognuno di noi se stai soldi non fa il mutuo però se i soldi non ce li hai forse è ineludibile fare un mutuo se vuoi fare qualche cosa e questo era lo spirito cioè realizzare quest'opera riducendo al minimo la spesa e il rischio da parte del governo diciamo del paese l'ultima annotazione che voglio fare che mi ha come dire reso un po' più pessimista è quando l'altro giorno in televisione ho sentito parlare un'importante senatrice di questo paese di questo governo era una rete nazionale in un orario in cui parecchia gente sta a sentire e non so perché è uscita fuori di un ponte perché ancora oggi parlare male del ponte porta voti evidentemente e fa un'affermazione che mi ha fatto raprivedire quando dice e poi c'è un motivo vero per cui il ponte non va più fatto sono già stati spesi solo in progetto 8 miliardi e mezzo di euro e ho capito che le speranze per questo paese sono veramente bisogna essere ottimisti mettiamola così cioè gli mancava l'ordine di grandezza mancava lei mancava il giornalista che la intervistava perché se no magari l'osservazione l'avrebbe fatta cioè passa l'idea che noi noi diciamo i progettisti ha confuso il costo di costruzione con i 350 milioni di investimenti persi sempre per una scelta politica io avrei concluso l'intervento e se avete voglia se lo permette io avrei portato un filmato per far vedere come il ponte sarebbe stato se fosse stato realizzato grazie grazie a tutti 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 vero pietoso sul governo Monti, perché credo che i danni mi abbiano fatti abbastanza, convinti invece, se parli, io non ho pelli sulla lingua, se parli con Monti è convinto di aver salvato l'Italia, dal mio punto di vista ha distrutto l'economia, l'agricoltura, insomma, non so. Però c'è un'altra cosa da dire, che la variante di Caritello invece era un esempio straordinario di essere rimasta nei tempi, di aver speso meno di quello previsto e naturalmente adesso Crozza si diverte, come in tutte le cose. Un altro piccolo dettaglio, è stato fatto un concorso di progettazione per lo spostamento della stazione ferroviaria di Messina, mi ricordo perché era presieduta dal mio rettore di allora, Amerigo Restucci, c'era anche Francesca Moracci, credo, in commissione. Voglio dire che attorno a questo è nato tutto un ragionamento e poi c'era la possibilità di impegnare le persone, insomma, c'era tutto un ragionamento per il quale uno si domanda ma perché dobbiamo farci del male fino a questo punto? Io credo fondamentalmente perché l'ideologia è talmente cieca che finisce per autodistruggersi, purtroppo distrugge anche gli altri, Moia Sansone con tutti i filistei. Siamo in una... eh sì e poi adesso nel programma necessariamente abbiamo un momento di modifica, io darei la parola naturalmente a Roberto Turchetti che ci dirà che il ponte di Messina... ecco benissimo e poi però chiederei all'amico Borri di spostarsi nel primo pomeriggio perché non possiamo andare oltre le 12... l'1.30. Sì sì no ma... ma anche anche Borri di andata via tutti insieme. Quindi diciamo che io darei la parola al pomeriggio chiedendo di guadagnare due minuti se possibile quindi due metà anziché due tre quarti. La tavola rotonda praticamente non la faremo quindi non slitteremo sulla... nel senso che due relatori mancano però faremo invece un piccolo dibattito che è quello al quale teniamo molto durante l'intervallo. Ecco questo un po' come programma. ma alcuni non si fermano. Quindi avevo preparato delle slide ma ve le lascio per memoria che voglio guardarle. Provo a rispondere a quella domanda che è dentro l'intervento... ma perché è successo tutto questo? Io provo a dare questa risposta. È successo tutto questo perché il ponte è diventato un simbolo. è diventato il simbolo della politica di una persona che ha diviso o no con lei su cui si è conteso negli ultimi vent'anni e di conseguenza fare o non fare il simbolo si traduce nel linguaggio mediatico essere o no a favore di quella persona che ha fatto. Ma come mai il ponte è potuto diventare un simbolo di una lotta politica? E io do una risposta. Perché è stata debole la risposta del a chi serve? La voce di quelli che devono trarre beneficio dall'esistenza del ponte non si è sentita. Non si è sentita allora e non si sta sentendo oggi. Allora io credo che dobbiamo tirarci via gli alibi del nord e del sud siamo un ambiente di persone corte. Togliamoci gli alibi della politica. Perché la politica è l'espressione di quello che è la nostra società. E noi siamo classe dirigente di questa società. Allora qui c'è un problema che ricorre spesso. e mi rivolgo agli ingegneri innanzitutto. La domanda del perché lo faccio, a chi serve, a cosa serve, è una domanda che non si può eludere. Io che di mestiere faccio il valutatore delle opere infrastrutturali di trasporto. faccio sempre questa esperienza frustrante che vado a fare il mio mestiere, faccio la domanda del ma che cosa serve e mi rispondono come funziona. No, 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 come funziona? Io ci credo ciecamente. Ma a cosa serve? Perché lo fai? Se non è chiara questa domanda, la risposta a questa domanda, viene a mancare la voce inglese dello stakeholder, cioè di quello che è interessato a che una cosa si faccia. E se la tribuna da cui dovrebbe parlare la persona, il gruppo sociale, i gruppi sociali interessati a perché si faccia, quella tribuna viene occupata da altri. Facciamo una fuori in questa faccenda dell'ambiente. Io l'ho capita tanti anni fa perché sono abbastanza... no, non sono così giovane. Ho seguito un tentativo di localizzare una centrale nucleare nel Mantovano. Correvano gli anni 1990 e qualche cosa. i mantovani non la volevano, o meglio, sollevavano problemi. E a un certo punto hanno sollevato il problema che il camino era troppo basso e gli ingegneri dell'Enea avevano portato uno scienziato della Svezia che aveva spiegato con una serie di formule incredibili che il camino era abbastanza alto. riscuotendo nessuna... Eh, vabbè, se il camino è alto giusto, l'acqua che si scarica è troppo calda. Allora, bastava andare una sera in trattoria e fare due chiacchiere per capire che il vero motivo per cui i mantovani non volevano il centro nucleare perché non volevano la gente che veniva lì a costruirla. Detta in due parole, era dateci soldi il progetto che ve la facciamo noi, ma non portateci qui gente da fuori. Allora, se la tribuna da cui parlo dovrebbe parlare, lo stecone, quello interessato che la cosa si faccia è deserta, altre persone che hanno altri obiettivi se ne possessero. E poiché normalmente i loro obiettivi sono meno nobili, trovano una facciata nobile per ostacolare o favorire il progetto. E in questo momento, per esempio, la facciata nobile è facilmente offerta dall'aspetto orientale. E la riprova è bellissima, ha detto, questa rete è andata poi distrutta, ma perché l'obiettivo non era quello, non gli referava niente a nessuno di quella cosa lì. Il motivo era un altro, si era rivestito di questa nobile facciata. Allora, questa ovviamente è la mia posizione, però ho vissuto diverse esperienze anche professionali di studio e anche operativi che mi hanno aiutato. Mi colloco oggi, perché per me la questione del Ponte Messina non è chiusa, la questione del Ponte Messina è aperta. E se magari intravediamo in un futuro la necessità che il nostro Paese debba fare una specie di coalizione, forse quel problema del singolo si risolve, ma non si risolve l'altra questione. Cioè, io oggi non ho sentito dire perché. E qui ce l'ho, ho preso questa slide perché io vi faccio tre domande scomode da Lombardo, permettetemi, sono economista, in mezzo ingegnere, Lombardo, ma a quelli della Sicilia interessa essere collegati col continente o temono che questo sia uno sviluppo? A quelli della Calabria interessa essere collegati con la Sicilia o temono la colonizzazione del vicino più forte e più ricco? A quelli della Calabria interessa essere attraversati più facilmente o no? E' perché questo è un ponte, se gli togliamo l'aspetto di simbolo torna ad essere un ponte e un ponte serve per collegare qui e qui. Allora la prima domanda è fare ma quelli che stanno di qui e quelli che stanno di qui vogliono il ponte o non lo vogliono? Perché se non lo vogliono, allora la domanda è ma a chi serve? Da economista dei trasporti, permettetemi di essere in assoluto dissenso con tutti gli scenari fatti prima, il ponte non serve per portare in centro Europa le merci che vengono dal Far East, che vengono da Singapore e da Shanghai. Le grandi navi non si fermeranno mai nel porto di Augusta per scaricare le merci che devono fare 1600-1700 km su treni in Italia per arrivare a San Gottano. fanno un giorno di navigazione in più e vanno a Genova. E questo non perché il nord e il sud, perché se si fanno due conti da economista si vede subito. Ma ancora peggio, oggi una nave che parte da Shanghai arriva prima a Rotterdam che non a Genova, può giocare a tavola. E poi deve trattare tutto il Mediterraneo, uscire da Giugiterra, deve farsi tutto il giro intorno alla Spagna, tutto la Francia, arrivare a Rotterdam, ma fa arrivare dopo? Cioè fa arrivare prima. Semplicissimo, perché la nave che va a Genova, partendo a Shanghai, fa tante fermate. Quella che va a Rotterdam non si ferma mai. Perché non si ferma mai perché va a Rotterdam? Perché a Rotterdam c'è una concentrazione di traffici così grossa, così potente, da riempire le navi anche più grandi. E quando sono piene non bisogna fare tante fermate per riempirsi e servire i traffici locali. Vanno dritte a destinazione. Invece, per arrivare a Genova, poiché Genova, non dico Augusta o Giuliettano, non ha abbastanza massa per riempire una grande nave, questa deve farsi i servizi locali. È il motivo per cui andare a Crosseto ci si impiega di più che andare a Roma. Se devi andare a Crosseto in treno ci si impiega di più che andare a Roma. Lo capiscono tutti. Allora, andiamo a tirar fuori le vere ragioni che motivano il monte. E chiediamo agli interessati di occupare la tribuna che loro spetta in modo da rivendicare questa infrastruttura di cui hanno bisogno. è un'altra slide bellissima. Così tocco anche gli aspetti economici. Quella del... Aspetta. No, ma sta andando indietro. Vai ancora. Vai. Questo. Esatto. Noi che abbiamo fatto le analisi economiche abbiamo detto che i potessi puoi pagare se si utilizzano correttamente gli strumenti di analisi economica. E qui permettetemi una cattiveria. Gli ingegneri hanno visto che le analisi in matematica finanziaria sono fatte di tanti numeri e tante formule e hanno detto, sapevamo fare anche noi, numeri e formule del nostro mestiere. e da quando gli ingegneri, o i tecnici di Milano in particolare, fanno le analisi delle infrastrutture abbiamo che tutte le infrastrutture eh sì, da sempre. Secondo loro, nessuna infrastruttura si ripaga mai. Questi conti... Eh... Esatto. Allora, se si fanno correttamente i conti viene fuori che la cosa sta in piedi. Ma, attenzione, stanno in piedi nonostante le forti perdite economiche portate da quell'insieme di collegamenti ferroviari stradali. Appiccicati non si capisce per quale motivo. Cioè il passante ferroviario ce l'ha a Milano e ce l'ha a Torino. che ce l'abbia Messina che non riesce a riempire i dragono fa veramente ridere se non ci costasse una foglia di soldi. Allora, usiamo correttamente gli strumenti che abbiamo. Cerchiamo di capire quale parte di questo progetto è sensata a un ritorno economico, a una funzione economica. E quale parte, invece, è stata messa lì per altri motivi che non sono funzionari, che non sono per rispondere a un bisogno. ci togliamo questa seconda parte e poi si fa tranquillamente soprattutto in un momento come oggi dove il costo del denaro è zero. Se oggi andiamo a cercare soldi, i soldi non costano niente. Quindi quei 699 milioni di maggiori praticamente non ci sono oggi. E se si tratta di spendere 4 miliardi, 4 miliardi e mezzo a un tasso che oggi è praticamente zero l'operazione si può fare. Ma io chiudo dicendo ancora la stessa cosa. A chi serve? Dov'è la voce di chi ha bisogno di questa infrastruttura? Senza di questo, questo oggetto sarà preda di chiunque voglia occupare quella tribuna per motivi suoi strumentalizzando questa opera che potrebbe essere una grande opera. Io non sono un culturale di storia, ma mi sembra che Brunelleschi sia stato ampiamente contestato dai suoi contemporanei che dicevano che quella popola non poteva stare in piedi. Allora, il genio italiano a volte è anche sfidare l'opinione dei propri contemporanei e far vedere che certe cose si possono fare. Io ho piena fiducia verso i colleghi che ho parlato prima perché so quanto si ritardo a me su questo lavoro. sarebbe davvero un peccato che la tecnologia italiana non possa avere un simbolo importante nel mondo. Quindi non diamo per persa questa partita, andiamo a riannodare i fili dove si sono sfilacciati, ma io credo che il punto fondamentale sia la voce di chi ha bisogno di usare questa infrastruttura. Grazie. Grazie anche per la provocazione. In realtà abbiamo ancora un quarto d'ora. Allora, non c'è il tempo, a meno che... Claudio. Parito. Quasi quasi. Finirei la parola a Ruggero Ricocchi, un quarto d'ora, dieci minuti, un quarto d'ora, ci può raccontare ancora una componente invece sulla funzione asiatica. Lui... Ecco, sei libero. Sono molto contento di parlare adesso perché pensavo di essere l'unico non ingegnere della platea in quanto avvocato, è l'unico a sparigliare le carte, ma chi ha parlato prima di me, che è perfettamente in linea con le cose che volevo dire, non è un ingegnere e ha sparigliato le carte. Sono molto contento di essere qui, quindi ringrazio il rettore di avermi invitato perché io sono molto poco in Italia, quindi questa è un'occasione in più per me per esserci e anche perché sono nata a Messina, quindi questa è un issue di cuore. Al tempo stesso però io sono qui come direttore degli affari istituzionali di Enel Green Power, che come sapete è la società italiana multirazionale interamente dedicata alla promozione e allo sviluppo di energia rinnovabile intorno al mondo, energia prodotta da tutte le fonti energetiche, quindi sole, acqua, vento, terra e biomassa, e anche come vicepresidente di Confindustria nazionale per 2018-2019, quella compagno di Confindustria che si chiama Confindustria africa mediterranea, che diciamo promuove l'interesse del business delle aziende italiane in questa regione del mondo, che appunto è il continente africano, mediterraneo e Medio Oriente. Dicevo che sono molto contento di essere qui per stagliare un po' le carte appunto come l'intervento che mi ha preceduto, proprio perché l'errore principale che io leggo in questa materia, che ripeto seguo, io da poco ho compiuto 40 anni ma conservo a caso un numero di Topolino con questa copertina con paperone e paperoni che tiene in alto in mare il ponte sullo stretto, in realtà l'errore è proprio quello della comunicazione. Cosa significa? Significa che noi parliamo di un progetto straordinario, sotto tutti i monti di vista, che però non ha avuto quella comunicazione inclusiva nei confronti degli stakeholders che appunto dovevano essere coinvolti. Questo è un tema molto cruciale. Io faccio un lavoro molto affascinante perché quel lavoro vado in giro per il mondo è incontrare i governi di tutti i paesi del mondo e discutiamo insieme di politica energetica. Significa come confezionare quel quadro regolatorio di policy e legislativo che è necessario per promuovere la politica energetica. Quindi il ruolo delle istituzioni è fondamentale. Se non c'è l'imprinting delle istituzioni, se non c'è il coinvolgimento delle istituzioni, non riusciamo a fare nulla. Ma questo possiamo averci. Quello che manca poi è il coinvolgimento delle grandi aziende e il coinvolgimento delle terze e quarta campi, la chiamo io. Uno è il mondo dell'Accademia, degli istituti di ricerca, che deve essere però on board. Non in tutti i tavoli in cui partecipo. Il mondo degli istituti di ricerca e dell'Accademia non c'è mai in nessuna missione di sistema, in nessun incontro istituzionale di alto livello. È un discorso che ci facciamo tra di noi, che va benissimo. Però manca questa gamba. Ma la quarta gamba è quella della società civile, cioè come mettere on board in questo dialogo i portatori di interesse che sono noi, i cittadini, le scuole, le associazioni ambientaliste e quant'altro. Perché se no, appunto, questi signori cavalcheranno esattamente il contrario di quello che noi vogliamo proporre. il nostro signor di Messina è stato eletto perché aveva sulla discerta la scritta nobonte. Ma al di fuori, diciamo, dell'ideologia, lui è riuscito appunto a cavalcare esattamente questo, a riempire quel vuoto che nessuno aveva riempito. Come? Spiegando quello che stiamo spiegando qui. Quindi, se io chiedo a voi, avete speso non so quanti soldi, quanto avete speso in comunicazione in termini di la brochure che va alla scuola elementare, piuttosto che il training che va nel villaggio, nel quartiere, che effettivamente si troverà espropriato quella parte del territorio. Non è molto quello che avete fatto, però questo è un ulteriore... Ma non è sufficiente? No, 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 come ripeto, a me piace molto stabilire le ragazze. Ma, appunto, evidentemente non è stato sufficiente. Perché gli elementi ci sono assolutamente tutti. Quindi, se noi riusciamo, come dire, a incastrare tutte queste gambe all'interno di questo dialogo, a costruire e a promuovere questo, assolutamente il risultato è evidente. Perché parliamo di un'opera pubblica che è grande e che va fatta in termini di visione. Cioè, se io, tre giorni fa ero con il Ministro dell'Energia dello Zimbabue, dico a questo signore, guardate, il vostro Paese ha bisogno di una visione energetica che vada verso quella direzione. Quella deve essere. Cioè, per i prossimi vent'anni, se poi non sarà più lui, se poi cambierà non so cosa, ma la visione attraverso la quale, diciamo, gli strumenti possono essere utilizzati per raggiungerla. Deve essere unito. E proprio questo, secondo me, è quello che è mancato in questo. L'ultima cosa è, diciamo, cosa fare ad esso. Infatti, la proposta che vi dicevi era assolutamente interessante per le dire, non salvare il salvabile, che sembra una cosa abbastanza negativa, ma come rimettere, diciamo, on board le persone che sono state escluse. Io ho una casa proprio sul lago che avete visto lì. Qualsiasi vicino di casa mi parlerà male del punto. Quindi, indipendentemente dall'ideologia politica, dal convincimento dell'uomo nei frattatori o quant'altro, in automatico, la reazione è quella e sarà quella. Quando tu hai detto, tutti dicono, effettivamente, non fate le strade, non fate il ponte su un po' le strade, ma tutti diranno sempre questa cosa. Proprio perché questo esercizio evidentemente non ha funzionato. Quindi, secondo me, rimettere attorno al tavolo tutti i pezzi della società, inclusi appunto le grandi imprese della società di categoria, e promuovere questo dialogo, sicuramente, anche a questa quale direzione. Grazie. Io credo che ogni tanto qualche elemento aggiuntivo vada fatto. È indiscutibile, ne abbiamo parlato molto con Mollica. Io stesso ricordo che una decina di anni fa, 12 anni fa, sono stato invitato dall'Associazione degli Industriali di Messina a occuparmi un pochino. Io sono andato giù a spese mie 3-4 volte, ma quando è stato nel momento di fare un piano di comunicazione, zero assoluto, ne abbiamo parlato. Cioè, in effetti, a mia sensazione, avendo vissuto più da promoter esterno, non interessato, anche perché io ho scritto nella mia rivista Galileo, vent'anni fa, il ponte di Messina è in scelta, saggia, e sono quindi un petito. Nel senso che io ho scritto delle cose che sono quelle che sento in giro e che mi fanno agatonare la pelle, perché non avevo sufficientemente approfondito la questione. Però lavorare di rimessa, cioè aspettando che ti disparino ad osso e tu rispondi, e comunque sia, non funziona, c'è un piano di comunicazione di questo tipo. Noi l'abbiamo anche tentato, perché siamo andati insieme, vi ricordo perfettamente, siamo andati a parlare nelle scuole e tra l'altro siamo rimasti in un ridipio perché facevano delle domande alle quali c'era già stata risposta 15 anni prima, non avevano guardato le carte, ma non è un problema loro, è un problema. Noi dobbiamo fare in modo che la gente sappia, dopodiché apriamo una discussione qui che vogliamo. Non so che qui... No, tocchi, ho solo una provocazione, piccola. E' bella. Ho un sasso gettato per lo stagno. Te lo vedo, sono abbastanza grande, ho lavorato prima del ponte un po' nel mondo e un po' in Italia, vent'anni in giro nel mondo e vent'anni in Italia. E in Italia ho avuto la fortuna, ho avuto la fortuna, poterò spiegare io, scusate il genere. Ho lavorato sulla Livorno Città Vecchia, non era la società centricestina, hanno fatto la loro comunicazione e non è stata fatta. Ho lavorato sulla Firenze Bologna e posso assicurare che una regione toscana in lotta con la regione emiliana, per cui da una prestizione diversa sulle stesse cose, un'altra società avranno sbagliato la comunicazione, ci hanno messo 30 anni per farlo. La Torino-Lione è un altro gruppo ancora e sono vent'anni che combattono quello. il MOSE è un'altra realtà ancora e in 40 anni non sono riusciti a farlo. Io capisco che nessuno di questi ha avuto dei comunicatori bravi e speriamo che ci siano, perché risolverebbero un problema nazionale. Io dubbio che il problema per questo Paese sia un po' più in alto. su questo siamo tutti d'accordo. Prego. Anche per fare due minuti andiamo a mangiare. Vedete qui, magari così sentono il peggio. Il problema in italiano è proprio come... In realtà il problema è proprio come costruite in Italia il tutto, il processo. Perché se io devo costruire il controllo centrale, prima viene citato il caso nucleare, è un po' diverso, e io do in mano il potere al medico del quartiere o al prete di turno o all'associazione del fenicottero rosa, è ovvio che non riuscirò mai a fare nulla, perché nella distribuzione di competenze del potere non c'è, come dire, una gradualità di chi e con che peso specifico deve avere voce in capitolo. Se io, come dire, frastaglio questa cosa in troppi interlocutori ma che non hanno il peso specifico, esatto perché l'associazione del fenicottero rosa ovviamente ha un peso specifico molto minore rispetto ad altri interlocutori, non riusciremo mai. Quindi questo non è legato al comunicatore bravo o non comunicatore bravo, è legato a come la distribuzione delle competenze in Italia, questo è quello che facete qua e con il senso. non voglio tediarvi su questo ma ho sentito e ho apprezzato molto l'intervento di un economista ma non in contraposizione all'ingegneria. c'è un elemento fondamentale il ruolo di Berlusconi nel nostro paese e i due schieramenti pro e contro che prescindono da tutto il resto gli effetti di tutto questo li vediamo su tutte le opere tuttavia c'è un qualcosa di più profondo che io, non sono un esperto di comunicazione non so valutare, ma una cosa è certa io ai tempi in cui ingenuamente pensavo che bastasse in qualche modo dire cose giuste alle persone questo in qualche modo potesse aiutare ho scritto degli articoli l'ho mandato al Corriere della Sera a Repubblica nessuno li ha pubblicati solo il quotidiano della Calabria per dire nulla di particolare c'è qualcosa di più profondo che io non so analizzare ma che in qualche modo è il cancro che sta mangiando questo paese dove a galla viene uno che racconta barzellette se uno racconta barzellette va bene se tu provi in televisione a dire qualcosa di serio quando ti chiamano io per i terremoti mi hanno chiamato a uno mattina per discutere c'era vicino a me un pagliaccio scusate l'espressione che è venuto con un lego e voleva spiegare come è avvenuto il terremoto ha parlato dieci minuti avendo un minuto mi hanno fatto smettere purtroppo è diventato uno spettacolo un circo non so cosa sta diventando questo paese però c'è qualcosa di serio che va al di là delle cose giuste che sono state dette il nostro amico che si occupa di cose importanti a livello mondiale forse questa termometro per l'italia lo ha perso e quindi pensa di lavorare di ragionare di costruire attraverso una grammatica che in tutto il paese funziona qui purtroppo non funziona non sono un esperto una fatica la politica è indebole questo voto lasciato alla debolezza viene occupato da tutti viene occupato dal primo che arriva da un comico che si trasforma in politico e così via scusate grazie grazie è sotto silenzio ed è una cosa su costruzioni metalliche qualche anno fa è stato pubblicato un articolo in cui si raccontava con molti dettagli cosa era avvenuto ma anche quello è passato sotto silenzio cioè purtroppo questa è l'Italia ciò nonostante io voglio continuare a essere utilista buon pranzo torniamo qua fra un'oretta il concetto del vecchio nel Veneto vecchio mio non è vecchio nel senso del termine è proprio consolidato dopo le sue scienze delle costruzioni a Firenze si conosciamo da un bel po' di tempo e lui si occupa di diolico e di altre cose è un rotariano e vi posso già anticipare che con lui da qualche mese stiamo lavorando alla grande su un tema che si chiama Mediterranean Bridging con l'idea di istituire anche dei premi il prossimo anno lui fa la presidenza rotariana a Firenze e stiamo coinvolgendo i rotali del Mediterraneo per parlare un po' del rinascimento del Mediterraneo questa è l'idea una cosa molto affascinante su cui dovremmo riuscire a costruire dei passaggi il prossimo anno avremo un bel convegno su questi temi lui è un bumboltiano mi ha anche invitato una volta io ero ad uno che hanno fatto a Firenze sono tuosissimo non sono domani i soldi sono bravi però un po' dell'università parla correntemente il tedesco cosa che gli invidio io invece l'ho perso il tedesco basta non dico altro sto cercando di tirarla in lungo perchè non è ancora pronto ecco allora Claudio grazie 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 carissimi covelli stamattina per me è stata una mezza giornata di emozioni in realtà ormai sono passati sei, cinque, sei anni da quando non ci vediamo più così spesso e uno tende a rimuovere io nel frattempo ho avuto l'onore di dirigere un dipartimento universitario con la nuova gestione della riforma Germini cosa non semplice perchè era la prima attuazione della nuova governo e ho avuto altre cose eccetera e quindi in parte ho rimosso stamani alcuni interventi in particolare quello di Pino ma anche quello di Alberto questi Vinzi mi hanno in parte di nuovo fatto crescere l'indignazione in parte un po' la frustrazione moltissimo l'emozione e la commozione anche Giovanni Solari ha toccato argomenti molto interessanti che mi fanno veramente pensare che è infinito il male che il nostro paese sa volersi in particolare devo dire con le generazioni un gran numero di generazioni tecnici tecnici ricercatori forse questo paese si vuole meno male con coloro che giocano al calcio che fanno che cantano e fanno un po' di moda eccetera forse loro hanno un sentimento diverso io fra l'altro vivo una dimensione internazionale la mia famiglia è internazionale sto molto all'estero e quindi però come italiano mi sento veramente molto spesso tradito stamani i temi toccati in particolare da Giovanni mi hanno riportato a una relazione che tende nel 2013 mi ricordo le date Pino Fiammeni ci ha fatto vedere che a settembre ottobre 2012 praticamente l'avventura si chiuse e io avevo già allora un invito da parte dell'Università di Cambridge a tenere una relazione a luglio 2013 su 50 anni di aerodinamica dei ponti in Europa un tema a quella eravamo cinque keynote speaker uno dei cinque eravamo due italiani onore fra l'altro in casa anglosassone piuttosto piuttosto raro su cinque due eravamo italiani l'altro era Giorgio Diana il quale naturalmente parlò esclusivamente di Messina io dovevo invece fare un excursus di 50 anni di aerodinamica dei ponti perché i colleghi Baker e altri di Cambridge chiesero a me questo non lo so forse perché ero un po' il più accanito difensore e promotore di nuove iniziative giovanni stamattina parlava del problema di Reynolds avevamo un gruppo internazionale che lavorava proprio su questo problema del numero di Reynolds che per una struttura particolare di Messina avrebbe costituito un avanzamento della conoscenza incredibile perché fare delle prove a bassissima temperatura per drogare il numero di Reynolds idea che abbiamo avuto dopo aver visitato il fiorfior di lavoratori ci sono due uno in particolare a Colonia ha preso contatti con loro guardate c'è un possibile interesse della stretto di Messina per provare il ponte vi immaginate l'interesse suscitato dai colleghi tedeschi il DLR Deutsche Luftung Rundfart e il collega dell'istruttura di aerolastica di Göttingen che ci avrebbe dato aiuto lavorando con noi sono tutte quelle cose che a me fanno venire il croppo in gola e un pochino a aumentare l'indianzione perché per la prima volta al mondo non solo il progetto l'italianità grazie Pino per averlo detto io lo voglio l'ho detto anche a Cambridge questo è un progetto italiano e l'ho detto in presenza alla Lars il capo progettista della Covid del progettista del consorzio siamo siamo così io non so se definirmi se pessimista ottimista di fatto per grazie di Dio e volere degli uomini come si suol dire già in quegli anni mi avevano ambienti industriali grossi investitori in particolare tedeschi mi avevano chiamato per supportare i loro progetti di espansione in Italia sulle grandi strutture eoliche e da allora parlo degli inizi 2006-2007 mi sono come ingegnere del vento che ha fatto quasi 30 anni di aerodinamica dei ponti e di altre cose grandi stadi e lo stadio di Roma con professore maiovienschi tante cose però mi sono trovato proiettato su questa avventura e devo dire la verità che siccome a me fin da bambino sono piaciute le cose difficili perché quelle facili mi piace lasciarle fare ad altri le cose difficili dove non so mai se ce la farò queste sono le cose che mi piacciono di più e questo è un problema grosso il primo che ha affrontato è una struttura di 110 metri di altezza con un rotore di 82 metri a zona sismica di prima categoria perché la differenza tra la Germania e la Danimarca dove queste strutture cominciavano allora 2006-2008 ad arrivare ad essere installate e il nostro territorio soprattutto quello con Stierger era proprio l'alta sismicità tutto questo non esisteva quindi con il grande studio di Leonard Andrea partner di Berlino che era stato incaricato da questa grandissima industria si rivolse abbiamo da allora cominciato ancora non abbiamo finito ma nel frattempo devo dire che a livello nazionale ma soprattutto internazionale io sono convinto che noi dobbiamo parlare di energia di energie rinnovabili non solo come italiani ma come mediterranei e qui vengo a questo che è un documento Enzo mi è scappato questo documento è un piccolo estratto da un documento che stiamo proponendo alla Rotary Foundation per un'iniziativa per il nuovo rinascimento del Mediterraneo Enzo ha voluto che io mettessi nel titolo questa cosa del nuovo rinascimento perché se è vero come è vero che le grandi connessioni sono il futuro del Mediterraneo sono l'occasione e una chance e un'opportunità trasformare la sfida nella più grande opportunità del sud dell'Italia in particolare la Sicilia che diventerebbe Carrefour come piace dire ai francesi fra tre continenti l'Europa l'Asia e l'Africa così la vede Enzo così la vedo io abbiamo cercato di trasformarlo in un'idea per un progetto di borse di studio eccetera ma quello che ci è venuto incontro è niente un po' di meno che il collega maestro nonché senatore a vita Renzo Piano che il 29 di luglio dell'anno scorso ti posta sul post sul blog della Repubblica questo testo che io naturalmente non vi leggo lui aveva fatto il suo bravo disegnetto ha tolto l'Italia e ha chiesto ai giovani le nuove generazioni mi dite cosa credete che debba fare l'Italia nel Mediterraneo e tutto questo ha portato noi a pensare un testo che appunto riveda generalmente e qui mi trovo mi sembra con quanto ha detto quando ha detto all'inizio Giovanni sul fatto di pensare a quanto a quanto il sud dell'Italia può dare all'Europa e io aggiungo che questo che può dare il sud dell'Italia all'Europa potrebbe fare dell'Italia forse della Sicilia una regione più ricca della Baviera più ricca della della zona della Rur che io ho freguito molto allora su questo progetto naturalmente noi identifichiamo io identifico il il discorso dell'energia perché non si può parlare di sviluppo nel Mediterraneo se non attraverso le connessioni dei popoli e qui si parla di collegamenti stabili ma anche dare la possibilità a tutte le popolazioni che migrano che non migrano di avere acqua e energia qualcuno mi dice in realtà Claudio parla di energia perché dove c'è energia ci sa sempre anche acqua l'acqua c'è ma per arrivare a fornirla ci vuole energia questo è ciò che dicono grandi guru che io non voglio citare e quindi l'energia è il vero problema l'energia all'interno del Mediterraneo ha due questioni fondamentali il vento e il sole due soggetti fondamentali il vento e il sole e noi qui lavoriamo io parlo di cose qui che su cui mi sono imbarcato negli ultimi vorrei dire quindici anni allora la prima è certamente l'energia on-shore per il Mediterraneo perché il Mediterraneo ha on-shore comincia ad essere salto in particolare l'Italia non solo ma quando si parla di on-shore Mediterraneo o no Italia o no c'è il problema della Society Acceptance che è qualcosa che Pino Fiammelli conosce bene per il discorso del Ponte di Messina guardate che sulle grandi strutture eoliche la Society Acceptance non è affatto più morbida che per le grandi infrastrutture c'è naturalmente con l'Italia in particolare il problema dell'inserimento paesaggistico cosa che non c'è in Danimarca non c'è delle grandi provaterie del nord della Germania non c'è in Olanda tantomeno quindi però non c'è neppure nei Balcani questa sensibilità però il paesaggio parlo da Toscano dove ci sono 5-6 di questi apparecchi che tutti i giorni vengono contestati io vengo abitato come uno di quelli che cerca di distruggere il paesaggio il paesaggio Toscano vabbè queste sono le caratteristiche naturalmente ma se si parla della prima ed è l'Oshorn Wind Energy qui c'è un potenziale io in realtà volevo parlare più di ciò che sappiamo fare come scienziate delle costruzioni io volevo parlare del potenziale Unesplodget ciò che si potrebbe generare e non si usa non si usa non solo in Italia ma non si usa intorno ai 18 circa 1.000 km del Mediterraneo se si esclude il Mar Nero poi c'è un'altra tecnologia che sta prendendo siamo a un TRL 2 o 3 technology readiness level 2 o 3 prima di arrivare a 7 8 o 9 e cioè renderla industrially viable realizzabili dal punto di vista industriale ce ne vorrà ancora ce ne vogliono degli anni ma è una combinazione di energia solare energia eolica un gruppo italo tedesco italo sudafricano sta lavorando a queste con insetti vari da alcuni anni ve ne parlerò c'è un'altra una terza l'ultima wave energy però io ho deciso qui di non parlarvene però la presentazione la contiene che è quella di utilizzare energia sia dalle onde dalle maree mediterraneo pochissima cosa e magari anche dalla sì insomma tutto ciò che si muove nelle nelle acque superficiali allora cominciamo però con la prima parte perché voi lo vedete bene questo diagramma no? non si vede assolutamente niente mi dispiace allora qui c'è l'onshore offshore tutte le mie fonti sono wind europe un report della vorrei dire più grande osservatorio in europa sull'energia rinnovabile del vento che pubblica ogni sei mesi il report più interessante è quello di settembre 2017 quindi assolutamente molto molto adeguato voi vedete che il il celeste chiaro è l'offshore il celeste scuro è l'onshore se si guarda il cumulativo praticamente il cumulativo è quello del quadrettino giallo siamo a quasi 80 gigawatt di cui 60 sono onshore siamo a 20 gigawatt offshore quando si dice 20 gigawatt offshore significa nord Europa quindi in Mediterraneo vi dirò dopo la bella notizia in Mediterraneo ancora non c'è un singolo parco eolico a mare sui 18 di 20 mila allora quello che però viene risulta chiaro è che andando a mare nelle acque del Mediterraneo e naturalmente volendo cercare di minimizzare il problema della society acceptance noi dobbiamo fronteggiare a 3 miglia 4 miglia 5 miglia da costa profondità che superano ampiamente i 30-40 metri 30-40 qualche volta 50 sono le profondità in cui si utilizza la tecnologia offshore del cosiddetto fixed bottom cioè si fa una bellissima fondazione magari Alberto se ne sarà interessato di amare a mare e si infila il tubo sono di nuovo torri che se non superano arrivano molto vicino a 100 metri i rotori che vanno a mare oggi giorno sono tutti superiore a 100 metri quindi 3 megawatt almeno se no non c'è convenienza Simens e Serbian sono i due produttori che sono già attivi a mare altri major produttori maggiori di energia di aerogeneratori non hanno ancora deciso di andare a mare dunque se parliamo di acqua in mediterraneo se parliamo di andare a mare in mediterraneo bisogna andare floating e floating significa galleggiante e quando si dice galleggiante si dice tecnologie che come idea ha ce ne sono i siti pieni cioè le idee più strampalate comunque i prototipi cioè noi in Italia abbiamo avuto il 2H 4 o 5 anni fa che è stato decommissionato dopo un anno perché dopo averlo fatto magari potevamo aspettare ancora un anno per toglierlo e acquisire magari investitori invece caduta la licenza è stato obbligato l'investitore a decommissionarlo e l'hanno mandato addirittura in Albania quindi questo test vedete non entro nel dettaglio questo è spar barge poi il tipico tension leg è questo qua tutto a destra ma di nuovo interessante questo diagramma che dice dell'evoluzione del technology readiness level guardate perché si parla di TRL perché tutti i finanziamenti di investitori eccetera anche i finanziamenti soprattutto i finanziamenti di ricerca dipende da quali sono i back call viaggiano soltanto sul fatto se si riesce a convincere che siamo a un dato del technology readiness level fino a 4 o 5 è ricerca di base oltre 4 o 5 è ricerca applicata sviluppo tecnologico e se il bando o se l'investitore vuole un prodotto pronto è chiaro che bisogna dimostrargli che il technology readiness level è questo qua qui ci sono praticamente queste curve che assolutamente vanno verso il 9 il 9 è il massimo e vedete che le tecnologie per esempio il tension leg TLP che è questo blu ci arriveranno un pochino più tardi praticamente 2021 2022 grazie questo il tension leg è ovviamente dal punto di vista mercato e produtturali scienza tecnica delle costruzioni il problema più complesso perché si tratta di un corpo che ha azioni onde che ha tutto il vento tutto vento l'aerolastica del rotore ha l'azione del mare sulle funi portanti quindi uno dei problemi dal punto di vista di meccanica strutturale più complessi e diciamo ricchi anche perché le competenze ovviamente noi lavoriamo con gli ingegneri industriali che sono fluidodinamici per natura e lavoriamo con gli ingegneri marittimi che conoscono bene la variabile aleatoria onda marina eh di superficie e così via allora eh qui tutti ci sono gli scenari quindi Europe parla di diversi scenari una cosa interessante su cui voglio rimarcare eh la vostra attenzione voglio attrarre la vostra attenzione è questa curva dot questa eh che vi fa vedere il questo è eh levelized cost of electricity cioè il costo livellato su tutte le fasi eccetera dell'elettricità e la riduzione vedete che qua a sinistra c'è meno 10 meno 20 meno 30 queste sono le varie tecnologie in particolare qui ci trovate l'onshore l'onshore cioè a terra avrà una riduzione di costo ormai è ottimizzato è arrivato a un costo ottimizzato a una riduzione del 35 quello che la tecnologia che presenta i costi eh eh di di produzione e manutenzione eh più diciamo la riduzione futura dei costi maggiore è proprio il floating l'offshore floating e questo eh eh perché la riduzione maggiore perché si possono amare si devono e si possono utilizzare amare delle strutture che hanno in termini forse anche di di numerosità vorrei dire che hanno in termini di leggerezza che hanno in termini di eh eh resistenza strutture diverse e maggiormente performanti rispetto a quelle a terra questo è ciò che su cui la ricerca si sta eh sviluppando c'è un grossissimo c'è un grossissimo proprio in questi anni proprio in questi anni c'è una grossissima attenzione in particolare dell'Unione Europea che vede su questa tecnologia il primo bullet cioè si è appena chiuso un bando a gennaio in Horizon che vede fra le fra le renewable energy il floating offshore floating lo chiamano così brevemente il bullet point numero uno cioè il punto numero uno delle priorità sempre Wind Europe dice che è molto interessante questo questo discorso perché i prezzi qui ora io spero scusate l'inglese ma siccome fra venti giorni devo parlare proprio la stessa cosa nel sud del nostro paese ho pensato di mettere ed è un convegno europeo ho pensato di metterlo una volta per tutte in inglese cioè voi vedete che praticamente ci sono progetti già banditi 2016 2017 che mostrano eh una eh capacità average capital cost meno di 3,7 eh milioni per megawatt quindi siamo arrivati ad un costo effettivo del eh per l'investitore che questo scenario questa questa tecnologia sta diventando sempre più appetitivo tanto che io mi aspetto che anche quei major quelle star produttori di turbine fino adesso hanno deciso di non andare a mare non dovranno fare se vogliono se non vogliono lasciare tutta la torta a due produttori sostanzialmente sim e se lo dovranno fare allora andiamo ancora avanti questo è l'offshore wind potential guardate io ringrazio Laura mia coautrice Laura Serri è del centro di ricerca e sviluppo energetico qui a Milano e ha fatto un lavoro straordinario ci sono delle interessantissime introspezioni anche perché in funzione di numerosi progetti europei attraverso Atlaeolico Aurecca dopo e poi adesso Coconet praticamente abbiamo una mappatura della producibilità incrociata fra l'altro con le onde marine della produttività delle aree del Mediterraneo io mi sono lamentato con Laura perché hanno scelto di fare la produttività maggiore è questo blu è il blu profondo e hanno messo blu il mare quindi uno sembra che quello sia il colore del mare no, quello è il colore della produttività lo score è fino a 4 cosa vedete? non si vede nulla va bene mi spiace allora si vede praticamente che a parte certe zone del nostro mare Adriatico dove c'è un po' di calma piatta evidentemente qualche zona della costa della Libia e della Tunisia tutto il resto in particolare vorrei dire che la Sardegna non si vede bene ma ci sono delle zone molto produttive tutta questa parte sotto la Grecia la costa turca quindi insomma io non sto qui ci sono i numeri ci sono le possibilità quindi siamo veramente di fronte ad un tesoro non un tesoretto un tesoro che è lì e aspetta solo intervento da parte degli investitori ma anche naturalmente della scienza e della tecnologia noi italiani ci siamo io vi permetto anche di parlare a nome di un gruppo che è guidato dal collega Lugni del CNR INSEAN e che sta facendo cose piuttosto importanti ecco questa è la piccola buona notizia nel senso che il collega Severini mi concede di farvi vedere queste due cose questo è un render ancora però questo è il parco il primo parco eolico di tutto il Mediterraneo che va a realizzarsi al tanto sulla baia vedete qui la pianta ci sono quattro macchine in fila proprio davanti alla barriera del porto e poi c'è una stella con altre sei macchine quindi dieci macchine questa è la tipologia qui vedete i megawatt sono 3 megawatt 122 è il codice del diametro del rotore quindi questi sono oggetti che in dimensioni già questi ma anche l'ottanta o il cento superano le dimensioni di un Airbus 380 questi sono oggetti che pesano 250 tonnellate stanno a 120 metri di altezza e quando spingono per l'azione del vento non dico di picco ma le azioni massime di dimensionamento spostano la torre di un metro e venti eh? e poi c'è la dinamica poi c'è tutto il vento più volendo eccetera sono strutture altissimamente performanti così come è il ponte sullo stretto di Messina io qui insomma c'è la descrizione che non è pensata per intanto per la serata di qui di come si lavora dal punto di vista della modellazione in meccanica fluidodinamica perché qui c'è interazione vento struttura onde cavi ecco questo ancora no perché qui c'è il fixed button ma quando c'è il cavo naturalmente il sistema dinamico vorrei dire un multibody un multicorpo un sistema dinamico multicorpo in cui la parte galleggiante in genere può può essere considerata infinitamente rigida quando faremo le cose un pochino più avanzate con sistemi molto più performanti forse neanche quelle ipotesi possiamo più adottare certo una cosa è chiara nel Mediterraneo noi bisogna andare sulle onde non lineari e questo è stato il primo gradino da superare noi l'abbiamo superato già da qualche da qualche tempo attraverso una formulazione che io vi risparmio rigorosamente però voglio farvi dire una cosa in cui sono particolarmente orgoglioso perché un bravissimo dottorando questa è la sua tesi del 2011 non si muove naturalmente perché non ti muovi faccio come Mosè no è lui non mi dica che non si muove non può essere e poi si muove e poi si muove ah qui non c'è QuickTime vedete vedete la pericolosità di cambiare computer no 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 allora se potessi farvi vedere questa animazione voi vedrete che la blu è l'onda lineare quindi non può frangere non mi dà non mi dà più tanto non è gravissimo sono grazie mi ripresento di fronte alla commissione oppure vi invito tutti a Casanzaro fra un mese fra 20 giorni e lì potrete vedere a vedere il ponte di Moragli prego a vedere il ponte di Moragli sì prima a vedere il ponte di Moragli e poi ad assistere non mi dà normalmente non mi dà non mi dà un'altra cosa non mi dà te sta scaricando quel piano ma io sarei anche poi poi non c'è che nessuno non mi dà che ne dà il mio dottor addio ah ma io sono di anche che fonte di thrust non è un problema adesso il sistema signore se qualcuno che non pensi che nessuno abbia un minuto diciamo bene un minuto prendiamoci per te vai mi senti molto qui ti dai credo le certezze no ma il mio obiettivo è un solo grazie grazie che è un rotta con la cresta dei centrali perché la conseguenza però quella statica vede la posso far venire Grazie. 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 Creiamo questo gruppo e cominciamo a dedicarci all'attenzione della performance di una struttura di 1000 metri che possa generare qualcosa come 40-50 Gore una struttura e poi magari metterla in batteria, attenzione questo è un progetto di cui avete ricordato a sentire parlare, vedo da chiuso, ormai credo sia definitivamente abbessional. Questo era il progetto della fondazione RWE tedesco con molti soldi della fondazione Krupp o Volkswagen, aveva dedicato tanti milioni a questo progetto ed era pensata una rete di generatori. Guardate che qui tutte le tecnologie sono elencate, io non ci entro minimamente, ma tutte le energie sono elencate per questo, questo non è un mega, questo non è un giga, questo è un terra progetto che era assolutamente propagato dalla maggiore industria tedesca. Però credo che anche il DLF, il Doge, non ha funzionato ma credo che lo start up non è mai veramente partito. Da quando il professor Guglielstein ha lasciato la leadership del progetto e è diventato lettore a Dresda, i lettori si sa non hanno più tempo per occuparsi. Allora che cos'è, cosa sono questi oggetti? Questi oggetti sono semplicemente dei cammini a tiro naturale, i quali per il classico cammino, per il loro gradiente ma soprattutto per il suo riscaldamento che si genera da questi enormi bacini, questi specchi, riescono ad arrivare appunto a potenza e qui c'è il flusso, si riscalda, entra in queste batterie di generatori radiali, distribuirli radialmente, tira anche via. Ovviamente qual è il problema? Il problema è il vento, il problema è solo il vento, c'è un altro problema, dicono i tecnologi del vetro, chi la leva la sabbia dal vetro quando tira vento e si copre tutto il vetro? Allora, ma lì ci sono le macchine per spazzare, ecco così come si lavano i vetri dell'Empire State Building, no l'Empire non ce l'ha i vetri, insomma di questi grandi grattacieli, si può lavare, si parla di specchi di due chilometri in diametro, queste sono, qui c'è praticamente dallo studio dell'Università di Stellenbosch, ho detto che il Sudafrica con il professor Kreger e il suo gruppo fa parte di questa comunità scientifica e naturalmente problemi dinamici di stabilità e durabilità, problemi di irrigidimenti per stabilità, qui siamo al record attuale delle torri di raffreddamento, care molto ai nostri e qui siamo al prototipo da 500 metri. Ci siamo interessati un po' di problemi trasversali, abbiamo già fatto una serie di ricerche che riguardano l'azione del vento, chiudo, l'azione del vento su queste enormi superfici, cilindriche o paraboloide e polmoniche, perché nasce qualcosa che è venuto fuori e prima non si sapeva, e poi è questo flusso bistabile, un giorno in un'altra sede, cercherò di entrare in dettaglio, è un flusso che si separa ed è però alternato, quindi praticamente è come una forzante trasversale all'azione principale del vento che dà molta noia. Tutto questo in un regime turbolento con superfici scavoli non era mai stato messo in evidenza in letteratura prima dei nostri studi. Prove in galleria del vento sempre rigorosamente doppie in un laboratorio, stessi parametri, stesse intensità anche nell'altro laboratorio. La parte 3 l'aumento, però il professor Sighiero avrà il file pdf di tutta la presentazione e se vorrà, se lo volete, lo potrete avere direttamente da lui. Io vi ringrazio e mi scuso. Non hai messo a punto di fronte il corso che invita tutte le fonti di energia, direttamente dai corsi rispetto a questo. A questo in particolare, 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 a dire ai rossi, che oggi non siamo trappati, oggi, oggi, io credo che... Siamo già andati a batteri, ma costa di meno, costa di meno, costa di meno, costa di meno, tanto più di nuove ottenizie della tecnologia, ma le fai magari in batteria. Cioè, dobbiamo imparare, qui si parla di cose che magari fai 150 mW in un arco di 10-12 milioni. Ovviamente, ovviamente, in posti dove non c'è nessuno, dove ci sono solo qualche volta... la carovana di cammelli, ecco... Ma mia domanda, tu l'hai capito? Perché io, nessuno ha detto, ognuno di noi deve pagare un incentivo per produrre una cosa che costa di meno? No, 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 no... E tutto il dottor Anicocchi ci costa... All'idea, all'idea... All'idea, all'idea... Bene, grazie. Grazie a te, invito qualcuno dei tuoi studenti a partecipare al concorso Tuneit, che si chiude il 31 di marzo, e siccome c'è la terza linea dedicata, e abbiamo tra l'altro anche il nostro amico Ruggero, che sarà in commissione, e Negri Power mi ha, in qualche modo, ventilato l'ipotesi anche di essere colposto di questa iniziativa, quindi a maggior ragione ci siamo, insomma. Bene, allora, grazie, questa cosa era prevista stamattina, adesso riprendiamo il programma, invito l'amico Filippo Romeo, che è un giovane, più giovane di tutti noi, credo, forse sì, sì. Sì, ecco, lui è un ricercatore che si occupa di geopolitica, mi piace perché ha una visione molto ampia, fa parte anche di un gruppo interessante, molto spontaneo, che sta soffrendo anche lui l'idea di essere ricercatore non ben collocato, ogni tanto guarda verso il fuori, e dici ma me ne vado o non me ne vado, io spero che tu resti comunque. Filippo, a te. Sì, la ringrazio per la presentazione, io sono Filippo Romeo, sono del Think Tank Vision and Global Trend, è un centro studi che si occupa di analisi di geopolitica e di geoeconomia. Avevo preparato delle slide, però preferisco andare a braccio perché vorrei riprendere il discorso di stamattina legato un po' al ponte e alla domanda che è stata posta a chi serve il ponte. Prima però di riprendere questo discorso vorrei tracciare uno scenario partendo dal macro per poi arrivare al micro, diciamo dal globale al locale, anche perché questo era anche il tema che mi era stato affidato, Mediterraneo e Via della Seta. Penso che di Via della Seta ne abbiate sentito parlare un po' tutti e la Via della Seta nasce a seguito di un'esigenza cinese che è avvenuta dopo lo spostamento dell'asse geopolitico e geoeconomico verso il sud del mondo. L'asse, diciamo, sta traslando da quello che era il dominio europeo-atlantico, quindi dal dominio dei mari e dal dominio del mare atlantico verso il sud, quindi verso la parte africana e verso la parte pacifica, tant'è che durante la presidenza Obama nel Pacifico è stata proprio concentrata tutta l'attenzione dell'amministrazione Obama, il famoso pivot pacifico, il perno pacifico. La Via della Seta appunto nasce un po' da queste esigenze anche per rispondere a questa contrapposizione statunitense ma per rispondere in maniera soffice, il famoso soft power cinese, che è quello della Via della Seta, abbracciare l'Europa, abbracciare la parte continentale, sia asiatica che europea, attraverso due grandi vie di collegamento, la Via della Seta terrestre e la Via della Seta marittima. La Via della Seta terrestre passa per la Russia, per il centro Asia e arriva in Europa, mentre la Via della Seta marittima percorre l'oceano indiano, si risale per Suez e punta sul Mediterraneo. Con la realizzazione di questi due grandi progetti il Mediterraneo torna nuovamente al centro della scena geopolitica e geoeconomica agroppale. Quindi è l'Italia che posta in un certo qual modo al centro una sorta di rampa, un piano di scorrimento che taglia il Mediterraneo. In due, viene esattamente collocata al centro di questo mare che è tornato nuovamente al centro degli scambi geoeconomici, ma soprattutto al centro dell'attenzione geopolitica. Non è un caso che da una decina d'anni a questa parte il perimetro di questo mare è stato in un certo qual modo incendiato. Perché è stato incendiato? Il Mediterraneo, oltre a essere dagli analisti, da noi geopolitici, viene inteso non solo come un mare, ma bensì come una sorta di cerniera. Perché è una cerniera? È una cerniera che collega tre continenti, che potrebbe tenere unì l'Europa, che è una propagine dell'Asia, e l'Africa. Quindi abbiamo ben chiaro il concetto di cerniera. La cerniera, se si vuole tenere chiusa, mette insieme appunto questa grande massa continentale, questa grande massa terrestre. Bene, se andiamo ad analizzare bene quello che è successo un po' dalla guerra dei Balcani, vediamo che dai Balcani, scendendo, ampliando un po' il raggio d'azione, quindi arrivando in Ucraina, passando per l'Iraq, per l'Iraq, scusate, fino all'Algeria, il perimetro di questo mare è stato in un certo qual modo tutto incendiato, è una lingua di fuoco. E questo ovviamente ai più maliziosi, agli analisti che poi in un certo qual modo lo sono, fa pensare che ci sia una sorta di volontà che viene fatta sceltamente per dividere questi tre continenti, per non metterli insieme. E viene fatto in un momento in cui invece nel globo, a livello globale, vengono realizzate le grandi infrastrutture di collegamento, si stanno muovendo, ognuno di questi attori, dei nuovi attori, penso alla Russia, penso all'India, alla Cina che abbiamo nominato, Pocanzi, agisce nella realizzazione di infrastruttura di collegamento. Abbiamo parlato della Via della Seda, ma c'è anche il progetto Razzvite, che so che è stato già illustrato abbondantemente dall'ingegnere Mollica questa mattina, o del progetto della Via del Cotone indiano, che per qualcuno viene fatto in contrapposizione alla Via della Seda cinese, ma non è questo il punto, il punto è che il mondo si muove in questa direzione, e quindi il mondo cerca di unirsi, cerca di interconnettersi, ma lo vediamo nella massa continentale che noi chiamiamo euro-asiatica, euro-afro-asiatica, ma anche la stessa cosa vale per il continente latino-americano, stanno costruendo i corridoi est-ovest. Quindi, questo che ho tracciato è un po' lo scenario macro, vorrei aggiungere solo un'ultima cosa, questo è un scenario macro, e come viene fatto, ne parlavamo poc'anzi con l'ingegnere Mollica, proprio la Russia, Iacuni, il presidente delle ferrovie, ex presidente, se non ho fatto il rato, delle ferrovie russe, ha realizzato questo progetto, Razvide, che si collega anche in parte alla Via della Seda terrestre cinese, mettendo al centro il discorso della dignità umana, un tema anche tanto caro a Papa Francesco, che anche nella sua enciclica ha messo al centro questa tematica. Perché ha messo al centro questo tema? Perché, e come ha messo al centro questo tema? Realizzando anche delle città sul percorso di questo progetto di collegamento che siano fatte a misura d'uomo, quindi non un corridoio, non un tubo per unire, semplicemente per far scorrere delle merce, quindi favorire questa globalizzazione che proviene un po' dagli Stati Uniti, ma tornare, mettere al centro del discorso anche l'uomo e quindi mettere le infrastrutture a servizio dell'uomo, quello che poi è l'elemento fondamentale, un po' come hanno fatto i romani che li hanno costruiti per mettere al centro dell'uomo, ma anche per controllare l'impero. Tornando un po' al nostro discorso, quindi alla via della serenità e al Mediterraneo, come abbiamo visto il Mediterraneo è al centro di questi scambi, l'Italia è al centro del Mediterraneo, la Sicilia è la punta avanzata, perché se l'asso geopolitico va verso sud, la Sicilia e la Calabria, che sono calabreschi, guardano a sud. È chiaro che, prive di infrastrutture di collegamento, la Sicilia e la Calabria rimangono tagliate fuori da questi nuovi scenari. Quindi, per rispondere alla domanda di stamattina, a chi serve il ponte, il ponte serve sostanzialmente per mettere queste regioni al pari delle altre, non solo a livello italiano, ma anche a livello globale, per seguire quelli che sono i nuovi trend globali, ma per seguirli, non semplicemente perché è una questione di tendenza, ma per intercettare i traffici, perché è stato sicuramente ripetuto più volte, sappiamo che il traffico è aumentato tantissimo, e l'abbiamo visto anche dall'ampiamento del canale di Suez. A proparentesi, l'ampiamento fatto nell'arco di un anno, lì c'è stato un decisore forte, ha deciso di fare, di ampliare il canale, il canale è stato ampliato. Il 75% del traffico che passa da Suez segue il percorso attraversando Gibraltar, salendo poi Rotterdam, Anversa, eccetera. Solo il 25% entra in Europa dai porti italiani, e questo 25% generalmente viene sempre intercettato da Genova, Trieste, ma anche dai porti della sponda nord del Mediterraneo che poi trappi Corororo, poi l'oporto in altri porti europei. Ecco, se noi riuscissimo a intercettare una fetta di questo 75%, senz'altro potremmo in un certo qual modo ribaltare anche l'asse geopolitico e anche italiano, perché è chiaro che il Sud andrebbe a creare uno sviluppo notevole proprio in quei territori che ora al momento si stanno depoverando, stanno in un certo qual modo morendo, stanno venendo meno e stanno venendo meno anche proprio per la carenza di questi collegamenti. Io ho curato per parecchi anni, mi sono occupato per parecchi anni dell'infrastruttura porto di Gioia Tauro. Ecco, il porto di Gioia Tauro è un porto di transshipment, vale a dire, arrivano le grandi navi, scaricano, poi vengono, il carico viene portato sulle piccole navi e sostanzialmente di questi scambi a Gioia Tauro rimane pochissimo. Perché rimane pochissimo? Rimane pochissimo perché a Gioia Tauro non è collegata con le linee di alta velocità e alta capacità che potrebbero metterlo in collegamento con quelli che sono i centri commerciali del nord Italia e del centro Europa. Bene, Gioia Tauro a differenza di altri porti, a parte che Gioia Tauro per anni è stato nelle verti delle classifiche dei porti del Mediterraneo, però Gioia Tauro a differenza degli altri porti italiani e anche di molti porti europei ha un vantaggio oltre, che non è solo dettato dalla questione geografica e anche ha un vantaggio infrastrutturale perché ha dei fondali che possono accogliere le meganate e poi soprattutto ha una pianura alle spalle molto bassa cosa che non hanno altri porti e quindi questo gli permetterebbe di sviluppare anche di svilupparla con delle industrie e quant'altro che servirebbe all'attività manifatturiera e poi tutto quello che ne deriva dall'attività e dall'attività manifatturiera quindi per tornare un po' sul discorso di stamattina a chi serve il ponte un po' scherzando a pranzo degli amici pensavamo un po' è nato prima l'uovo o la gallina se crei delle infrastrutture evidentemente puoi anche creare e generare la domanda e quindi di conseguenza generare lo sviluppo diversamente il sud va a morire ma muore il sud e muore anche il nord perché poi il sud si troverà ad essere una zavorra per il nord attenzione un nord che al momento viene che in futuro potrebbe essere schiacciato sia dall'Europa perché al momento in un certo qual modo stiamo comunque siamo una sorta di periferia della Germania facciamo l'indotto della Germania e sia dall'Africa che in un certo qual modo sta crescendo quindi ci troviamo invece di essere centro di smistamento potremmo verremmo schiacciati da queste due grandi masse l'ultima cosa e poi chiudo sempre per sottolineare la posizione strategica che ha la Sicilia noi l'importanza strategica della Sicilia la capiamo da altri due elementi uno è dettato dalle basse militari che ci sono in Sicilia e si conelta sono lì perché evidentemente la Sicilia è posizionata bene e quindi l'Italia ha un raggio d'azione interessante due in Sicilia avviene lo smistamento dei dati internet in Sicilia praticamente c'è un'altra via della seta che passa sott'acqua che è quella dei capi internet sottomarini e in Sicilia c'è una centrale di smistamento verso l'Europa quindi questi due elementi ci fanno capire che l'importanza strategica della Sicilia ma allora io qui da geopolitico mi pongo una questione la pongo a voi però non do a questo risposta allora a me viene da pensare questo se la Sicilia è così strategica perché qui c'è un gioco fatto da tanti attori i più grandi sappiamo chi sono sono gli Stati Uniti la Russia la Cina l'India ma quelli che al momento guidano il gioco sono Russia Cina e Stati Uniti c'è la volontà per caso di uno di questi attori a non voler sviluppare il meridione d'Italia proprio perché il meridione d'Italia è strategico a quella che è anche l'azione di difesa e di controllo di determinate aree io mi lascio con questo interrogativo e ho concluso ringrazio grazie grazie Filippo non si intende come efficace allora abbiamo un piccolo cambiamento in programma chiederei a Enrico Landoni di fare il suo interventino pregandolo di mangiarsi qualche minuto rispetto ai 20 minuti di disposizione lui parla di una cosa molto affascinante la politica di Craxi nel Mediterraneo e poi abbiamo con noi che cambierò un po' della tavola rotonda se non mi dispiace subito dopo di lui fargli parlare un momento Nicola Carnovale che è il segretario della fondazione Craxi che vi si innesta sulla questione Enrico è il nostro docente è uno storico contemporaneo abbiamo fatto intervenire al congresso delle donne dove ha fatto una bellissima sparata perché ha parlato di Golden Air davanti a una platea di palestinesi non vi dico che cosa è successo io l'ho definito a sparata non ho capito bene se lui è un incosciente o un provocatore forse le tue cose vanno insieme dai Enrico tranquillo però l'ho portato a Lancara non voleva venire a Lancara l'ho convinto gli ho fatto pure bere l'Iran grazie Enzo grazie mille dell'invito no ha ragione Enzo ma credo che rientri esattamente nelle prospettive mediterranee perché chiaramente questo grande lago di prosperità che ci unisce che unisce soprattutto israeliani e i palestinesi deve essere quindi oggetto di approfondimento e motivo anche di unione di reciproco di conoscenza quindi c'era chiaramente una logica oltre anche l'inserimento di questa figura tra le grandi donne che in qualche modo e nel bene e nel male hanno fatto a mio avviso la storia la storia del novecento come elemento oggettivo io ringrazio Enzo sono molto contento di essere qui stamattina davvero le suggestioni sono state tantissime ed è secondo me splendido e perfettamente rispettoso della tradizione italiana degli ingegneri non solo l'apertura e l'attenzione multidisciplinare ma quel lato anche per certi versi umanistico che ha sempre caratterizzato anche il mondo degli ingegneri che ha perso diciamo stamattina a Gatta che insegnava letteratura italiana al poitecnico di Milano e che arricchiva a mio avviso quella generazione di ingegneri forse si è un po' perso questo elemento ma io oggi l'ho sicuramente ritrovato con grande interesse grande grande passione questo è un ulteriore spunto e stimolo nella riflessione io non intucio non perdo ulteriore tempo voglio solo ricollegarmi riprendere un po' al fine del discorso e di collegarmi a quello che è stato introdotto questa mattina mi riferisco soprattutto alla splendida relazione di Giuseppe Fiammenchi parlato subito di visione quindi entro evidentemente in Medias Res e parlo di visione e mi accingo a parlare di quello che a mio avviso è stato l'ultimo grande esponente politico italiano l'ultimo statista autenticamente tale che alla politica estera del nostro paese ha contribuito a dare una visione un'apertura di alto respiro e una prospettiva una prospettiva chiara di cui io vorrei provare a tracciare sinteticamente le tracce le tappe sviluppi anche per certi versi contraddizioni partendo dalla stagione del governo parliamo di Craxi dal momento in cui Craxi si insedia a Palazzo Chigi e poi lentamente cercando lentamente ma rapidamente nell'economia del mio discorso capire quali sono le origini all'interno di quale perimetro si muove questa politica estera di Craxi con il Mediterraneo al Cento e quali sono dunque le ragioni che lo spingono a sviluppare questo rischio per partire credo sia necessario esordire con una citazione non è breve non è lunghissima sarò purtroppo rapido ma credo che ci dia perfettamente lo spirito del tema di cui ci stiamo occupando così diceva Craxi alla fiera del Levante la 47esima fiera del Levante 9 settembre 1983 a Bari quindi siamo sulla propagine orientale più estrema diciamo del paese affacciata sul grande lago di prosperità che giudisce come amava dire Aldo Moro intimamente e profondamente europea legata alle istituzioni alle prospettive al ruolo dell'Europa convinta della necessità di fare evolvere il processo di costruzione e di allargamento dell'Europa superando crisi contraddizioni tentazioni egoistiche ed eccessi di nazionalismo l'Italia immersa nel Mediterraneo sente profondamente l'impulso naturale che la spinge a collegarsi con i popoli e i paesi del Mediterraneo siamo vitalmente interessati alla pace nel Mediterraneo nessuno potrà considerarci interlocutori estranei o giudicarci animati da propositi invadenti se ci toccherà di far valere sempre la nostra parola su tutte le questioni rilevanti aperte della regione sollecitando in primo luogo amici e alleati al riconoscimento del ruolo di stabilità e di sviluppo pacifico cui l'Italia non intende mancare ecco io credo che questo discorso questa citazione piuttosto sintetica dell'ampio discorso che Craxi ebbe a pronunciare quella circostanza ci dà la misura il senso lo spirito di questa visione di questo interesse questo interesse però va contestualizzato perché Craxi in occasione sostanzialmente della sua prima uscita pubblica ricordo che in quel frangente Craxi si è resiliato a Palazzo Chigi da un mese e quattordici giorni quindi una cosa di questo genere dunque perché immediatamente questa proiezione mediterranea e questa scelta così marcata beh di prima chi dovrebbe dire siamo a Bari siamo alla fiera del Levante è verosimilmente normale che il presidente del consiglio parli in questi termini del ruolo britannico in realtà ci sono ragioni più profonde e sono ragioni dettate da fattori questioni di politica internazionale cui accenno molto brevemente peraltro questa notità questa così riflessione così importante sul Mediterraneo veniva colta da un osservatore americano Jack La Palombara importante studioso politologo americano che riferiva all'amministrazione Reagan di questa notità che stava diciamo determinandosi all'interno della politica italiana e per la notità lo aveva rilevato già con un anno di anticipo prima ancora che Craxi diventasse presidente del consiglio questa notità l'aveva percepita perché era molto amico di un consigliere politico di Craxi che era un politologo e che evidentemente gli aveva rivelato anche qualche informazione sto parlando dell'indimenticato dal punto di vista Alberto Spreafico che gli aveva insomma rivelato alcuni aspetti della politica estera italiana in fase di riconfigurazione a rappresentare quindi il Mediterraneo come oggetto di particolare attenzione è dovuto a una particolare fase di transizione che in quel momento si determina sullo scenario internazionale vado molto sinteticamente la Russia inizia già a palesare degli evidenti limiti è in crisi si trova in un momento di grande difficoltà e anche gli Stati Uniti che evidentemente sono particolarmente interessati sul piano geopolitico a quest'area allentano provvisoriamente e momentaneamente la presa rendendo possibile dunque il dispiegamento di tutto quel potenziale diplomatico di cui l'Italia poteva disporre poteva disporre soprattutto nel quadro e sullo sfondo di questa nuova leadership così volitiva e forte che si era da poco insediata a Palazzo Vigie questo è diciamo il contesto all'interno del quale nel 1983 noi dobbiamo cercare di capire il senso di queste dichiarazioni e inquadrare la politica extra-mediterranea di Bettino Crassi e del suo governo all'inizio del suo mandato ma questa politica da dove viene quali sono diciamo i riferimenti di lungo periodo non è certamente quella di Crassi una scelta estemporanea del momento ne abbiamo descritto poc'anzi gli elementi di novità non l'ha fatto diciamo molto meglio di me più diffusamente insomma in modo più analittico Jack La Palombara nel 1982 però insomma la politica di Crassi si inserisce in un filone di continuità in un filone storico consolidato di tradizione italiana fortemente ancorata al mondo mediterraneo e con particolare attenzione alle dinamiche diciamo relazionali con le popolazioni armi con i paesi arabi della zona voglio ricordare per assommi capi da storico da dove veniamo quali sono le tappe fondamentali che a mio avviso non si può dimenticare per capire il ruolo naturale dell'Italia all'interno di quest'area ruolo che forse dovremmo anche ricordare e imparare a riprendere in qualche modo la prima tappa fondamentale di Sanemunzio degli anni degli anni 50 va ricordato che grazie all'Italia Grecia e Turchia nel 1951 e 1952 entrano nella Nato questa è una scelta cui l'Italia tiene particolarmente perché come dice la stessa sigla Nato diciamo il baricentro geopolitico di questa alleanza era naturalmente a nord e l'Italia aveva tutto interesse a che invece venisse riequilibrato verso sud verso il Mediterraneo di cui l'interesse è garantirsi una copertura anche di quello che possiamo definire bacino d'Otranto quindi la protezione garantita all'interno dell'alleanza atlantica il bastione diciamo sud orientale garantito della Grecia e della Turchia e quindi il legame anche naturalmente con partner mediterraneo è molto molto rilevanti ai fini anche delle relazioni economiche ma poi in questo stesso torno di tempo nasce per esempio l'Accademia del Mediterraneo per volontà di Giovanni Alliata di Montereale sarebbe poi nato all'interno dell'Istituto per l'Oriente un centro per le relazioni culturali italiane e dunque nel corso degli anni 50 la cooperazione con il mondo diciamo arabo-mediterraneo diventa sempre più forte anche e soprattutto dal punto di vista culturale voglio ricordare lo faccio molto velocemente mi chiedirei a noi rei a quell'infinita rete di istituti italiani di cultura che a cavallo tra gli anni 50 e 60 vengono aperti nelle principali capitali di quest'area ricordo il grande successo diciamo ottenuto dall'apertura di queste nuove istituzioni tra Algeri Beirut Istanbul Alcara insomma tutte le principali città capitali dei paesi diciamo gli eraschi e non solo diventano in qualche modo concetto di attenzione e tra virgolette di conquista da parte dell'Italia che lì crea degli accordi bilaterali di cooperazione e di investe sulla cultura sull'elemento culturale come tratto distintivo della nostra azione diplomatica e di politica ma poi come dimenticare il colloquio mediterraneo di Giorgio Latira del 58 l'idea quello che ho citato poco fa di Moro che parlava del Mediterraneo come di questo largo di prosperità che ci univa siamo all'inizio degli anni 70 c'era l'esigenza di creare delle relazioni solide con Gheddafi che con la Libia che rappresentava insomma in quel frangente un elemento insomma per certi versi pericoloso comunque da maneggiare con grande cura dunque la politica estera di Craxi si inserisce dentro questo fedore è storicamente inserita in questa tradizione ma evidentemente ha degli elementi di novità delle peculiarità e anche all'interno delle origini della metabolizzazione di Craxi di queste tradizioni c'è qualcosa di nuovo e di interessante sì perché Craxi è l'anno che si forma a Milano dove alla fine degli anni 60 diventa leader dei socialisti milanesi e Milano non va dimenticato quale diciamo laboratorio particolare di osservazione del mondo mediterraneo e soprattutto del conflitto diciamo israelo-palestinese con la fine degli anni 60 diventa fortissimo importante voglio ricordare che a Milano nasce l'Unione Democratica Amici di Israele e a fondarla nel 1968 è stato per Milano un grande esponente della famiglia allargata del socialismo italiano mi riferisco a Virgilio Ferrari quel momento proveniva dal filone socialdemocratico ma afferiva naturalmente alla grande famiglia laico-socialista ed era la famiglia laico-socialista tradizionalmente attestata su posizioni come dire filo-israeliane molto vicine alla causa degli israeliani ma all'interno di questo quadro Craxi inizia in realtà a maturare nelle posizioni come dire proprie autonome anche critiche rispetto a quelle che lui giudicava come dire un po' troppo appiattite sulle posizioni israeliane Craxi dedicava l'esigenza di una posizione autonome in grado di realizzare a pieno quel disegno pan-mediterraneo che Moroteo che Moro in termini molto Morotei scusate nel gioco di parole aveva cercato di realizzare proprio in questo stesso periodo tra gli anni 60 e 70 dico Moroteo perché naturalmente l'idea di di Moro era quella di creare un concerto internazionale un'armonia una situazione tale per cui l'Italia si inserisse in questo disegno armonico senza creare spigolosità o attriti considerando il Mediterraneo come un unicum davvero un unicum che prescidesse dai conflitti e dalle contraddizioni anche violente dai contrasti anche violenti esistenti tra le due parti in questo caso israeliane mondo e mondo armonico ecco Craxi realizza questo disegno palmediterraneo ma dà una connotazione naturalmente molto diversa evidentemente questo equilibrio così Moroteo pensato dallo statista di Maglie lascia il campo ad una visione invece più volitiva più chiara con un ruolo dell'Italia più identitario e oggettivamente fino a oggettivamente fino a allora infatti dovremmo affrontare questa fase di travaglio e di evoluzione molto interessante anche qui Craxi che nel 1983 fa questo discorso dice queste cose esprime con chiarezza la posizione ma lo fa sulla scorta di avvenimenti importanti di cui noi dobbiamo tenere conto che noi non possiamo ignorare ora faccio una rapidissima incursione nell'attualità ha fatto molto discutere di recente l'accoglienza riservata dalla Mogherini nostro alto rappresentante dalla politica estereuropea nei confronti di Agumaze qualche uno ha visto in questo atteggiamento una differenza un po' sospetta come se l'Europa nutrisse una forma di qualche debolezza nei confronti della causa arama questo è in linea assolutamente con ciò che l'Europa decide nel Consiglio europeo del 1980 13 giugno 1980 a Venezia si decide chi era l'Europa decide chiaramente che nella questione palestinese bisogna occuparsi e che l'Europa deve guardare attenzione a questo problema non solo considerando i palestinesi evidentemente alla stregua di profughi meritevoli di una qualche forma di attenzione ma come un soggetto diciamo geopolitico nei confronti dei quali prestare grande attenzione e sostanzialmente si consuma in quel momento in quel frangente lo stogalamento diplomatico della OLP della causa palestinese e diciamo lo svelamento dell'importanza del mondo arabo anche e soprattutto dal punto di vista diplomatico dopo Craxi si inserisce in questo filone ed è un filone europeo una scelta che viene assunta a livello europeo e quindi il Consiglio europeo di Venezia del 13 giugno 80 è una data certamente importante naturalmente Craxi aveva anche un'altra idea questa si legata a Moro che giusto appunto in questo discorso che vi ho citato dell'83 Craxi tira in ballo più volte è un omaggio che Craxi si trova in Puglia si trova a Bari ed è un omaggio che naturalmente Craxi fa il grande statista in balli ma non è un omaggio a un avviso casuale o dettato dall'occasione c'è una sincera ammirazione nei confronti della sua visione della sua idea che Craxi appunto prova ad acquisire a fare proprio ma naturalmente a reinterpretare e la guerra fredda Craxi che vive anche con dolore personale le vicende della guerra fredda voglio ricordare ma lo saprete senz'altro l'impegno che lui personalmente profuse a sostegno delle personalità politiche vessate osteggiate imprigionate dai regimi comunisti dunque viveva la guerra fredda con grande preoccupazione grande rovello interiore e Craxi era convinto che il Mediterraneo il Mediterraneo dovesse essere in qualche modo liberato da questa lotta a drammatica da questa tensione continua tra interessi egemonici contrapposti Craxi riteneva che un elemento fondamentale dovesse essere la pace o meglio due pace e cooperazione ma perché pace e cooperazione perché pace e cooperazione erano a suo avviso gli unici due presupposti sui quali costruire appunto la stabilità la stabilità del Mediterraneo dunque ogni scelta posta in essere dai vari soggetti statuali della regione potenzialmente in grado di rompere questo equilibrio sarebbe stata da condannare dal suo punto di vista ed è quello che Craxi fece ad esempio proprio nel 1980 di fronte alla scelta israeliana di quella legge che voi ricorderete approvata dalla Tlesset dal Parlamento israeliano in cui si disse che appunto Gerusalemme era la capitale eterna e indivisibile dello Stato di Israele naturalmente questo venne vissuto da Craxi come un elemento di rottura di tensione di squilibrio di questa prospettiva di stabilità che lui sperava di poter realizzare a costruire e costruire insieme naturalmente a tutti i soggetti europei dell'area e dunque è in questo quadro che si consuma la transizione fino alla è oggettivo c'è una rottura delle relazioni quasi personali diplomatiche tra Craxi e alcuni soggetti israeliani questo lo si vede ci vede in documenti e succede peraltro in momenti diversi nell'80 ma poi lo vedremo anche nell'82 successivamente nell'84 e ci arrivo molto rapidamente dunque in questo quadro si consuma la transizione filoaraba di Craxi che è sincera autentica ed è da un lato coerente con la tradizione italiana ma anche nuova anche innovativa naturalmente personale poi c'è naturalmente il ruolo svolto da Andreotti e da altri soggetti che sono politici molto importanti in Italia nel 1982 si consuma lo sboganamento politico e diplomatico ufficiale di Arafat che viene chiamato da Giulio Andreotti a Roma a partecipare ai lavori dell'unione interparlamentare e che naturalmente desta preoccupazione scocerto da parte di israeliani che si sentono un po' traditi come l'Italia e questo paese che voleva la Pax Mediterranea che dialogava con tutte le anime della regione che sceglie di sboganare in modo così inopinato di essere arafat ma questa è una scelta che viene rivindicata da Andreotti una scelta che viene profondamente radicalmente difesa da Vettino Craxi in tutte le sedi di partito e nazionali ed è il motivo che porta Craxi così arriva all'84 a quella grande offensiva diplomatica che vide Craxi impegnatissimo in prima persona insieme al suo ministro degli esteri Giulio Andreotti in missioni diplomatiche di straordinario rilievo geopolitico e storico 1984 è infatti l'anno della grande offensiva diplomatica con quattro paesi fondamentali della regione la missione in Egitto la missione in Arabia Saudita la missione in Algeria e la missione in Tunisia queste missioni di cui non voglio ricostruire l'Italia altrimenti impiegherei troppo tempo sono fondamentali per due scopi intanto per accreditare e consolidare l'immagine di prestigio dell'Italia nell'area riassumere e valorizzare l'amicizia di questo paese il nostro paese con questi stati vigli iraschi e anche come dire in modo molto pragmatico ribadire l'interesse economico e nazionale del nostro paese e di questo non c'è nulla diciamo di cui vermoniarsi o da mettere in secondo piano Jack Lapadombara nell'82 lo diceva guardate che la nuova politica estra italiana sarà molto più volitiva per quanto attiene alla difesa dell'interesse nazionale e Craxi quello che fece per esempio in Algeria rinnovando l'accordo con l'Eni per la fornitura del gas quindi c'erano interessi molto concreti e pragmatici in nome della difesa dell'interesse nazionale voglio ricordare che peraltro quando Craxi va in Algeria Craxi è il primo presidente del consiglio italiano ad essere ricevuto ufficialmente dall'Algeria dopo la sua indipendenza quindi insomma erano più di 20 anni che non c'era un primo ministro italiano che andava in Algeria e l'ha ricevuto ufficialmente ma la vera svolta della visita è la svolta in Tunisia perché? perché senza dire nulla né agli altri componenti della maggioranza di governo né dire nulla agli alleati principali cioè agli americani Craxi ed Andreotti vanno da soli con un'iniziativa personale a incontrare nel suo quartiere generale di Yasser Arafat presso Tunisi quello è il momento della massima diciamo manifestazione dell'interesse della vicinanza alla casa araba e alla causa palestinese del nostro paese l'Italia con Craxi quindi Craxi è il primo presidente del consiglio europeo in paese occidentale dell'Europa ad incontrare in quel frangente il leader il massimo rappresentante della causa palestinese e questo insomma la dice lunga sull'importanza e sul peso di questa scelta che l'Italia sceglie di attuare di praticare correndo anche qualche rischio se volete lo sottolineo l'Italia è il primo paese che copie questa scelta di politica ma quello è un rischio non solo calcolato ma è una visione di Craxi di giocare un ruolo molto attivo e centrale sullo scenario internazionale giocando su quale però settore sul piano diplomatico sul piano della cooperazione e sul piano diplomatico sono questi due assi della forza esercitata dall'Italia in quel momento forza che in quel momento è alla massima potenza consentitemi qualche forse imprecisa incursione nel mondo dell'ingegneria e della scienza ha il suo massimo potenziale ma che come dire si esaurisce di lì a breve non per responsabilità dell'Italia quindi mette ne tanto meno di Craxi ma per e così arrivo a concludere per un improvvisa involuzione del quadro politico internazionale qual è l'elemento che destabilizza completamente questo disegno dispiegato con tale chiarezza e diciamo volontà da Craxi è la recrudescenza del terrorismo internazionale in questo quadro si consumano degli episodi molto molto gravi vado a ripercorrere molto velocemente c'è naturalmente l'attentato all'Arnaca dove appunto il 25 settembre 85 un comando di palestinesi uccide tre israeliani e c'è a quel punto la ritorzione rappresaglia di Gerusalemme che bombarda il quartier generale della OLP a Tunisi provocando 70 morti la posizione dell'Italia è di feroce condanna ma dico feroce al punto tale che c'è una crisi nei rapporti diplomatici cioè viene annullata la visita del ministro del turismo israeliano che doveva venire in Italia e che Craxi annulla che Craxi fa nulla c'è poi anche il problema dell'emerge del terrorismo nel quale l'Italia è assolutamente coinvolta la strage di Fiumicino siamo sempre nel 1985 la vicenda di Sigonella la Chine e Laura voglio dire sono tutti episodi molto noti dunque quell'Italia che apparentemente poteva essere arrivata dalla causa terroristica proprio per la sua vicinanza al mondo palestinese invece no è pienamente coinvolta da questa spirale proprio perché all'interno dell'OLP c'erano delle forze contrarie alla svolta diplomatica e della trattativa di pace scelta da Arafat insieme chiaramente ai suoi interlocutori europei Craxi in testa dunque l'Italia è colpita da questo motivo è colpita sebbene come racconta l'Espresso che ha trovato i 19 diari segreti di Arafat in esclusiva mondiale anche se appunto Arafat diceva che l'Italia era la sfonda diciamo mediterranea della Palestina proprio per dire quanto l'Italia era vicina ma nonostante questo l'Italia è il teatro del terrorismo ma soprattutto nell'86 si consuma una rotura anche con gli Stati Uniti d'America perché nell'86 c'è la famosa rappresaglia di Reagan che rispondendo all'attentato libico alla discoteca alla BEB di Berlino Ovest per altro di proprietà e gestione italiana dove erano normalmente soliti recarsi i soldati americani a distanza a Berlino Ovest ecco Reagan opta per la rappresaglia su Tripoli creando un'ulteriore escalation rispetto al tema del terrorismo internazionale e qui si consuma natura perché naturalmente di fronte alla ripresa della forza delle armi l'Italia non aveva la possibilità di competere evidentemente di fronte appunto a questa nuova scelta di caso cioè quella dello scontro armato la forza dell'Italia che posava nella diplomazia nella cooperazione nel concerto internazionale nella promozione della cultura di fronte alla forza delle armi diventava difficile e oggettivamente impossibile continuare a rispidare un ruolo così importante e dunque io penso che la forza della politica estera di Craxi diciamo cessi di vivere sotto il peso delle bombe che distrussero il quartier generale dell'OLP a Tunisi sotto le bombe con le quali Reagan diciamo fece sentire il peso della propria rappresaglia che Duff è in questo quadro che si interrompe la spinta propulsiva del Duff e concludo davvero sul tema del terrorismo dicendo che la posizione di Craxi è quella che l'Italia forse avrebbe anche dovuto continuare a vedere di fronte alle emergenze per esempio in Afghanistan ai nuovi teatri di guerra Netanyahu fu nel 1900 l'attuale primo ministro israeliano fu nel 1986 curatore di un volume che uscì proprio nel pieno di questa escalation di rappresagli di Washington dal titolo Terrorism How the West Can't Mean Come l'Occidente può battere il terrorismo e in quella sede in quel libro si parla di guerra preventiva di scontro di civiltà di come dire stroncare sul nascere la minaccia islamica ebbene Craxi lo disse citando anche questo volume prende completamente le distanze da quell'idea Craxi continua ad essere convinto dell'importanza della cooperazione del concerto internazionale Craxi continua a difendere a sostenere quella che è la naturale e storica posizione dell'Italia del mare ecco io mi auguro che ricordando Craxi il nostro paese possa ritornare a pensare e pensarsi in questi termini sulla scena del Mediterraneo grazie mi sei preso un po' più tempo di quello che era previsto ma io lo sapevo e quindi non mi hai preso in contropiede Nicola io credo che possa dire due parole viene anche bene perché è il segretario della fondazione Craxi tanto sono pochi minuti io ringrazio i colleghi perché c'è la navetta che li porta poi invece qualcuno quando vi resta quindi prego Nicola e tranquillo però si dice europeo anche se ora non ma non porta molto bene non siamo fuori intanto salto sia per accelerare sia per evitare momenti stucchevoli della fase dei ringraziamenti e dei vari convenibili li do per assodati li do per condividi sì andrò invece a fare una riflessione un po' più vasta su quella che è stata non solo la giornata di oggi ma anche queste due ultime relazioni sia con la legge politica di Romero sia la lettura storica che ha voluto dare il professor Landoni che è un giovane che conosco da tempo e che è molto attento e voglio farlo partendo da queste due riflessioni con uno che è un po' uno sdolano che muove un po' quelle che sono le attività del nostro istituto non c'è storia senza futuro credo che sia un grave tema che deve affrontare il nostro paese in un momento in cui c'è una vera scissione tra quello che è avvenuto e quello che sarà non c'è una riflessione critica seria sul passato ci sono delle diciamo riflessioni che tendono a rifugire nella puntata comune più che in una lettura storiografica ma anche geopolitica e politico-istituzionale abbastanza convenzionale piuttosto che una riflessione critica che dovrebbe aiutare nel percorso di crescita e di sviluppo per quanto riguarda sia il nostro paese sia per quanto riguarda soprattutto le istituzioni comunali quindi mi retto molto fortunato di questa combinazione e vorrò fare una brevissima riflessione addentrandomi su quelli che sono un po' gli aspetti di attualità richiamati proprio in questi ultimi due interventi tentando di rifugire mi sia consentita una battuta non dico scherzando ma non troppo di rifugire di non arrendermi di arreglare dalla tristezza di quella che è l'attualità del nostro tempo noi oggi abbiamo affrontato il tema dei collegamenti stati del modo infrastrutturale che io considero il grande tema il grande rimosso della riflessione pubblica e del dibattito pubblico nostrano e lo considero come il grande tema rimosso unitariamente a quello che riguarda la questione europea leggo questi due temi per una ragione sostanziale è un'idea che mi è venuta proprio in macchina mentre venivo qui di teo li leggo per due ragioni essenziali andiamo all'attualità ripeto senza cadere nelle miserie umane che animano la politica come è normale che si avendo a che fare con le miserie degli uomini le infrastrutture sono state storicamente il grande tema di dibattito nelle campagne elettorali eppure non se ne parla più come ma me e credo questo da la misura del livello del dibattito della qualità del dibattito nostrano ma non solo le infrastrutture sono venute meno oltre che per una decadenza del quadro generale di riflessione le storie di riflessione e questo di fatto sono venute anche meno rispetto a quello che è stato il periodo della crisi come se le infrastrutture aggravassero la crisi e la recessione italiana ed europea e non fossero altresì un volano di crescita per gli investimenti quindi per riappuantare una ripresa che sembra veramente isperata noi abbiamo come Italia quella che possiamo definire una ripresina non vi è nulla di strutturale e nulla che può essere considerato frutto di elementi endogeni diciamo è tutto dovuto a fattori esterni che purtroppo rischiano di essere assai passeggeri assai volati queste infrastrutture sono venute meno e contemporaneamente viene meno dibattito sulle questioni europee noi abbiamo assistito negli ultimi due o tre mesi a delle riflessioni su Europa sì e Europa no senza chiederci quale fosse il tema ossia se il tema è quello di proporre uno scontro antistorico antitecnico tra europeisti e sovranisti come se fossero due categorie rappresentativi come se ci fosse obbligatorio una strada che ci deve porre di fronte a uno scontro tra gerarchie di potenza o sottomissione oppure come se dovesse esserci invece un dibattito su quale Europa dobbiamo costruire dico questo perché il tema dei corridoi europei che animò buona parte della costruzione del processo comunitario è un tema che in larga parte in parte inattuato in parte esaurito in parte non esplorato per varie ragioni anche ambientali politiche ed economiche è un tema che si è totalmente arenato quindi le due cose qual'Europa e la questione infrastrutturale in Italia e nel contesto europeo sono totalmente scomparse il tema qual è? il tema che credo rappresenti il mio comune notori tra questi due elementi sia l'assenza di una visione di futuro cioè quando il discorso del dibattito quello che noi abbiamo posto oggi in questa giornata di studi come elemento di attenzione di riflessione è proprio come presupposto necessario indispensabile a livello giuridico si dice indefettibile c'è o non è è proprio quello di una visione di futuro che manca manca nella guida delle istituzioni comunitari sia a livello diciamo di sviluppo economico infrastrutturale sia a livello geopolitico e manca soprattutto in quella che poi è in realtà l'anno strana e io qui verrei subito alla questione mediterranea intanto con un piccolo input vi dicevo pochi giorni fa stiamo desecretando parte di archivi siamo in sottostorico con archivi e biblioteche quello che era il progetto originario del Ponte sullo Stretto viene addebitato impropriamente Enrico non l'ha ricordato ma viene impropriamente attribuito a Bettino Grazi con tanta cattiva letteratura tanta cattiva stampa beh il progetto del Ponte sullo Stretto nasceva come elemento di congiunzione prima ancora che infrastrutturale tra due grandi realtà come elemento di unione culturale di unione tra due realtà la Reggio Valabria e Messina l'abbiamo ritrovato negli attimi documenti tra due realtà che dovevano dar vita a un'area urbana un'area metropolitana che doveva chiamarsi mediterranea e che doveva essere in sostanza la Hong Kong la Hong Kong del Mediterraneo e diceva anche in questi appunti non originali c'è anche in questi appunti originali c'è anche la battuta dice e la criminalità? beh la criminalità fa quello che Hong Kong gestirà la costruzione piuttosto che il gioco ad usare ma sul presupposto della criminalità non si può fermare una prospettiva di sviluppo e una prospettiva attrattiva e mi permetterò a fine di questo brevissimo intervento nuovamente a questo elemento di Mediterraneo il Mediterraneo dicevamo sempre per stare su storia e futuro è uno scenario inquieto dalla notte dei tempi è lo scenario sul quale si sono giocati i destini delle potenze mondiali all'epoca non si conosceva tutto il mondo contemporaneo ma assolutissimamente delle grandi potenze fu così per legisi per i venisi per la civiltà greca nell'enica e la civiltà romana dopo ed è stato e continua ad essere e continuerà ad essere perché insito nel DNA dei popoli che gli abitano a queste due sponte uno scenario in perenne movimento da questo scenario noi abbiamo subito una sorta di rattrappimento io non reputo casuale che l'Italia e l'Europa non abbiano più giocato un ruolo chiave in quest'area del mondo e non giocando un ruolo chiave in quest'area del mondo il nostro paese e la stessa Europa sono destinate a non giocare nessun ruolo e non un ruolo chiave ma nessun ruolo negli assetti e negli scenari globali futuri noi abbiamo avuto in campo europeo una guerra fredda che si è combattuta con armi convenzionali e non convenzionali oggi una nuova guerra stavolta molto più guerreggiata che coinvolge le potenze mondiali così come fu la guerra fredda si gioca nel Mediterraneo dove ci sono tutte le grandi partite si gioca nella partita siriana si gioca nella partita alibica si gioca su quelli che sono anche gli stati in via di stabilizzazione l'Italia non ha voce non ha peso perché non ha ruolo non ha più funzione avendo smarrito quella via l'Europa a mio avviso ha smarrito quella via non per insidienza ma per dolo noi siamo figli di un processo di allargamento nel quale abbiamo avuto una sorta di rattrappimento batico e questa è la ragione per cui dico io quale Europa gli investimenti infrastrutturali anche sul campo energetico negli asset diciamo negli assi nord e est sono stati sviluppati nel corso di questi anni sono gli asset meridionali che non sono stati sviluppati e non è certo un caso e non è certo frutto di una di una prospettiva diciamo dogmatica di una visione così di passaggio vi è un preciso intento e vi è un preciso loro la costruzione europea così come è stata fatta è deficitaria ed è un processo monco non è solamente il tema della Germania la Germania ha come dire dato un'interpretazione della realtà europea in una chiave di gerarchia di potenza che non è nuova nel continente non sarà isolata purtroppo nel prossimo futuro e sarà un tema sul quale noi dobbiamo come dire un attimino concentrarci in questo interraneo in questo scenario inquieto le trasformazioni e gli attori devono essere necessariamente ricollocati l'Europa non può immaginare e l'Italia ancora meno di giocare un ruolo o di avere una visione di quello che viene chiamato il cosiddetto piano Marshall è una frase che veramente rivendico abbiamo coniato noi qualche anno fa nel corso di un convegno che ha un certo successo già ritroviamo in qualche programma elettorale la ripete qualche ministro ma l'idea di un piano Marshall non è un piano per affrontare il tema dell'immigrazione che è un tema epocale che non si risolve con la discussione sui flussi migratori o su qualche intervento su qualche campo eccetera eccetera ma si affronta su un tema essenziale che è quello dello sviluppo di un'area che lo sviluppo delle aree presuppone delle interconnessioni e le interconnessioni presuppongono dei collegamenti ritorniamo al discorso iniziale queste interconnessioni questi collegamenti in questa area non sono immaginati noi abbiamo in queste ore e ritorno su un elemento di attualità un avvio di dibattito su quello che dovrà essere il prossimo bilancio europeo purtroppo né le direttive né della commissione né del consiglio speriamo di riuscire a inserire qualche elemento in sede più politico cioè del Parlamento europeo vi è accunché sulla questione infrastrutturale e sulla questione dello sviluppo dell'area vi è appunti su quello che riguarda il nodo immigrazione come se l'immigrazione fosse un qualcosa che senza accendere le luci della civiltà utilizzo una vecchia frase un po' un po' dimenticata senza che accendere le luci della civiltà in quelle realtà si possa si possa riaffrontare quindi questo tema è un tema che tutti insieme che abbiamo a cuore lo sviluppo di un'area le interconnessioni tra oriente e occidente in quest'area che è l'area in cui si concentra il maggior numero non solo di flussi commerciali ma il maggior numero di transizioni economiche e commerciali che è il vasto malicino del Mediterraneo noi avremo una funzione e un ruolo naturale con il naturato per non solo posizione geografica ma per indole culturale c'è una parte del mondo anche europeo che è abituata a guardare i processi in alto in quest'area con la declinazione del bianco e del nero noi per nostra cultura essendo i figli dei guelfi e dei tubbellini sappiamo che purtroppo le realtà mediterranee un po' come la nostra Italia sono realtà che vivono con sfumature di grigi e questi grigi hanno tonalità molto più numerevoli di una diciamo di un rosone di colori di un rosone di vari colori quindi è un elemento di non secondario l'ultima riflessione vado a anzi tutte le due riflessioni conclude immediatamente se c'è un quesito qual è il ruolo per l'Italia e qual è il ruolo per l'Europa in uno scenario di questa natura io penso che come ho già detto che non c'è futuro se noi non ci guardiamo a quest'area del mondo ma io penso che sullo sviluppo nord-sud si parlava di geotaro e geotaro non può produrre nulla perché un porto di trascinto mentre un porto che presuppone che le merci quando da una nave vanno sull'altra e non appoggiano sul suolo non c'è nessuna tassa da pagare il tema è perché su Gioia Tauro è per legge così tra l'altro è per legge così tra l'altro Gioia Tauro dovremmo implicitamente ringraziare le primavere arabe che me le diciamo perché sulla sponda sud si stavano sviluppando tangere su tutti dei porti gemelli che sul trascipment essendo il costo della manovopera cioè colui che muove la blu molto più basso ci avrebbero totalmente cancellato quindi le primavere vanno lette anche in questo ottica qua l'Europa ha subito come dire una certa garanzia di protezione dopodiché stoganare le merci in Africa o in territorio italiano non è la stessa cosa ma sarebbe stato un tema successivo e ce ne davo bisogna perché lì non c'è stata fatta la piattaforma del freddo ad esempio o i rivoli gasificatori ecco io dico due esempi lampanti lo dico da da regionale interessato c'è più di qualche calaprese quindi siamo già l'associazione a delinquere per qualcuno però vabbè fa nulla fatto salvo il numero di tre c'è questo pregiudizio ma è un tema è un tema in chiave nazionale noi possiamo immaginare io non penso che c'è una separazione nord-sud c'è nei fatti ed è già reale non penso ci sarà mai una questione formale il tema è se questo peso se questa zavorna lo si vuole affrontare in un'ottica prospettica di sviluppo dell'intero paese cioè l'Italia stessa senza una prospettiva interranea non avrà funzione geopolitica noi potremmo essere una grande e questa è la mia idea che io ho detto un po' da sempre negli ultimi anni noi potremmo essere una grande piattaforma logistica in quest'area c'è una grande rete di commerci di richieste di domanda che se adeguatamente sostenuta se adeguatamente finanziata penso l'Unione Europea potrebbe sortire una grande risposta in termini di opportunità e di risorse che è nel nostro paese quindi quello è un obiettivo verso cui tendere un obiettivo naturale verso cui guardare tra l'altro sul tema dei porti ci sarebbe anche altro da dire invece lo sviluppo dei porti gemelli Taranto sta provando a fare degli esperimenti altrove insomma è un elemento un po' più io credo che questa funzione di sviluppo di quest'area sia una funzione essenziale e porterebbe il mezzogiorno insieme del mezzogiorno non la realtà di Sicilia a Calabria in sé l'intero paese a svolgere una funzione positiva cioè la questione meridionale potrebbe essere affrontata di questo tema di trovare una funzione positiva da svolgere nell'interesse del paese e svolgere questa funzione positiva nell'interesse di un'Europa che avendo subito questa sorta di rattrappimento baltico non capisce non conosce e non sa più come seguire i procedimenti e i processi nati o nel mare mediterraneo che cosa si interrotte nella politica estera italiana in questi anni beh insomma basta guardare cosa è avvenuto basta vedere quanto contava la politica in tempo e quanto conta oggi l'ultimo elemento di riflessione sulle vie della seta e le varie alternative non è solamente una questione nominalistica ovviamente quello che si è interrotto la politica per suo ruolo funziona non lo dico io un dato di fatto un altro elemento nominalistico e concludo immediatamente si parlava delle vie della seta di questa grande successione di collegare tutto beh l'offensiva di Xi Jinping è un'offensiva che ha il sapore antico come una sfida tutta moderna e però questo dovrebbe aprire un grande interrogativo noi come Italia e come Europa siamo stati abituati nel corso degli ultimi anni a subire le trasformazioni in atto cioè un grande sdromo fortunato degli anni 80 restando nel campo sempre della storia recitava governare il cambiamento noi non solo non governiamo il cambiamento perché suppone quello che dicevo prima una visione di futuro ma noi subiamo il cambiamento esclusivamente nella parte delle contraddizioni cioè degli aspetti più negativi che giungono a noi non riusciamo mai ad attrarre quelli che sono in queste fasi di cambiamento gli aspetti più positivi e più propositivi che vi sono nella realtà e questo è un grande tema di riflessione sulla Cina io credo che noi dovremmo riflettere molto e bene molto e bene perché non è vero che i soldi sono uguali sempre da dovunque provengono noi abbiamo una grande sfida davanti la globalizzazione ha mostrato i suoi frutti avvelenati ha mostrato il limite dell'elite ma è altrettanto vero che noi siamo di fronte a una sfida che la globalizzazione ci ha posto davanti e che ha incrementato dal punto di vista delle contraddizioni tra un capitalismo nella sua versione autoritaria e un capitalismo che seppur con tutte le contraddizioni presenta delle versioni democratiche questa è la grande scelta e questa è una grande partita di civiltà che si gioca nel Mediterraneo noi abbiamo parlato del mondo arabo capire e porci il tema di come sviluppare come risolvere una guerra e un contrasto che nasce si sviluppa e si consuma essenzialmente dentro il mondo arabo non è un esercizio vano non è un esercizio è un esercizio necessario per noi noi che ci giochiamo una partita è una partita di destino in quel momento con la parte del mondo ecco io su questa riflessione su questa attenzione sul richiamo della necessità di non rileggere gli avvenimenti con diciamo col fiato corto della cronaca ma col metro lungo della storia consentitemi questo paradosso concludo questa mia riflessione augurandomi che vi siano altri momenti da par nostro ne organizzeremo tantissimi altri di riflessione su queste grandi questioni che sono le questioni del nostro tempo sono le questioni che sono state spunte e mi riallaccio alla mia discorsione dal dibattito pubblico nazionale e comunitario è un dibattito che per l'animato va sostenuto perché in BAM c'è il nostro futuro e concludo proprio con una frase visto che siamo in una serie accademica universitaria una vecchia frase seducente ma credo che possa essere un po' la sintesi del messaggio che nel mio piccolo ho voluto trasmettere che noi tutti abbiamo trasmesso cioè questa frase era scritta negli anni della contestazione studentesca mi veniva in mente l'altro giorno oggi che si parla di scontri tra i vari massimalismi in uno scignottamento pericoloso di quello che fu i tristi anni 80 altro che i grandi anni 80 i tristi anni 80 gli anni di piombo gli anni in cui una città come Milano veniva assediata e quella frase sui muri di Berkeley recitava il futuro ci interessa perché è lì che abbiamo intenzione di trascorrere i prossimi anni ecco in maniera un po' caustica dico non è che vorremmo trascorrere i prossimi anni diciamo che siamo costretti a trascorrere speriamo di trascorrere nel migliore dei modi grazie credo che dobbiamo dare messaggi positivi anche orché con grande difficoltà adesso abbiamo ancora due interventi programmati la paura rotonda in realtà si riduce a due soggetti nei quali darei la parola cascata credo che non ci sarà tempo di presentare i numeri di Galileo non c'è problema vi preparo già perché vorrei raccogliere un po' di materiale fare un numero di Galileo fra agosto settembre vediamo un po' e poi anche un po' più avanti vedo Alberto sono tre mesi che sono 20 l'articolo non me lo dai è un amico quindi Francesco Pigozzo è uno dei nostri pilastri e lui tra l'altro ha dato un bel titolo piloni piloni visto che parliamo di ponti importanti parliamo di piloni parliamo di ponti quindi il tema è questa questione dei ponti prego un pilone abitabile per la PC sì sì come no certo grazie mille grazie mille per avermi invitato Enzo cercherò di comprimere il più possibile l'intervento perché siamo parecchio in ritardo penso io sono sono meticcio parecchio dal punto di vista scientifico e culturale perché sono insegno letteratura francese in realtà però mi occupo di educazione della cittadinanza europea in particolare anche con una società spin off non di campus ma della scuola superiore Sant'Anna che ho contribuito a fondare e quindi qui ho deciso in realtà forse anche un po' in contrasto con quello che era la previsione del professor Siliero appunto quando mi ha invitato in realtà ho deciso di spostarmi sul lato proprio sull'asse cittadinanza europea Europa e invadendo un pochino forse anche il campo dei colleghi storici che hanno parlato e anche dei colleghi che mi seguiranno però lo faccio in quest'altra prospettiva e partendo in realtà da una prospettiva di francesista allora il titolo del mio intervento è Mare Nostrum ponti per un nome mediterraneo da ricostruire naturalmente Mare Nostrum è l'espressione che usavano gli antichi romani lo sappiamo benissimo il mare interno dell'impero romano è il mare mediterraneo e 2.000 anni fa quindi questo mare è considerato un mare alle cui sponte c'è la possibilità di avere un noi questo Nostrum certo di forma imperiale da un punto di vista politico istituzionale però presuppone un noi che è anche linguistico peraltro grazie a una politica linguistica assennata da parte di Roma che presuppone un noi appunto forte e è proprio a partire da questo noi forte di allora che in realtà secondo me può essere utile fare una riflessione oggi su come ricostruire un noi un mare Nostrum un noi mediterraneo specificamente e per farlo ho diviso in due il mio intervento partendo dalla decostruzione quindi cercando di ricostruire alcune alcuni elementi essenziali diciamo di questa decostruzione di questa dissoluzione del noi che duemila anni fa poteva essere indicato come esistente del mare Nostrum la decostruzione e poi invece quali elementi quale spitte quali fattori per una ricostruzione di questo noi nel mondo di oggi ricollegandomi a tutti quei fattori di contesto che sono già stati affrontati che quindi non approfondirò e per fare la decostruzione mi richiamo è qui che invado il campo dei colleghi storici a tre storici non a caso un francese e un italiano tedesco che sono poi i tre stati fondatori principali delle comunità europee e il primo è naturalmente Fernand Baudel e io sono un francesista appunto a punto di vista accademico non potevo che partire da Baudel che è il grande storico del Mediterraneo del Mediterraneo in realtà moderna naturalmente ma che attraverso il suo grande lavoro sul Mediterraneo ai tempi di Filippo II in realtà fornisce anche alcune chiavi metodologiche per lo studio della storia una delle quali secondo me ci interessa moltissimo è la chiave metodologica della distinzione dei tempi della storia c'è un tempo lungo della storia c'è un tempo breve che è quello degli avvenimenti quello della storia di demenziale ma c'è anche un tempo lungo della storia in cui ci sono i dati di struttura che cambiano e quello che noi dovremmo recuperare a mio parere o il piccolo contributo che voglio provare a dare oggi era proprio cercare di calare la nostra riflessione in tempi ancora più lunghi ed è qualcosa che è stato toccato dall'ultimo intervento proprio in conclusione perché questi tempi lunghi della storia si sposano evidentemente in realtà con il vero ingrediente che ci manca oggi che è stato anche questo toccato più volte cioè la politica come diceva un grande storico inglese dell'ottocento Lord Ashton lo storico è il politico che ha uno sguardo rivolto all'indietro quindi questi tempi lunghi della storia sono anche i tempi lunghi poi del politico uno guarda indietro l'altro guarda avanti senza l'uno non ci può essere l'altro oggi noi viviamo in un mondo in cui la Cina fa dei piani strategici a 100 anni l'Unione Europea fa dei piani strategici a 20 anni l'Italia fa dei piani strategici da una scadenza elettorale all'altro questa sta qui tutta la differenza cosa vuol dire che manca la vigione vuol dire questo se si fanno piani strategici da scadenza elettorale a scadenza elettorale ma anche quelli dell'Unione Europea sono insufficienti in realtà comparati a chi ha delle leve di potere tali evidentemente da poter pensare di pianificare un futuro a così lunga scadenza come un secolo intero come appunto avviene in Cina quindi primo elemento nei tempi lunghi della storia cerchiamo di capire questa decostruzione allora e la capiamo prendendo lo storico italiano Shabot ho scelto perché è il grande storico italiano che ha scritto anche un volume specifico sulla storia dell'idea di Europa e Shabot ha messo perfettamente in chiaro come l'idea di Europa nasca si sviluppi nella modo in cui la conosciamo ancora oggi proprio attraverso la dissoluzione dell'impero romano l'avvento di una cristianità che egemonizza dal punto di vista culturale e religioso la sponda nord soprattutto del Mediterraneo nel processo della dissoluzione appunto dell'impero e che costituisce un elemento identitario per la sponda nord del Mediterraneo fondamentale per distinguere un altro un altro un diverso un non più noi che sta nella sponda sud e che è identificato evidentemente soprattutto da puntista religioso con la religione musulmana e poi in realtà oggi in modo ancora molto più complesso di così identificato anche la differenza di tipo linguistico di tipo culturale sociale eccetera che noi sentiamo che noi percepiamo la percezione diffusa come veramente assolutamente distinte diverse e qui appunto la costruzione dell'idea d'Europa quindi in realtà è parte integrante della dissoluzione di questo senso dell'Oi Mediterraneo quel mare Nostrum che non può più essere concepito come Nostrum in realtà o non più nei termini in cui lo era al tempo degli antichi romani come vedremo poi dopo con una piccola immagine significativa che ho scelto che cosa succede allora nella costruzione dell'idea d'Europa che si autonomizza e che va verso il Baltico appunto che tende verso il nord succede e qui viene lo storico tedesco cioè l'Utli Deio meno conosciuto degli altri due sicuramente però un allievo di Maimiche un allievo della grande scuola dello storicismo tedesco fondamentale in realtà che scrive durante la seconda guerra mondiale un testo splendido che si chiama Equilibrio egemonia nella traduzione italiana e che è una ricostruzione in breve dell'intera storia moderna e contemporanea europea per rispondere naturalmente da tedesco alla domanda perché Hitler perché il tentativo egemonico tedesco del quale del novecento o i due tentativi per meglio dire che generano la prima la seconda guerra mondiale ed Eio da questo punto di vista fortemente ancorato nella sua contemporaneità offre appunto una ricostruzione molto lucida sulla dinamica di creazione degli stati delle statualità nazionali nell'epoca moderna in Europa e del sistema europeo degli stati che Eio riconduce benissimo in una sorta di modello che si espande che si sviluppa e che aveva avuto già un primo esperimento durante il nascimento in realtà all'interno dell'Italia nella penisola italiana che funzionava tra 4 e 500 esattamente come poi funziona il sistema europeo degli stati dal 500 in poi il sistema dei principati e delle signorie cioè un sistema in cui ci sono attori politici che sono in competizione fra di loro e che in questa competizione fra di loro generano una competizione che in parte è positiva perché io la spiegazione della centralità che l'Europa acquisisce nella storia globale dell'Ottocento sostanzialmente è fondata fortemente sul sistema competitivo della nascita delle statualità europee così come lo è il rinascimento italiano così come lo è la Grecia classica antica con le sue città-stato in realtà ma al contempo ha un limite c'è un limite strutturale superato il quale all'interno di questo sistema competitivo ci sono ricorrenti tentativi egemonici questi tentativi egemonici coalizzano tutti gli altri contro colui che tenta appunto di egemonizzare il re di tutto il sistema Luigi XIV Napoleone Buonaparte e poi i due tentativi tedeschi appunto che da tedesco appunto vengono ricondotti a un tempo lungo della storia per non essere solo spiegati ideologicamente o nazionalisticamente questi tentativi vengono sempre bloccati dalle coalizioni degli altri più elementi semi esterni al sistema che guadagnano dalle contraddizioni interne a quel sistema perché impedendo che quel sistema frammentato si possa estendere unificare al di là di certi confini nel frattempo si occupano questi elementi semi esterni del resto del mondo e solo l'Inghilterra naturalmente poi gli Stati Uniti d'America e Russia fino ad arrivare quindi perdeglio alla perdita della centralità dell'Europa nel mondo con la seconda guerra mondiale una sorta di suicidio del sistema europeo degli stati che non aveva saputo conquistarsi quella dimensione continentale di unità nella pace e non attraverso i tentativi egemonici al mondo quindi l'integrazione europea come risposta invece pacifica dopo le due esperienze delle guerre ed è questo un grande elemento di contesto in cui noi ci troviamo che non possiamo dimenticare da italiani per cui come dire la dissoluzione del noi mediterraneo non può tradursi oggi in una sorta di rivendicazione identitaria semplicemente di recupero di quell'identità mediterranea in contrapposizione con il resto dell'Europa con l'Europa Baltica con l'Europa del Nord non è questo il punto perché noi siamo figli di questa storia del sistema europeo degli stati siamo figli della dichiarazione Schumann del 1950 cioè del tentativo di superare il modello di contrapposizione tra stati nazionali che noi stessi europei abbiamo creato e abbiamo esportato nel resto del mondo attraverso istituzioni sovranazionali però certo in questo processo ci ritroviamo oggi a concepire il mare Nordstrom non più come lo si poteva concepire due mila anni fa ma come titolo di un'operazione per certi versi umanitaria per certi versi diciamo di controllo ai nostri confini ma che comunque appunto presuppone che questo mare sia diventato acqua siano diventate acque di confine al punto in cui c'è un riconoscimento in realtà questo nostrum è un po' sessivo in questo caso molto forte e un po' diverso da quello precedente nella sua scomatura di significato come ricostruire allora quest'identità tenendo fermo questo tempo lungo della storia in cui noi ci troviamo e di cui non possiamo fare a meno e quindi stando all'interno come è stato detto anche nell'intervento precedente del consesso europeo anzitutto qual è il noi allora il processo di integrazione europea in realtà non è fatto soltanto di competizione interna fra gli stati e di una sorta di riedizione ma pacifica e diplomatica o economica principalmente di quelle guerre per l'egemonia che prima ci combattevamo in modo bellico direttamente non è fatto solo di questo è fatto appunto anche della costruzione delle istituzioni sovranazionali ed è sta lì la chiave in realtà di un cambio di paradigma nel modo di concepire l'identità che è in gioco è la vera posta in gioco del processo di integrazione europea il processo di integrazione europea mette in gioco in realtà quel sistema politico-giuridico che era fondato sull'idea di identità esclusive che si va proprio formando in quel processo di contraposizione tra idea d'Europa e un altro e un diverso e costruzione delle identità poi nazionali questo processo di costruzione di identità esclusive è politico-giuridico non è soltanto un fatto culturale significa riconoscere che chi è cittadino entro certi confini gode di certi diritti chi non lo è non gode di quei diritti è escluso appunto all'interno del sistema europeo e del processo di integrazione europea è proprio questo modello che si va scardinando perché diventano plurime le identità le appartenenze anche comunitarie politiche e i diritti ai diversi livelli territoriali che si possono esercitare ed è proprio questa chiave realtà che permette di pensare alla ricostruzione poi di un noi mediterraneo anche e non soltanto l'Europa come la crescita di una nuova entità statuale che sul piano continentale deve contrapporsi ad altre entità statuali l'Europa in realtà è il laboratorio del superamento di questa logica perché ha un interesse oggettivo a questo superamento e questo interesse oggettivo è dato da un lato dalla storia naturalmente la storia recente delle guerre mondiali senza ombra di dubbio ma anche quella storia di lungo periodo che ricordavo prima in fondo il Mediterraneo sì è il bacino di quella contrapposizione religiosa che si è andata affermando attraverso gli ultimi duemila anni di storia ma che noi possiamo concepire non come una contrapposizione in verità ma come una fonte di unità perché è il bacino del monoteismo di fatto è la culla della cultura occidentale perché noi sappiamo benissimo un letterato non può non sapere che nella storia letteraria è impossibile comprendere una storia letteraria cosiddetta nazionale o fondata su una singola lingua europea senza conoscere in realtà le interdipendenze culturali con il mondo arabo per esempio con il mondo arabo in Spagna nella penisola iberica per esempio con il mondo arabo e la Sicilia per chi studia la letteratura italiana eccetera e poi è un centro naturale di interdipendenze le interdipendenze di carattere per esempio economico che sono state abbondantemente ricordate oggi ma soprattutto questa ricostruzione in realtà si deve fare secondo un'identità prospettiva guardando davanti a noi perché il Mediterraneo è il centro di sfide e della necessità di costruzione di beni comuni che sono esattamente una sorta di riepilogo in piccolo di quelle sfide di quei beni comuni che ci ritroviamo oggi a dover affrontare o a dover costruire a un livello globale la sostenibilità sociale e ambientale del modello di sviluppo i problemi di sicurezza e di convivenza quel problema del modello giuridico dell'identità esclusive che è in ultima analisi poi il grande problema che ci impedisce di trovare soluzione alle sfide globali a partire dai cambiamenti climatici perché è chiaro che finché noi agiamo secondo la logica della cooperazione internazionale non ci sarà mai nessuno che è pagato e votato ed eletto per svolgere il mestiere di fare gli interessi dei cittadini del mondo in quanto cittadini del mondo non ci sarà mai nessuno ciascuno è eletto e pagato per fare gli interessi di chi lo ha eletto appunto quindi di una parte ed entra in contraddizione l'interesse di parte con un interesse che paradossalmente è di tutti ma che nessuno persegue veramente come proprio mestiere fino ad arrivare appunto ai paradossi di quel suicidio che è stato per esempio per l'Europa nel cuore del Novecento con la totale autodistruzione paradossi a cui noi siamo vicini come specie intera invece oggi perché non dimentichiamoci che noi stiamo parlando di diversi scenari di diverse visioni ma viviamo anche nell'epoca in cui sul lungo termine forse dovremmo anche preoccuparci costantemente del fatto che c'è in atto un'estinzione di massa di specie viventi che è comparata da chi si occupa di queste cose nei suoi tassi alle grandi estinzioni di massa nella storia della vita sulla Terra certo è oggetto di dibattito scientifico quanto si possa o meno parlare già di estinzione di massa oggi c'è chi sostiene che l'estinzione di massa nel momento in cui raggiunge veramente i tassi comparabili alle altre 5 grandi estinzioni di massa nella strada della vita sulla Terra non c'è più neanche il tipo di discutere perché significa che ormai c'è un effetto a catena infrenabile non irrefrenabile c'è chi invece sostiene d'accordo è vero questo ma in ogni caso i tassi di sparizione di specie viventi di cambiamenti di habitat sono talmente rapidi e talmente elevati che siamo alle soglie di quel tipo di fenomeno un fenomeno in cui noi che restiamo una specie animale rischiamo di essere una delle prime principali vittime indipendentemente da una discussione scientifica su quanto noi siamo la causa noi viviamo nel mondo di questi problemi il problema dell'olocausto nucleare che ancora esiste della sostenibilità ambientale anche al di là degli stessi cambiamenti climatici eccetera in questo mondo è difficile provare a parlare di soluzioni di problemi di selezione della classe dirigente di visione politica se le strutture politiche se i poteri politici per i quali si viene eletti se i dibattiti politici in base ai quali si viene eletti e si trasmette con sapevolezza dei problemi ai cittadini rimangono ancorati a quella piccola dimensione nazionale esclusivamente che è appunto troppo piccola ormai nel mondo odierno serve un modello multilivello evidentemente e l'Unione Europea è il posto in cui si va elaborando con luci e ombre con limiti naturalmente laddove l'Unione Europea funziona in modo intergovernativo funziona esattamente come il resto delle relazioni internazionali con quegli stessi limiti che dicevo prima di interessi particolari e di minimo comune denominatore da raggiungere tra questi interessi particolari in cui inevitabilmente la forza più forte fa prevalere i suoi interessi laddove invece funzioniamo a livello europeo con metodo democratico con metodo sovranazionale con metodo federale non si chiami come si vuole è possibile esercitare il principio dell'interesse comune appunto e realizzarlo in qualche misura e il noi mediterraneo è ricostruibile è una necessità per l'Europa intera se l'Europa intera appunto funzionasse cioè la vera sfida diciamo che che noi ci troviamo di fronte è proprio il completamento di quel processo di superamento dell'identità esclusive di costruzione dell'unità politica dell'Europa perché per l'unità politica dell'Europa per l'Europa nel suo complesso la ricostruzione del noi mediterraneo l'affrontare le sfide che si giocano all'interno del Mediterraneo geopolitiche che sono state ricordate prima e su cui non ritorno è di vitale importanza di vitale interesse quindi paradossalmente questa partita che anche la partita poi delle infrastrutture e della logistica non è un caso che dal punto di vista di Unione Europea il corridoio 1 fosse il numero 1 appunto di questi corridoi quella sfida non si gioca esclusivamente nel Mediterraneo in questo momento ma si gioca probabilmente ed è anche la sfida in terra italiana per molti versi si gioca a livello europeo perché senza il completamento del processo di unificazione politica non è possibile risolvere le contraddizioni dei livelli inferiori del livello nazionale italiano per esempio e quelle contraddizioni che portano anche gli europei a continuare a fare un gioco di divisione sulla sponda sud del Mediterraneo che alla fine non paga per nessuno e che non risolve strutturalmente alcun problema appunto non sto a ricordare ciò che l'Unione Europea ha provato a già iniziare a fare adesso se non il fatto che attraverso soprattutto una spinta tedesca è stata lanciata un'idea di piano Marshall per l'Africa che è stato ricordato prima io volevo aggiungere che piano Marshall per l'Africa in realtà è un'espressione che è stata coniata nel 1978 dal Tiero Spinelli uno dei parti fondatori dell'Unione Europea in un volumetto che si chiama PC che fare in cui si preparava Spinelli alla elezione diretta del Parlamento nel 79 lui sarebbe stato eletto come indipendente del Partito Comunista Italiano e dentro quel volumetto Spinelli diceva noi siamo un mercato saturo non ha senso continuare a parlare di crescita economica per l'Europa cercando di vendere alle persone tre automobili sette frigoriferi e cinque televisori nell'Africa c'è il posto al mondo in cui c'è un massimo tasso di bisogni e un minimo tasso di domanda perché un economista sa bene che i bisogni sono una cosa e la domanda è un'altra per trasformare i bisogni in domanda ci vuole denaro piano Marshall cosa significa? iniettare denaro trasformare quei bisogni in domanda e poter permettere all'economia europea di vendere di assorbire quel surplus di produzione di fatto che all'epoca c'era e che in parte in realtà esiste ancora oggi da parte di chi ne ha bisogno e gli manca oggi ovviamente sappiamo che va fatto anche in modo sostenibile a punto di vista ambientale peccato che per realizzare il piano Marshall per l'Africa non bastino né gli investimenti semplicemente nazionali né un bilancio europeo come quello odierno e di meno dell'1% del PIL voi pensate che gli Stati Uniti d'America hanno un governo federale in cui il bilancio tocca un terzo del prodotto interno nord americano e l'Europa ha meno dell'1% del prodotto interno nord europeo questo è un problema una classe dirigente italiana degna di questo nome deve occuparsi di queste cose lo so che è difficile guadagnare voti occupandosi di queste cose perché parlare d'Europa mentre cerchi un voto nazionale è difficile ma l'Italia che è il primo debito pubblico all'interno della zona euro e che ne è la terza economia non può prescindere da questo non può prescindere né direttamente sul piano economico né per le conseguenze di sicurezza per esempio che derivano dal piano economico quindi quale visione strategica e quale dibattito può esserci in fondo in assenza di competenze autonomia di risorse di procedura legislativa ordinaria di accountability a livello direttamente di commissione europea a livello di governo europeo vorrei dire non ci può essere come stupirsi se la selezione della classe dirigente è inadeguata se una classe dirigente che poi va a detenere un potere e sempre meno nell'epoca della globalizzazione può mettere in atto soluzioni strutturali ai problemi che si trova ad affrontare come stupirsene difficile bisogna fare uno sforzo evidentemente enorme che è di tipo culturale e politico ma sul quale forse oggi siamo diventati abbastanza pronti perché i rischi sono talmente elevati per l'intera Europa che si sta polarizzando il dibattito politico in tutti i paesi non a caso proprio sul sì o no al processo io faccio l'auspicio che questa polarizzazione si trasformi non sul sì o no ma si trasformi nel quale Europa vogliamo e la vera contrapposizione qui è tra un'Europa intergovernativa e l'Europa che completa il superamento dell'identità esclusiva questa è la vera contrapposizione di cui vorrei sentir parlare e che a mio parere si connette strettamente proprio con la capacità o meno da parte dell'Europa di affrontare la ricostruzione del noi mediterraneo che è enormemente necessaria enormemente evidentemente necessaria per tutti gli europei non soltanto per quelli della sponda nord del mare nostro ma appunto grazie per l'attenzione grazie purtroppo succede sempre che verso la fine dobbiamo tagliare adesso abbiamo ancora Milipo Corla che ci parla di Messina va dicendo l'interraneo e la ragionitore di una vocazione salterò la presentazione di Galileo perché non abbiamo più tempo sulla tavola tonda sono rimasti due soggetti che invito a prendere la parola immediatamente sono in particolare Vanda Termau che ringrazio moltissimo e Claudio Davanelli che ha fatto una sforza enorme per vedere dove è esprito ah eccolo bene ce la fai in un quarto d'ora? sì assolutamente cerco di fare il possibile grazie intanto esprimo il mio ringraziamento al magnifico rettore il professor Siviero per avermi concesso la possibilità di svolgere un intervento nell'ambito di questo consenso e in secondo luogo porto a tutti i convenuti il saluto del centro di ricerca Storios per la storicizzazione e riformulazione dei saperi scientifici interno all'università e campus che per mio tramite partecipa a questo momento di dibattito condividendone lo spirito e le finalità sono contento che il mio intervento si ponga come l'ultimo intervento di questo convegno perché rappresenta idealmente la reale conclusione riportando l'attenzione sul contesto antropico di Messina che rappresenta il grande scenario su cui poi si eleverà la struttura del ponte a causa della sua posizione strategica la città di Messina pare naturalmente chiamata da sempre a svolgere un ruolo di connessione non solo tra la parte occidentale e la parte orientale del bacino mediterraneo ma anche tra il nord e il sud dell'Europa lo scopo del mio intervento quindi è evidenziare come sussistano delle precise ragioni storiche che indicano la costruzione del ponte sullo stretto come un passo che rinnoverà la funzione strategica della città e darà compimento alla sua vocazione il ruolo svolto da Messina nella storia mediterranea infatti evidenzia un suo costante slancio alla promozione del dialogo e della mediazione e certamente il collegamento fra la Sicilia e l'estremità meridionale della penisola italiana attraverso un'infrastruttura ad alto livello tecnologico e stabile scriverà nuovi orizzonti per tale ruolo ponendo le premesse per una superiore unità mediterranea la zona nella quale sorse la città di Messina si radicò nell'immaginario collettivo delle getti mediterranee molto presto fin dall'antichità classica non a caso lo stretto è descritto nell'odissia di Omero come dimora di terrificanti mostri manini scilleca secondo Tucidide una prima colonia greca calcilese venne costruita nella zona dello stretto con il nome di Zantle nell'ottavo secolo a.C. tuttavia le dinamiche della fondazione di questa colonia appaiono decisamente più complesse e suggeriscono il verificarsi di una mescolanza tra genti greche e popolazioni locali presenti fin dall'età del Brozo che fu il primo esito di quella vocazione al contatto tra popoli che Messina ha poi dispiegato nel corso dei secoli successivi a cavallo tra il quinto e il quarto secolo a.C. la colonia di Zantle si alleò a Siracusa nella lotta contro l'imperialismo cartaginese venendo distrutta nel 396 a.C. e poi ricadde sotto il controllo siracusano fino al 288 a.C. quando qui si insediano i mercenari maglertini nella loro lotta contro Siracusa questi chiamarono in aiuto la Repubblica Romana una mossa che mise repentagno gli interessi mediterranei di Cartagini e dalla tensione tra le due grandi repubbliche nacque come noto la prima guerra pubblica che si concluse nel 241 a.C. con la vittoria romana e l'ingresso di Zantle ribattezzata dai romani Messano nella sfera di influenza delle multe grazie alla sua posizione anche nel passaggio dalla Repubblica all'impero Messina continuò ad essere protagonista della vita economica e culturale del Mediterraneo secondo la tradizione nel primo secolo d.C. nella sua peregrinazione che lo rese un autentico apostolo delle genti mediterranee San Paolo approdò alla città e ripriticò l'ingegno dopo la divisione dell'impero romano in due realtà politiche e amministrative Messina ricade sotto l'autorità dell'impero d'Oriente ma conservò il diritto di essere governata dai propri magistrati stati goti nell'843 venne conquistata dagli arabi dopo una fiera resistenza e visse un periodo di decadenza venendo subordinata alle piazze commerciali del Nordano il suo patriziato invocò l'intervento normanno e nel 1061 la città venne conquistata dalla famiglia degli Altavilla inaugurando una fase di sviluppo demografico e crescita economica anche grazie ai numerosi privilegi che Messina ottenne il riconoscimento del determinante ruolo strategico del suo porto centro di un autentico sistema cultuale mediterraneo come evidenziato da Elisa Vermiglio nel 2016 nella sua ricostruzione delle dinamiche vissute dalla città dello stretto durante l'età medievale tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo nella proposta di lettura avanzata da Maria Maglia Mastelloni la città di Benne lavoratorio di una convivenza culturale tra normani bizantini e arabi e dunque fu scenario dell'attentata costruzione di una città mediterranea unitaria in seguito sotto il dominio aragonese la città svolse la funzione di un autentico hub mediterraneo ospitando coloni di mercanti pisani veneziani e genovesi una numerosa comunità ebranche minoranze toscane marchigiani i ligure marsiliese e catalane fu durante l'età moderna però che Messina svolse in modo più forte il proprio ruolo di mediazione fra diversi popoli e culture dopo la caduta dell'impero bizantino come altre città del meridione d'Italia ospitò impatti intellettuali bizantini profili e fra i tanti è opportuno ricordare almeno il grande Costantino Lascres mentre nel XVI secolo di la gara della pirateria barbaresca la vite tra le base di partenza della spedizione di Carlo V contro Tunisi e Algeri del 1535 e unitamente a Malta essere maluardo contro l'espansionismo ottomano mediterraneo negli stessi anni il porto Franco di Messina divenne il più importante terminale mediterraneo del commercio serico e quindi rappresentò una finestra aperta sul mondo medio ed estremo orientale attraverso il suo collegamento alla leggendaria via della Sede Nel 1571 al comando di Don Giovanni d'Austria dal porto della città partì la flotta cristiana che vinse alla battaglia di Lepanto segnando un'importante battuta d'arresto nel dilagare dell'intero ottomano verso il Cile Nella prima metà del Cicento la città raggiunse poi l'apice della propria importanza era annoverata tra i più importanti porti commerciali d'Europa intratteneva rigogliosi contatti culturali con Roma costituiva un baluardo della sicurezza militerranea ed era legata alla lega anseatica ovvero l'unione commerciale di città tedesche gravitabile sul Mar Baltico e sul Mar Nella seconda metà dell'età moderna in seguito all'occupazione francese di Napoli del 1806 Messina costituì il fulcro della difesa borbolica e dopo il 1815 il suo porto catalizzò gli interessi commerciali delle potenze vincitrici di Napoleone nella primissima età della restaurazione la carboneria fu presente anche nella città e stornò la pubblicazione di alcuni giornali che nel complesso espressero un pensiero di carattere decisamente liberale la città adempoia i moti costituzionali che attraversarono il regno delle due Sicilie fra il 1820 e il 21 mentre i moti popolari antivormonici esplosi il primo settembre 1847 costituirono di fatto il primo episodio del risorgimento italiano nell'età contemporanea come già stato evidenziato messina continuò a svolgere la propria vocazione di chiave del Mediterraneo durante la guerra fredda ad esempio il suo porto fu centrale nel dispositivo di controllo navale predisposto dalle potenze dell'intesa arrivando ad accogliere anche unità navali dell'impero giapponese nello scenario nello scenario della guerra fredda il Mediterraneo ventremoglie della Nato rimase fondamentale ma Messina non ebbe un'importante funzione in quel frangente superata in questo da Nato tuttavia nel 1955 svolse ancora un'importante funzione politica europea e mediterranea ospitando la conferenza preparatoria per la costituzione dell'Euratom e della C che ebbe poi luogo con il trattato di Roma del 1957 alla primis del terzo millennio quindi più nell'attualità Messina è ancora un punto focale degli scenari girostrategici la stagione delle primavere arabe e il periodo di instabilità da essere derivato ha reso di nuovo il Mediterraneo fulcro della politica internazionale e ha riportato metaforicamente e di fatto la Sicilia al centro del Mediterraneo come evidenziato in una riflessione del 2010 da Nino Calarco e Piero Ortega è legittimo chiedersi quale impatto possa avere un'infrastruttura come il ponte sullo stretto sulla presente fase storico-politica la vocazione mediatrice di Messina della quale il mio intervento ha ricostruito alcuni episodi storici sagnetti può fornire una risposta a tale interrogativo anzi essere l'ideale fondamento da cui il ponte svilupperà la sua campagna si tratta in realtà di una risposta duplice perché afferente tanto all'ambito economico quanto all'ambito culturale sotto il profilo economico il collegamento stabile rappresentato dal ponte sullo stretto potrà costituire uno straordinario volano per lo sviluppo dei flussi commerciali nel Mediterraneo rinforzando il ruolo della Sicilia quale principale piattaforma logistica di un'autentica autostrada del mare riprendendo la suggestiva immagine di Giuseppe Vermini sotto il profilo culturale invece il ponte potrà contribuire alla circolazione di quelli ideali del Mediterraneo identificati negli anni 90 e del 900 dall'equilibrio di ricerca coordinato dallo storico francese Georges Duby ideali che hanno configurato nel tempo un autentico modo mediterraneo di intendere il rapporto con l'altro e nei quali è rimasta profonda traccia nella storia nella filosofia e nella letteratura dei paesi che si appacciano sul grande mare certamente la costruzione del ponte sullo stretto è destinata a porre innumerevoli sfide di ordine tecnico tuttavia essa lascia intravedere una ricca messe di ricadute positive peraltro già sperimentata da altri contesti che si sono dotati di infrastrutture simili mi riferisco al ponte di Ores un chionice da Rimarca e Svezia che la fanno apparire decisamente desiderabile essa rappresenta un'impresa ardua alla quale si deve porre mano con determinata sollecitudine e serietà di perdenti un progetto nel cui compimento l'Italia potrebbe e dovrebbe trovare la solidale collaborazione degli altri paesi europei così che il ponte possa essere non soltanto una meraviglia della tecnica ma anche uno straordinario monumento a quella civiltà comune europea della quale il Mediterraneo è da sempre uno dei poni più importanti grazie grazie Filippo flash interessante non era preparato voglio dire è anche questo che è interessante abbiamo un filone che in fondo con vari interventi va sempre sulla stessa linea bene allora in realtà la tavola rotonda è ridotta da due soggetti quindi vi farei parlare in successione comincerei con con Vanda Ternau le consiglie di amministrazione di FS ingegnere ha una formazione molto esteropile internazionale e quindi credo che ci possa dare un qualche flash interessante anche da questo punto di vista al di là della sua collocazione fa tante altre cose ma mi sono limitato la ringrazio perché riuscito a trovare la finestra devo dire che sono molto gratificato perché ci sono almeno sette o otto soggetti che sono venuti secondo me per segno di affetto di questo vi sono particolarmente grato guardo uno senza nominarlo ma così prego Vanda grazie grazie il mio correttore vorrei salutare appunto questa bella platea e anche ringraziare per l'invito ma anche sono contenta di essere qui perché ho sentito degli interventi molto interessanti ai quali cercherò un pochino di rifarmi alcuni dati importanti sono stati citati da Filippo Romeo e quando gli dice benissimo attenzione qua abbiamo un Mediterraneo dove le merci piuttosto attraversando il canale di Suez ricordiamo appunto come diceva il dottor Romeo che il canale di Suez è stato ampliato e oggigiorno possono passare quasi 100 navi al giorno in realtà ne passano anche di meno ma prima fino a poco fa fino a qualcosa come solito anni fa che potevano passare appena 49 il giorno quindi ci ritroviamo un potenziale grosso da poter usufruire anche per quanto riguarda la crescita e la prospettiva dei nostri porti che al contrario viene inutilizzato perché quando appunto ci ricordava il dottor Romeo abbiamo queste navi arrivano nel nostro mare mare nostro mare Mediterraneo e i nostri porti sono pronti ad accoglierne nel Mediterraneo solo un 25% e tutto il resto per rossegnare le merci che poi andranno appunto a essere a servire i mercati europei devono fare il pericchio dell'Europa per arrivare nei porti nordici e possiamo qua già subito vedere come abbiamo un'opportunità enorme mancata in questo senso opportunità che si deve cercare di cogliere e per cercare di cogliere dobbiamo cercare di sviluppare questi porti e i porti bisogna pensare ai porti del nord perché sono delle piattaforme logistiche diciamo proprio quasi naturali e mi riferisco a quello della mia città natale che è Trieste ma mi riferisco sicuramente anche agli altri più piccolini ad esempio Ravenna o anche quelli con i quali meno male mi sembra di capire si sta incominciando a ricollaborare della vicina Slovenia quindi Copper Capodistria e Croazia Fiume però chiaramente c'è lo spazio anche poi per sviluppare altre realtà ad esempio Genova Genova ma poi anche Sud Italia chiaramente quindi giustamente si ricordava l'importanza di Gioia Tauro bisogna gestire bene questi cambiamenti e bisogna cercare di ricordare il passato per sviluppare bene il futuro perché ci sono oggi giorno non possiamo dimenticare l'importanza della via della seta via della seta terrestre e via della seta marittima le intenzioni del Presidente cinese sono sicuramente intenzioni molto importanti molto serie e ha già messo sulla bilancia un piatto molto consistente di finanziamenti e non possiamo non ricordare questi fatti come non possiamo non ricordare la situazione per la quale non solo l'Europa ma tutto l'Occidente è stato molto miope nei confronti della situazione di tutto il continente africano ad esempio ricordo benissimo quando si guardava agli investimenti dell'Africa Development Bank quindi della Banca Africana di Sviluppo finanziata come lo sappiamo bene dalle potenze diciamo occidentali questi finanziamenti erano molto scarsi se paragonati agli interventi invece solidi del governo cinese che come ricordava qualcuno penso fosse Nicola Carnovale Francesco Pigozzo appunto che ha una prospettiva strategica a cent'anni e quindi la Cina si è ritrovata a pensare e a prendere vantaggio di questa mentevolezza del mondo occidentale ha investito in maniera consistente ma chiaramente poi ha anche pensato di appropriarsi in qualche modo di risorse molto importanti risorse naturali risorse energetiche in questo contesto ora abbiamo questa nuova realtà questo nuovo progetto enorme di cinese dove comunque la Cina non si ritrova da sola perché interessa a tutti quanti questi importanti stati euroasiatici e io credo che qui dovremo cercare di prendere vantaggio da questa situazione perché pensiamo a quello che è un po' il dibattito di oggi in questa sala cioè alle vie marittime quindi rilasciamo tutta la parte terrestre la via della seta questa via marittima della strada della seta fa sì che dovremmo essere sufficientemente capaci di negoziare ad alto livello sia come Europa ma anche come Italia con una potenza come quella cinese per vedere come fare per portare dei finanziamenti ai nostri porti in modo tale da evitare che il 75% di queste navi che arrivano nel Mediterraneo debbano poi fare il periclo e perdere qualcosa come otto giorni quattro per andare verso i porti del nord e altri quattro per ritornare e per rifare la via di ritorno verso il continente asiatico quindi pensiamo Shanghai ma però passiamo tutta la costa appunto cinese verso il Pacifico ma anche gli altri paesi interessati che sarebbero ad esempio l'Indonesia la Malese e così via che sono comunque parte di questo progetto enorme cinese quindi anche qua ci vogliono delle delle visioni visioni europee ma visioni anche italiane visioni strategiche ma anche poi molto ma molto operative qualcuno che effettivamente pensi a delle strategie in ambito del logistico dei trasporti che facciano sì che i porti nostri possano essere competitivi io mi posso rifare un esempio che sta comunque dimostrando un buon margine di successo del proprio esempio del porto di Trieste Trieste è stata riconosciuta come porto terminale della via della seta marittima anche Venezia probabilmente può assumere un ruolo del genere ma se noi pensiamo bene Trieste può sicuramente riuscire a seguire bene certi paesi mitteleuropei come ad esempio la Cecchia la Slovacchia la stessa Germania mentre Venezia potrebbe sicuramente servire molto bene di nuovo la Germania del Sud ma la Bavaria l'acqua e anche attraverso il tunnel del Gottato che è già realizzato peraltro la Svizzera e tutta quanta quella parte che va verso l'Europa del nord ma i paesi ad esempio i paesi bassi il Benelux e così via quindi ci sono porti magari vicini come Venezia e come Trieste che pur nella loro vicinanza possono benissimo servire dei mercati diversi questo che cosa vuol dire? vuol dire che bisogna cercare di pensare come attuare quei vantaggi competitivi che possano far sì che effettivamente ci sia un qualche vantaggio importante che dà fondi magari finanziamenti addirittura cinesi ma portino magari anche dei vantaggi sostanziali alle nostre economie e posso ad esempio citare una cosa abbastanza interessante che mi è capitata di vedere quindi viaggiando spesso sulla linea aerea Trieste Roma mi sono imbattuta in una scolaresca che stava in aereo una scolaresca di studente appunto Triestini di liceo e vedevo però che tutti quanti questi studenti erano capitanati da un cinese e si stavano recando in Cina in Cina Pecchino e io penso ma cosa fanno tutti questi studenti di liceo e come mai insomma vanno a trascorrere mi raccontavano che sarebbero andate a trascorrere qualcosa come tre settimane in Cina a specie di Kipo insomma perché non è una cosa molto così di consuetudine andare insomma a fare tre settimane in Cina a Pecchino e ho avuto la fortuna di sedermi appunto accanto a coloro a colui poi che accompagnava questo gruppo di studenti a questa persona cinese che mi raccontava che questi erano stati selezionati per fare un viaggio culturale per poter apprezzare sia la cultura appunto cinese teatri sport le cose che si fanno a Pechino ma anche visitare le fabbriche vicino a Pechino finanziati questi viaggi questa permanenza per tre settimane in Cina completamente da fondi messi a disposizione dalla Cina proprio nell'ambito di questo grande progetto della via della seta con l'auspicio che un domani questi ragazzi potessero poi andare a lavorare magari anche restando in casa quindi lavorando nell'ambito del porto di Trieste però pensando magari di incrementare di rafforzare i traffici proprio con la Cina e questo è un esempio anche questo lungimirante chiaramente e anche questo ci fa vedere come persone italiane giovani possano anche prendere vantaggio da una situazione del genere quindi come ti ricordava qualcuno come diceva Craxi non so se diceva Craxi o qualcuno comunque di queste persone molto importanti insomma che diceva governare il cambiamento purano anche un motto uno slogan ma è vero governare il cambiamento abbiamo un qualcosa che se non si sta attenti si sfugge di mano potrebbe essere anche pericoloso perché la Cina chiaramente sono anche degli interessi di direi come non so sarebbe strano che così non fosse magari neanche di poter diventare una potenza egemonica anche nel cuore stesso del Mediterraneo ad esempio pensiamo agli investimenti già fatti nel porto del Pireo ad Atene però anche qua dobbiamo pensare alle cose che ci possono dare dei vantaggi ad esempio il porto del Pireo non è così ben strutturato per poter avere dei vantaggi logistici e penso a tutti quanti quei trasporti che si debbano fare via preferibilmente non via via strada ma piuttosto via ferrovia oppure via carri navigabili cose del genere cose invece che al contrario i nostri porti mi sto riferendo ancora ai porti nostri più vicini a me quindi Venezia Trieste così via che però hanno delle strutture e io posso ad esempio raccontare come Trieste stessa nel giro di pochissimi anni quindi parliamo di 2-3 anni abbia incrementato in misura molto notevole qua parliamo di più del 50% sul traffico di merci proprio avvalendosi della rotaia perché meno male qualcuno ha pensato bene di fornire degli investimenti in questo caso sono investimenti ovviamente europei ma anche convogliati per bene dal Ministero delle Infrastrutture verso quelli che vengono detti l'ultimo miglio ferroviario che mancava che invece è stato rafforzato nel porto di Trieste tant'è vero che oggigiorno sembra incredibile è un'echezza si sentiva sempre parlare dei bisogni di rafforzare il porto ma di fatto il porto di Trieste è diventato per traffico merci il primo porto quindi i treni che fino a pochi anni fa non superavano i 2-3 mila treni al mese oggigiorno si è già arrivati a 8.600 treni al mese nella prospettiva di diventare a breve 10.000 treni al mese e questi treni merce appunto congiungo fanno sì che la merce che viene appunto portata tramite queste enormi navi container tant'è vero che appunto anche da un punto di vista delle piattaforme logistiche Trieste è sempre trenzata e anche da un punto di vista dei fondali marini oggigiorno Trieste è in grado di accettare nelle sue strutture delle navi enormi che fanno sì che effettivamente il porto possa venire utilizzato a dovere e quindi con questa infrastruttura che sta migliorando ancora ci sono infatti anche delle previsioni a breve di implementazione di altre piattaforme logistiche tra l'altro anche in parte finanziate dai cinesi però secondo me conviene comunque cogliere il momento conviene anche riuscire a sapersi porre in dialogo con questi investitori e collaborare sostanzialmente collaborare in modo tale da consentire alle città portuali italiane di avere questi vantaggi nel senso poi anche di incrementare questi traffici come d'altra parte conviene a tutti i paesi che sono toccati appunto dal percorso della via della seta ora direi potremmo poi pensare a cosa succede magari ad altre città però se appunto e poi potremmo anche immaginare il fatto che l'Italia deve riassumere una posizione molto importante anche nel contesto europeo e anche mediterraneo come capacità diplomatica nel mantenere la pace nel mediterraneo come è stato molto ben ricordato e sottolineato perché chiaramente se anche avessimo tutto quanto questo traffico potenziale ma poi ci fossero dei conflitti che impedirebbero che so il passaggio nel canale di Suez come l'altra parte già venuto nel passato poco ci servirebbe potenziare i nostri porti non avrebbe tutto questo senso quindi io direi cerchiamo di essere positivi nel senso che qualcosa sta succedendo sta succedendo magari anche grazie ai finanziamenti e ai fondi che non sono quelli che non ci si poteva aspettare in fondi europei prendiamo però occasione per cercare di trovare un modus di vendi e anche per riuscire a prendere vantaggio da questa situazione grazie Evanda abbiamo ancora 10 minuti volevo lasciare 5 minuti anche per un paio di domande però ci ripromettiamo da questo convegno di figliarne altri un po' più avanti allora Fabio Fabio Sabanelli rappresenta lo Schiller Institute che è un organismo che mi ha invitato qualche anno fa a raccontare questo tema del ponte della Tunisia e della Sicilia tormentone per me lui dirige i movi soldi arriva regolarmente molto un rito molto determinato ti ringrazio ce la fai? avrei voluto una sera a tutti avrei voluto farvi vedere quella mappa che avevo elaborato con il ce l'hai? eh ma non si apre il browser non so se si vuole forse un accesso delle credenziali dov'anni? probabilmente adesso lo facciamo allora io sono mancato stamattina e sono arrivato un po' in fatica al pomeriggio quindi da chi conclude si sospetterebbe la capacità di intervenire e di reagire a tante cose dette io ho cercato di così di appuntarmi delle riflessioni poi il tempo è 5 minuti forse 6 ma no che dici o che dici che dici allora ma mi piace come sfondo perché è carino ma è colorato scusate questo è un articolo che pubblicavamo nel 2011 in cui sostenevamo che insomma lo sviluppo delle infrastrutture avrebbe promesso di impedire l'esodo dei migranti ma insomma questo è il disegnino che all'epoca quella è un'elaborazione che feci io insomma si vede sì abbastanza dove compare naturalmente il ponte a 4 isole S1 S2 S3 S4 e qualche idea in più insomma un bel aeroporto nel centro nella Sicilia con magari una connessione a treno a levitazione magnetica visto che i primi prevetti sono di circa 100 anni fa sono migliori per tanti aspetti quindi perché non insistere su ciò che c'è di nuovo volendo dicevo che appunto faticherei a reagire a tutto quello che è stato detto mi verrebbe da toccare solamente due o tre punti rapidamente sicuramente magari seguendo un po' l'ordine si è parlato del canale di Suez e del fatto che ci sia stata una volontà politica molto forte nel farlo devo però ricordare anche che se non erro è stata fatta una colletta popolare anche quindi gli egiziani hanno capito che era importante quindi un altro aspetto importante è questo insomma noi avremmo bisogno appunto di far capire ai nostri concittadini l'importanza di un piano infrastrutturale anche per il nostro paese e arrivare a questa forma di partecipazione a proposito della politica di Craxel Mediterraneo mi è venuto in mente in particolare per la zona di Palestina Israele eccetera mi è venuto in mente che appunto il fondatore del nostro movimento internazionale che si chiama Linton LaRouche economista statista americano più volte candidato alla presidenza degli Stati Uniti già negli anni 80 appunto propose un cosiddetto piano oasi che prevedeva la condivisione di infrastrutture idriche e non solo centrali nucleari indighe eccetera nella regione per appunto creare costituire una base fisica di cooperazione di scambi culturali di condivisione delle risorse nella prospettiva della costruzione della pace si è parlato anche della polemica la Cina pensa 100 anni noi pensiamo a 20 noi europei noi pensiamo alle prossime elezioni e quando ci sono le elezioni non sappiamo neanche se pensarci alle prossime le successive che cosa faremo e allora mi è venuta subito una nota polemica non tra di noi ma è curioso perché in questa situazione di politica occidentale miope sembra quasi che noi crediamo a questi think tank miopi e che ci lasciamo diciamo abbindolare ci lasciamo manipolare da questo timore nei confronti della Cina l'iniziativa cinese e invece io penso che dovremmo imparare a capire come mai la Cina riesca a permettersi di ragionare sui 100 anni prossimi che cosa ha anche capito dell'occidente nel frattempo e a lato di questo discorso mi è venuto in mente che così l'esempio di Enrico Mattei che fu molto molto capace di organizzare una creatività che non ci manca che non ci manca nemmeno oggi una creatività di lungimiranza in certi altri ambiti che non sono magari la politica diciamo del teatrino che è davanti sul fronte di mediatico e sempre su questa miopia di questa Europa si parlava di Spinelli che chiamava un piano nasce per l'Africa beh la Cina per esempio nei Balcani si è presentato con un approccio molto spiccio spicciolo diciamo non so come lo vogliamo chiamare però ha detto vi servono dei treni noi vi ripaghiamo e vi ripacciamo e l'Europa che cosa ha detto no queste cose non si fanno perché bisogna avere una bella distinzione tra i ruoli tra chi paga chi fa ma questo è un pregiudizio o è una scelta ideologica che ci deve essere questa distinzione e la Cina invece che cosa ha visto nella storia del nostro occidentale in particolare degli Stati Uniti ha visto la politica Hamiltoniana cioè Alexander Hamilton primo ministro del tesoro della neonata repubblica americana ha fatto proprio questo propose proprio questo modello che il governo federale dovesse investire direttamente in settore dei tenuti strategici allora erano le manifatture per un'ex colonia che non poteva né farsi chiodi né farsi dei capelli in casa doveva comprarli tutti dall'Inghilterra poi all'epoca di Lincoln fu la ferrovia il settore strategico in cui investire direttamente oggi ci sono altre tecnologie c'è stato lo spazio con Kennedy eccetera quindi vediamo che l'approccio a Hamiltoniano è stato abbandonato negli Stati Uniti ma è diventato cinese i cinesi non hanno subito la crisi finanziaria che abbiamo subito noi perché hanno ottenuto una separazione bancaria tra banche cosiddette d'affari e banche ordinarie cioè di risparmio o di credito all'economia reale quindi hanno ottenuto dei principi di precauzione e anche determinativi di investimento che sono occidentali si tratta per noi secondo me semplicemente di riscoprirci di rispecchiarci in quello che i cinesi stanno facendo e riconoscerci in quello che stanno facendo quindi come dire anche mettere da parte in un certo senso le preoccupazioni su da dove vengono quei fondi ce lo stanno dicendo da dove vengono semplicemente è credito l'altra faccia del debito pubblico però indirizzato sulla produttività fisica reale delle cose e non sul profitto finanziario a breve staccato dall'economia reale quindi riconoscere quello e ricominciare anche noi a fare la stessa cosa metterci d'accordo e fare anche noi emissioni di credito pubblico produttivo come hanno fatto come stanno facendo loro la nuova via della seta ne ho ho cercato di parlarne in un articolo che che ho scritto per Galileo la nuova via della seta non è più soltanto fatta dai due bracci cioè il terrestre e il marino il marittimo perché si sta già parlando di via della seta polare quindi la rotta polare si parla adesso sempre più metaforicamente ma di una via della seta nelle profondità oceaniche noi sappiamo da decenni non se ne parla però sappiamo che è una frontiera anche quella di ricerca di ricerca di metalli di ricerca del nuovo anche che non conosciamo e in più anche di una di una nuova via della seta spaziale non ci dimentichiamo che nel 2010 Obama quando si parlava di spazio disse beh sulla luna ci siamo già stati è inutile che finanziamo queste cose un po' come se il nostro Colombo dopo il primo viaggio a Cuba tornato in Spagna avesse detto bello ci sono tantissime piante nuove persone strane oro di tutto però ci siamo già stati lasciamo perdere insomma una volta è vasto ecco e invece la Cina che cosa ha fatto di nuovo guardando a noi al nostro passato o ai momenti migliori del nostro passato occidentale ha già mandato una persona a ruotare a rivoluzionare intorno alla Terra ha il programma di una base spaziale sulla Luna di una in particolare sulla faccia scura dalla quale si pensa che si potranno fare osservazioni astronomiche con una qualità insuperabile e ci sta chiedendo di farlo assieme un po' come Kennedy chiese in piena guerra fredda ai russi di collaborare nello spazio è una sfumatura questa che sfugge spesso si è sempre pensato che in quel campo accettasse la sfida invece lui voleva proprio superare la guerra fredda grazie allo spazio quindi ecco forse non so quanto tempo abbia già preso ma ecco volevo volevo dire va bene va bene si ritorno seguendo sempre la cronologia ritorno a parlare per un attimo di Suez gli egiziani l'hanno fatto e poi rimane la cattedrale nel deserto letterale e metaforico è chiaro che si sono mossi lo stesso argomento è stato mosso negli anni contro il ponte sullo stretto di Messina facciamo un ponte e poi che cosa ce ne facciamo che hanno fatto il ponte adesso però qualcuno ha già cominciato ha fatto lo stretto abbiamo citato il passaggio sotto al Gottardo aggiungiamo una terza cosa e poi le cose procederanno a passi sempre più rapidi ma dobbiamo a questo punto anche agli egiziani che hanno fatto questo primo sforzo il nostro dobbiamo aggiungere il nostro ecco poi mi è venuta in mente una un'osservazione su parlavamo di ferrovie sul livello a cui siamo arrivati noi essenzialmente abbiamo il chilometraggio dell'epoca camoriana 150 anni fa nel frattempo la popolazione è triplicata secondo gli ingegneri qui presenti quanti ne dovremmo avere di chilometri di ferrovie oggi anche soltanto per stare al passo della demografia e con le tecnologie nuove dico io quanti chilometri già adesso di treno maglev a limitazione magnetica dovremmo avere che livello di capillarità dovremmo avere attualmente per anche appunto venire incontro a queste esigenze perché se vogliamo sviluppare il sud l'abbiamo l'hanno detto tanti altri insomma prima di me bisogna che i porti siano abbastanza equilibrati siano collegati da da mezzi di trasporto che sono che sono veloci insomma quindi è chiaro che o noi ci agganciamo come idea alla novia della seta e ne approfittiamo per avere una consapevole esplosione di progetti di considerazioni su tanti fronti oppure rimaniamo in questa dinamica che secondo me non è altro che di declino e beh insomma non saprei perché dopo magari si sviluppano troppo in lunghezza si è parlato del fatto che i cinesi in Cina hanno sono accaparati risorse naturali beh su questo vi inviterai ad andare a vedere la conferenza di novembre che lo Schiller Institute ha fatto a Bad Zoden in Germania vicino a Francoforte dove si è dimostrato che ancora adesso invece le risorse naturali sono in mano a un cartello di società europee in particolare del nord Europa e quindi veramente la Cina anche in Africa ha fatto quello che avremmo potuto fare noi in una dimensione postcoloniale cioè aiutare nello sviluppo anche in cani di risorse ma senza senza limitarsi al saccheggio insomma ecco quello che quello che vorrei ecco concludendo potrei dire questo la nuova via della seta è il nome che che il governo cinese ha deciso di dare quello che chiama anche Belt and Road o Belt One Road insomma sono varie espressioni io l'ho visto chiamare prima per resto euroasiatico da appunto il movimento che segue di cui faccio parte da una ventina d'anni che è appunto questo di Lyndon LaRouche che come progetto fu proposto proprio nei primi anni 90 in risposta alla crisi al crollo dell'Unione Sovietica cioè all'epoca il nostro movimento disse dobbiamo assolutamente tenere in piedi due pilastri fondamentali del sistema sovietico che sono l'industria naturalmente che da bellica deve diventare soprattutto civile e il sistema educativo che aveva i suoi risultari le sue tinte ideologiche ma che insomma era ammirato a livello mondiale e per farlo dobbiamo appunto impegnare l'Europa e i paesi dell'ex Comic Con in un grande progetto di costruzione di infrastrutture allora all'inizio si chiamava Triangolo Parigi Berlino Vienna poi fu chiamato Ponte Terrestre Brasiatico e anche Nuova Via della Seta ed ecco quindi vediamo che il dialogo tra Occidente e Oriente c'è già stato a molti livelli il nostro movimento ha organizzato diversi viaggi in Cina e in Russia insomma negli anni in questi anni per trovare basi di dialogo sempre più più importanti in cui emercesse una visione dell'economia reale molto chiara del concetto di credito produttivo eccetera e quindi ecco devo dire il lavoro che il nostro movimento ha fatto eccolo è qui davanti a noi si tratta semplicemente insomma di di coglierlo nelle sue caratteristiche reali e cercare anche di non cadere dentro alla trappola che alcune alcuni gruppi alcune fazioni in occidente invece stanno tendendo per impedire questa integrazione ci mettono dubbi che non sono fondati e ci diciamo sabotano questo progetto ecco in conclusione si può dire questo che la presidenza di Trump che è tanto criticata ha proprio dato fastidio all'establishment che è rimasto sorpreso dalla sua elezione proprio perché finora nelle contraddizioni e anche davanti a certi reportage che la stampa occidentale ha dato ha tenuto ancora fede a questa idea che con la Cina si deve parlare con la Russia si deve parlare ricordo per inciso che era Putin che ricordava Bush chi era Roosevelt non so se vi c'è che vi ha dato di notarlo all'epoca che diceva che servivano relazioni emiltoniane e 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 al momento quello che il nostro momento sta facendo che è forse difficile da capire negli Stati Uniti è proprio la difesa della presidenza di Trump perché Trump aveva anche promesso la separazione bancaria aveva promesso l'emissione di credito pubblico alla maniera di Hamilton e quindi in sostanza quasi completamente quel pacchetto di quattro leggi che la Russia propose nel 2014 per per il presidente qualunque fosse stato in futuro per la ripresa economica e degli Stati Uniti e del mondo intero queste quattro leggi che sono appunto l'ho detto prima la separazione bancaria l'emissione di credito produttivo e e la grandi investimenti sulle infrastrutture e quarto punto il rilancio della ricerca spaziale e della ricerca sulla fusione nucleare due di altri volendo ma le due principali sono queste perché sono i veri moltiplicatori della ricchezza quindi diventa molto importante riuscire a leggere quello che sta accadendo oggi in modo molto smaliziato privi da da tendenze ideologiche e cercare di capire concretamente che cosa la Cina offra che cosa la Russia voglia offrire fuori da fuori dai condizionamenti della geopolitica che ha già fatto molti danni due guerre mondiali forse sono bastate ecco io vi ringrazio insomma un pochino tutti stanchi però abbiamo ancora due minuti tre minuti per una o due domande anche perché questi convegni devono anche come dire sollecitare il pubblico proprio sono due quelle che ci possiamo consentire e poi casomai riprenderemo più avanti quindi qualcuno che dovrà tornare necessariamente da queste parti prego volevo fare una domanda forse banale visto che la società stretta di Messina è stato di comunicazione qual è il futuro dell'eventuale realizzazione che ci sono delle ponte posso Alberto io forse forse Giuseppino puoi curare con un'indicazione se è un'indicazione posso fare posso provare questo è un disminazzo ci sono oggi si parla dell'ottimismo di pessimismo tra l'altro abbiamo una presentazione di ferrovie quindi le ferrovie in questo momento le trattano assorbito anche Anna si sta gestendo il contenzioso forse lei potrebbe dirci qualcosa se ne è a corrente visto che c'è un contenzioso di qualche centinaio di milioni da parte del contraente generale da parte del PNC nel confronti di stretto di Messina di cui ferrovie azionista insieme a Anna è del 70% quindi se ecco allora interpretiamo insomma c'è una visione ottimistica e una visione pessimistica la visione pessimistica è che va davanti il giudizio e qui si avranno anche qui due strade l'una speriamo decente per il nostro paese che il contraente generale perda la causa e quindi in qualche modo tutto sommato abbiamo perso il ponte però abbiamo perso i soldi è stato per legge è stato assolutamente sì sì ma non so strattina se dunque il governo Monti ha fatto una legge per legge ha cancellato la concessione tra il ministero delle infrastrutture e il ministero e il restritto di Messina concessionaria quindi con una legge è saltato 350 milioni di investimenti perché tanto è stato investito da parte della società del restritto di Messina e quindi parte anche dai festeggi e le razioniste da ANAS che sono andati persi quindi da società poi con un'altra legge hanno nominato un liquidatore che è stato nominato nel marzo del 2013 con una legge che prevedeva l'ho detto stamattina un anno per concludere la liquidazione solo passati 5 anni il liquidatore è ancora lì e tutto il paese è in attesa di una risposta quindi diciamo se vogliamo concludere il ragionamento se la propria missione pessimistica è che invece si perda la causa quindi il paese si ritroverebbe con 350 milioni di investimento per tutti che sono i costi sostenuti non è un costo è un investimento sostenuto da un investimento perché ho project financing per farla a breve come se lei avesse una concessione per farla a Bergo e recuperare l'investimento attraverso 30 anni di affitti le fanno scavare la buca e poi per legge le dicono non lo può più fare e poi le dicono anche ma guarda brutto scema hai fatto sta buca adesso che schifo sto paese ecco questa è la situazione stretta ho parlato di cannitello per esempio stamattina poi c'è una visione ottimistica che non riesco a immaginare in cui durante questo condizioso si trovi quelli che si chiamano accordi estrogiudiziali ma questa la trovo veramente molto complicata e che se c'è una puntata politica però io oggi ho sentito da F.S. parlare del nord d'Italia ma neanche una parola sul sud che mi ha lasciato un po' perplesso devo essere sincero perché io capisco che lei è Cristina però il problema di questo paese credo che sia soprattutto il sud il nord è abbastanza ricco e sta crescendo il sud se lei qualche volta immagino che ci andrà io ci sono stato spesso lo vedo e fa parte di questo paese credo in una fase di una decerenza così violenta che dovrebbe far male a tutti i cittadini specialmente chi ha responsabilità non so immaginare come possiamo vedere una visione io per esempio in questa fase non ho visto nessuno che non dico a 20 anni o 50 anni ma neanche a 5 anni ha detto cosa farà del sud io non so se l'alta velocità arriverà mai giù verso il sud io una volta ho preso un treno insieme all'amico Giovanni per venire da Messina a Roma sono alzato alle 6 e mezzo di mattina e sono arrivato a Roma alle 3 e mezzo del pomeriggio dello stesso giorno perché sono stato fortunato perché il traghetto funzionava correndo con il mio carrello come disperato insieme a altre 50 persone per paura di perdere il treno c'è una condizione che non si vede neanche in Africa noi parliamo dell'Africa ma ci sono alcune condizioni al sud che sono peggio che l'Africa mi domando poi i messinesi non si ribellano a questo quindi in questa situazione quegli investimenti potrebbero andare tutti persi sicuramente quelli di strutture di Messina e forse se perdiamo il contenzioso anche quelli dei danni questo è il quadro ma anche se si vincesse la causa se si volesse fare il ponte secondo me prima di ripartire ci vuole qualche anno perché è un processo molto 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 complicato ma non che ci vuole anche se ci fosse una volontà prima di qualche anno non si vorrebbe fare nulla perché bisogna di un certo e poi qualcuno so che sta ristudiando il ponte non ho capito ancora se lo vogliono modificare anche io vuol dire non volevo fare sì perché c'è anche questo da dire che di fronte a un progetto che sostanzialmente era approvato e che non ha buchi tecnici nonostante quello che si dica e si vuole dire ogni verifica in questo momento significa di partire da zero assolutamente e dopo di che stiamo facendo degli studi nessuno sa esattamente quali sono che sono i soggetti sì abbiamo qualche rumor ma non è che nei corridoi di qualche ministero si risolva il problema quindi probabilmente è una patata che nessuno vuole risolvere veramente oppure politicamente ritengono che non vengono la pena di occuparsene perché li fa perdere voti peraltro nessuno ha fatto mai un sondaggio vero in Sicilia se è vero che i siciliani sono in maggioranza favorevoli come io credo perché chi dice di sì normalmente non urla sono quelli che dicono di no che urlano e quindi amplificano magari sono un 5% e fanno finta di essere il 60% che non è vero recentemente ho fatto un sondaggetto al volo mi diceva proprio Giovanni Mollica che dava invece un'indicazione molto precisa 65% favorevoli e 35% non favorevoli comunque oggi quello che fa male è che io ho fatto una battuta qualche tempo fa oggi come oggi costerà più non farlo che farlo perché alla fine anche con quello che abbiamo sentito oggi i costi diciamo del denaro sono quasi azzerati e se noi non considerassimo tutti i benefici economici che Messina ha imposto per dare l'occheio al ponte che sono centinaia di milioni di euro vabbè ragazzi insomma i numeri in gioco sono poi questa cosa pazzesca per cui il monitoraggio ambientale che era una cosa meravigliosa era stato preso in carico da nessuno e sono buttati altri decine di milioni di euro cioè uno dice ma in che paese siamo ecco vabbè e se posso posso soltanto due cose volevo dire perché è un argomento che ho vissuto per 10 anni lo sai non è soltanto il costo il costo è un elemento il costo diciamo i soldi spesi è un elemento importante noi abbiamo perso 12 anni in questi 12 anni è stato raddoppiato Panama è stato raddoppiato Suez i turchi hanno fatto il quarto ponte sul Bosporo la Danimarca sta facendo il quarto ponte per collegarsi fra di noi ma quanto questo danno quanto può essere valorizzato abbiamo fatto scappare le 10 più grandi imprese del mondo che erano lì ma la nostra credibilità nell'attrarre capitali esteri dove è andata a finire i cinesi io l'ho incontrato tante volte le 13 ma io l'ho incontrato i cinesi erano pronti a venire a investire sul ponte c'è già un protocollo l'ho firmato io insieme ai rappresentanti cinesi un protocollo d'intese in cui hanno detto chiamateci quando volete e non so stare perché era un'interessatissima non al ponte all'Ave alla Sicilia al loro ruolo sono figli del Pireo che non esisteva quando noi abbiamo cominciato a pensare il ponte è nato Porto Sait gli egiziari dicono facciamo il trasciment per legge a Gioia Tauro ma come pensiamo che il Sud possa rilanciarci con una legge che impone il Sud a fare lo trasciment in concorrenza con Porto Sait con l'Algeria ma questa è la visione dei prossimi due anni cinque anni ma può essere questo e perché l'unica cosa poi non parlo più perché se no non mi inviterà mai più nessuno è che non si ribella il Sud se qui c'è qualche messinese ma cosa aspetta o qualche palerimitano cosa aspetta se lei parla di Trieste una zona già ricchissima che c'è un pin del 50% più alto dell'Italia e ci sono i finanziamenti a Trieste e i messinesi stanno Porto Franco cioè ma voglio dire ma veramente questo è un paese in cui è diviso in due ma è giustissimo che ci siano perché nel vuoto qualcuno se ne approbria ma non è che c'è un paese ma non è che ci sono questi finanziamenti specifici cioè là effettivamente per poter rilanciare il corpo c'è la bisogno di finanziare questo ma io la capisco scusi ma la capisco ma lì c'è Gioia Tauro ci sono i porti siciliani che hanno potenzialità ma nessuno ne parla queste però sono scelte queste sono scelte del ministero ma lo capisco ma io di qua prima ce l'ho con lei no ma lo so ma come immaginare lei mi ha dato una notizia che mi ha creato questa capacità di dialogare io ero tranquillo stanotte sarò con gli occhi sparorditi cioè lei è questo che servono i convegni perché lei è stata portatrice di una notizia che il ministero ha deciso che se c'era un punto di finanziare doveva essere Trieste non Gioia Tauro ma le sembra una cosa marginale per chi come noi o per chi vive al sud è una cosa del genere una notizia di questo tipo è chiaro che è un elemento devastante per chi già soffre che vede i figli partire il valore immobiliare di Messina è praticamente ridotto a zero il costo delle case di Messina vale meno del costo di costruzione ma queste cose qui credo che dovrebbero essere un problema nazionale a parte i messinesi l'ho detto non capisco perché non si ribellino mi perdoni ma ha ragione perfettamente nessuno voleva però volevo però dire magari che in questi ultimi anni mentre magari definitivamente la situazione è quella che le descrive però in questi ultimi anni qualcosa è stato fatto nel senso che non so se lei ha visto ma a Napoli a Fragola la stazione è magnifica ma quella si è dire porta del sole che ne è chiamata no? effettivamente ci sono stati anche grossi con la stazione come la del mondo secondo me non so se l'ha vista la verità ha fatto ora dunque c'è stato questo poi ci sono comunque degli investimenti che stanno andando avanti proprio nei collegamenti anche in Napoli valida perché no? sempre anche sul progetto della velocità che le potenziamenti stranodiali anche andando verso il successo tutti vanno per questi voti sul governo e anche per l'ultimo diciamo hanno cercato di dare qualcosa più da questo mio punto di vista però io appunto non parlo proprio di nessuno non è perché invece il governo del governo di Sistema è anche una delle progetti quindi sono quelli che io le chiedo scusa per la passione puoi vedere allora prendiamo queste sue ultime considerazioni personale naturalmente perché tutti qui parliamo a titolo personale come una buona speranza per il sud mettiamola così che i prossimi investimenti saranno verso il sud in qualche modo perché io per questo adesso lei ha scottuto un capito quindi conosce sicuramente le cose più di me Ferrovia ha un ruolo straordinario in questa vicenda Ferrovia azionista distretto di Messina da 25 anni l'avevo tratto a scendere quindi conosco bene quindi voglio dire c'ha un ruolo per lo sviluppo del sud straordinario e tutti speriamo tutti speriamo che questo ruolo tenga conto dei bisogni del sud e solo questo ecco poi anzi la ringrazio ancora perché ci ha dato delle informazioni che hanno reso come dire questo dipatio qualche momento interessante oggi o no mi devo fermare Giovanni che sicuramente da Messinese posso dire una cosa scusa Alberto però io fra 5 minuti devo chiudere non siamo molto invitati voglio dire non è vero che i messinesi non protesi perché i partiti del governo pideranno una trambata tale che neanche se immaginano oggi e se la meritano dubbi quindi la reazione invece di fare le barricate o bruciare la prefettura come votava una volta sarà quella della democrazia del voto di cui parlava voi al momento di votare voteranno o 5 stelle per protesta o centro-destra per andare contro il partito e il governo perderà meglio di lui beh non mi dispiace perché volevo intervenire perché stamattina mi dispiace che non c'era un ingegnere stamattina che la ringrazio per la sua che ha detto delle cose condivisibili ma che danno la misura del perché fondamentalmente involontariamente il ponte non si fa o non si è fatto perché c'è una scelta precisa di sviluppo se facevano il ponte se ne appartaggiava anche Trieste non solo non era contrasto però adesso io stamattina ho fatto vedere un'immagine dove si vede che dal Boscolo e da Istanbul partono in 4 minuti circa il collegamento Asia e Europa trova nel porto di Trieste fatto portofranco per questo quindi che non porta nessun beneficio all'Italia perché i dazi non si pagano non ha gli spazi per il deposito e il portofranco prevede che il deposito a tempo indeterminato tu le puoi lasciare 10 anni le merci non paghi nulla lo stazionamento almeno facessero questo e entrerebbe qualche cosa e né possiamo immaginare che da Trieste escano per fare la via contraria verso il mercato della Cina nuovi prodotti servono solo per invadere ed entrare tramite il corridoio 2 in Europa vai passando l'Italia e tutti i porti questo l'ho fatto vedere e questa l'Italia è tagliata fuori una infrastruttura ferroviaria ad alta capacità che parte da Palermo e arriva a Berlino una nave che scarica a Gioia Tau che viene infrastrutturata e interconnessa all'alta velocità porta le merci in 4 ore a Berlino non c'è bisogno che passano 10 giorni tra l'altro il fondare le caratteristiche dell'Adriatico non consentono il passaggio delle grandi nari o almeno non è la misura in cui il traffico è previsto abbiamo 700 offshore che tirano petrolio che impediscono questo traffico cioè voglio dire è una scelta miope ed era la scelta che il nostro presidente del consiglio che io stimo attuale ha sottoscritto perché costretto perché era l'unica chance che ha avuto quando è andato adesso a Dubai gli hanno dato l'unica chance per entrare con qualche diciamo vantaggio economico che poi è un vantaggio effimero perché il portofranco di fatto non porta nulla non porta beneficio nell'entroterra non crescono strutture produttive che in qualche modo superano quella che è le impasse che hanno invece il sud come poteva un'entroterra cioè un'entroterra arido aperto dove potevano nascere la prima e la produzione dei cavi del ponte che sarebbero state mandate tutte il ponte comunque volevo chiarire che la carità è stato uno spunto e la ringrazio ancora per la io ringrazio tutti anche per la pazienza certamente abbiamo avuto bisogno di un momento di più margine naturalmente per fare questa discussione per chi sta in circolazione qui ci riprovediamo di fare qualcos'altro sul tema per esempio oggi è stato appena appena accennato il ruolo della Turchia io credo che dal punto di vista geopolitico un ragionamento sarebbe interessante farlo noi abbiamo anche queste competenze poi mi ripromettevo così l'ho lanciato forse stamattina non so se l'ho detto noi abbiamo chiesto la cattedra UNESCO con la titolazione Mediterranean Bridging mi piacerebbe fare un conveniente in cui perché una cattedra UNESCO a Ecampus varrebbe la pena perché si chiama il tema sempre sul Mediterraneo io penso che del Mediterraneo dovremmo occuparci di più abbiamo appena accennato la visione degli migranti io credo che l'accademia italiana sia latitante non possiamo lasciare che la soluzione sia di tipo politico con questo tipo di politici cioè noi dovremmo impegnarci proprio come accademia come docenti a fare delle riflessioni di questo tipo perché poi non sono arrestabili in questo modo non è con fronte che se neanche con mare nostro che possiamo risolvere il problema il problema di lavoro di ricollocazione di cittadinanza abbiamo già fatto un paio di conveni sulle donne di diritti umani insomma è un tema e certo oggi volevo veramente assieme con tutto Alberto che ha fatto questa cosa insieme ma anche mi sembra perché non fanno così proprio per capire esattamente il mondo di Messina e su questo abbiamo costruito la giornata di oggi ecco mi dispiace dover chiudere ma abbiamo come le esigenze di carattere fisico questa è una struttura privata e come tale è tutto calibrato grazie